Avvertenza alla raccolta novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Filippo Joachim. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Avvertenza. Raccolgo in un sol corpo tutte le novelle pubblicate finora, in parecchi volumi, e tant'altre ancora inedite, sotto il titolo Novelle per un anno, che può sembrare modesto e, al contrario, è forse troppo ambizioso se si pensa che per antica tradizione, dalle notti o dalle giornate, si intitolano spesso altre raccolte del genere, alcune delle quali famosissime. Secondo l'intenzione che mi ha suggerito questo titolo, avrei desiderato che tutt'intera la raccolta fosse contenuta in un volume solo, di quei monumentali che da gran tempo ormai per opere di letteratura non usano più. L'editore, e chi legge ne intenderà facilmente le ragioni, non ha voluto seguirmi in questo desiderio, e mi ha anzi consigliato di dividere la raccolta non in dodici volumi, di trenta e più novelle ciascuno, come almeno m'ero rassegnato a chiedergli, ma in ventiquattro, il che potrebbe suggerire, a chi ne avesse voglia, qualche non inutile considerazione sull'indole e la necessità del tempo nostro. Ma fretto ad avvertire che le novelle di questi ventiquattro volumi non vogliono essere singolarmente né delle stagioni, né dei mesi, né di ciascun giorno dell'anno. Una novella al giorno, per tutto un anno, senza che dai giorni, dai mesi o dalle stagioni nessuna abbia tratto la sua qualità. Ogni volume ne conterrà non poche nuove, e di quelle già edite, alcune sono state rifatte da cima a fondo, altre rifuse e ritoccate qua e là, e tutte insomma rielaborate con lunga e amorosa cura. In grazia almeno di questa cura, l'autore delle novelle per un anno spera che i lettori vorranno usargli venia, se dalla concezione che egli ebbe del mondo e della vita troppo amarezza e scarsa gioia avranno, e vedranno, in questi tanti piccoli specchi che la riflettono intera. Luigi Pirandello Fine dell'avvertenza Registrazione di Filippo Joachim In silenzio, dalla sesta raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Silvia di Simone Novelle per un anno di Luigi Pirandello In silenzio Waterloo, Waterloo, santo Dio! Si pronuncia Waterloo! Sì signore, dopo Sant'Elena Dopo? Ma che dice? Come c'entra Sant'Elena adesso? Ah già, l'Isola d'Elba! Ma no, lasci l'Isola d'Elba, caro Brei. Crede che una lezione di storia si possa improvvisare? E dunque, segga! Cesarino Brei, pallido, timido, si dette. E il professore seguitò a guardarlo per un pezzo, contrariato se non proprio stizzito. Quel ragazzo, della cui indirigenza e buona volontà nello studio si era tanto lodato nei due primi anni di liceo, ora, cioè da quando aveva indossato l'uniforme di convittore del Collegio Nazionale, pur restando attento attentissimo alle lezioni da quel bravo alunno che era, eccolo là, neanche le vere ragioni per cui Napoleone e Bonaparte era stato sconfitto a Waterloo sapeva più penetrare. Che gli era accaduto? Non se ne sapeva rendere conto nemmeno lo stesso Cesarino. Stava ore e ore a studiare, o per dir meglio, quei libri aperti sotto le grosse lenti da miope. Ma non poteva più fermare l'attenzione su di essi, sorpreso e frastornato da pensieri nuovi e confusi. E questo non soltanto da che era entrato in collegio, come i professori credevano, ma da qualche tempo prima. Anzi, Cesarino avrebbe potuto dire che a causa di questi pensieri appunto e di certe strane impressioni si era lasciato indurre dalla madre a entrare in collegio. La madre, che lo chiamava Cesare e non Cesarino, senza guardarlo negli occhi, gli aveva detto «Tu hai bisogno, Cesare, di cambiare vita! Bisogno di un po' di compagnieri giovani della tua età! Ed un po' d'ordine e di regola, non solo nello studio, ma anche nello svago! Ho pensato, se non ti dispiace, di farti passare quest'ultimo anno di liceo in collegio. Vuoi?» Si era affrettato a rispondere di sì, senza pensarci su due volte. Tanto turbamento la vista della madre gli cagionava da alcuni mesi. Figlio unico non aveva conosciuto il padre, il quale doveva essere morto giovanissimo, se la madre si poteva ancora dir giovane. 37 anni. Lui già ne aveva 18, cioè proprio l'età che aveva la madre quando aveva sposato. I conti tornavano, ma veramente l'essere sua madre ancora giovane e l'aver sposato a 18 anni non voleva poi dire che per conseguenza il padre doveva essere morto giovanissimo, perché la madre poteva avere sposato uno maggiore d'età di lei, e forse anche un vecchio, eh? Ma Cesarino aveva poca fantasia. Non si immaginava né questa né tant'altre cose. In casa del resto non c'era alcun ritratto del babbo, né alcuna traccia che gli fosse mai esistito. La madre non gliene aveva mai parlato, né a lui era mai venuta curiosità d'averne qualche notizia. Sapeva soltanto che si chiamava Cesare come lui, e basta. Lo sapeva perché negli attestati di scuola c'era scritto A Milano, sì, ma non sapeva nulla neanche della sua città natale, o per dir meglio, sapeva che a Milano c'era il Duomo, e basta. Il Duomo, la galleria Vittorio Emanuele, il panettone, e basta. La madre, anch'essa milanese, era venuta a stabilirsi a Roma subito dopo la morte del marito e la nascita di lui. Quasi quasi a pensarci, Cesarino poteva dire di non conoscer bene neppure la madre. Non la vedeva quasi mai durante il giorno. Dalla mattina fino alle due del pomeriggio, ella stava alla scuola professionale, dove insegnava disegno e ricamo. Andava poi in giro fino alle sei, fino alle sette, talvolta fino alle otto di sera, per impartire lezioni particolari anche di lingua francese e di pianoforte. Rincasava stanca alla sera. Ma, pure in casa, in quel po' di tempo prima di cena, altre fatiche, certe cure domestiche a cui la serva non avrebbe potuto attendere, e subito dopo cena, la correzione dei lavori delle scolarette private. Mobili più che decenti, tutte le comodità, guardaroba ben fornito, dispensa abbondantemente provvista, eh sì, sfido, con tutto questo gran lavoro della mammina infaticabile, ma che tristezza anche, e che silenzio in quella casa. Cesarino, ripensandoci dal collegio, se ne sentiva ancora stringere il cuore. Quando era là, appena ritornato dalla scuola, desinava solo, svogliato, nella saletta da pranzo, ricca ma quasi buia, con un libro aperto davanti appoggiato alla bottiglia dell'acqua sul riquadro bianco del tovagliolo apparecchiato lì per lì, sulla tavola antica di noce. Poi si chiudeva in camera a studiare, e infine, la sera, quando lo chiamavano a cena, usciva tutto raffagottato, intorpidito, rannuvolato, con gli occhi strizzati, dietro le lenti da miope. Madre e figlio, cenando, scambiavano tra loro poche parole. Ella gli domandava qualche notizia della scuola, come avesse passato la giornata. Spesso lo rimproverava del modo di vita che teneva, così poco giovanile, e voleva che si scotesse. Lo incitava a muoversi un po', di giorno, all'aperto, a essere più vivace, più uomo, via. Lo studio sì, ma anche qualche svago ci voleva. Soffriva, ecco, a vederlo così uggito, pallido, disappetente. Egli le dava brevi risposte. Sì, no. Prometteva con freddezza e aspettava con impazienza la fine della cena per andarsene a letto, presto presto, poiché era solito di levarsi per tempo la mattina. Cresciuto sempre solo, non aveva nessuna domestichezza con la madre. La vedeva, la sentiva molto diversa da sé, così alacre, energica e disinvolta. Forse egli somigliava al padre. Il vuoto lasciato dal padre da tanto tempo stava tra lui e la madre e s'era sempre più ingrandito con gli anni. Sua madre, anche lì presente, gli appariva sempre come lontana. Ora, questa impressione era cresciuta fino a cagionargli uno stranissimo imbarazzo, allorché molto tardi, veramente, ma Cesarino, si sa, aveva poca fantasia, per una conversazione tra due compagni di scuola, le prime infantili finzioni dell'anima gli erano cadute, scoprendogli improvvisamente certi vergognosi segreti della vita finora insospettati. Allora la madre gli era come balsata ancor più lontana. Negli ultimi giorni passati a casa aveva notato che ella, nonostante il gran lavoro a cui attendeva senza requie dalla mattina alla sera, si conservava bella, molto bella e florida, e che di questa bellezza aveva gran cura. Si acconciava i capelli con lungo e amoroso studio ogni mattina, vestiva con signorine semplicità, con un comune eleganza, e s'era sentito quasi offeso fin anche dal profumo che l'aveva addosso, non mai prima avvertito così da lui. Per togliersi appunto da questa curiosa disposizione d'animo verso la madre aveva subito accolto la proposta ad entrare in collegio. Ma se n'era l'accorta? O da che era stata spinta a fargli quella proposta? Cesarino ora ci ripensava. Era stato sempre buono e studioso, fin da piccino. Aveva fatto sempre il suo dovere senza la sorveglianza di alcuno. Era un po' gracile, sì, ma stava pur bene in salute. Le ragioni addotte dalla madre non lo persuadevano, punto. Lottava intanto contro se stesso per non accogliere certi pensieri di cui sentiva poi onta e rimorso. Tanto più che ora sapeva ammalata la mamma. Da più mesi ella non veniva a visitarlo le domeniche al collegio. Le ultime volte che era venuta si era lamentata di non star bene. E di fatti a Cesarino non era sembrata florida come prima. Aveva anzi notato una trascuratezza insolita nell'acconciatura di lei che le aveva fatto sentire più acuto il rimorso dei pensieri cattivi suggeriti dalla soverchia cura che la prima vi poneva. Dalle letterine che di tanto in tanto la madre gli inviava per domandargli se avesse bisogno di qualche cosa, Cesarino sapeva che il medico gli aveva ordinato di stare in riposo perché si era troppo e per troppo tempo affaticata e proibito di uscire assicurando tuttavia che non c'era nulla di grave e che seguendo scrupolosamente le prescrizioni sarebbe senza dubbio guarita. Ma l'infermità si protraeva e Cesarino già stava in pensiero e non gli pareva l'ora che l'anno scolastico terminasse. Naturalmente in tali condizioni di spirito le vere ragioni scogitate dal professore di storia per cui Napoleone Bonaparte era stato sconfitto a Waterloo per quanti sforzi facesse non riusciva a penetrarle bene. Quel giorno stesso appena rientrato in collegio Cesarino fu chiamato dal direttore. Si aspettava qualche grave riprensione per lo scarso profitto ricavato da quell'anno di studio ma trovò invece il direttore molto benigno e amorevole e anche un po' atturbato all'aria. Caro Bray gli disse posandogli insolitamente una mano sulla spalla lei sa che la sua mamma sta peggio lo interruppe subito Cesarino levando gli occhi a guardarlo quasi con terrore e il berretto gli cadde di mano. Pare figliuolo mio sì bisogna che lei vada subito a casa. Cesarino rimase a guardarlo con una domanda negli occhi supplichevoli che le labbra non ardivano di proferire. Io non so bene disse il direttore comprendendo quella domanda muta è venuta una donna poco fa da casa a chiamarla coraggio figliuolo mio vada lascerò il custode a sua disposizione. Cesarino uscì dalla sala della direzione con la mente scombugliata non sapeva più quel che dovesse fare di dove prendere per correre a casa dove era il custode e il berretto dove aveva lasciato il berretto. Il direttore glielo porse e ingiunse al custode di rimanere a disposizione del giovane anche per tutta la giornata si occorreva. Cesarino corse in via finanze ov'era la casa pochi passi prima di giungervi vide il portone socchiuso e sentì mancarsi le gambe. Coraggio gli ripetè il custode che sapeva tutta la casa era sossopra come se la morte vi fosse entrata di violenza. Precipitandosi dentro Cesarino cacciò subito lo sguardo nella camera della madre in fondo e la intravide là sul letto lunga fu questa nello stordimento la prima impressione strana di meraviglia lunga oddio come se la morte l'avesse stirata a forza rigida pallida più della cera e già livida nelle occhiaie ai lati del naso irriconoscibile come come balbettò più incuriosito quasi sulle prime che atterrito da quella vista stringendosi nelle spalle e protendendo il collo a guardare come fanno i miopi quasi in risposta venne dall'altra stanza e infrangere orribilmente quel silenzio di morte uno strillo infantile roco Cesarino si voltò di scatto quasi quello strillo gli fosse arrivato come una rasoiata alla schiena e tremando in tutto il corpo guardò la serva che piangeva in silenzio inginocchiata presso il letto un bimbo di là gli accennò quella suo domandò più col fiato che con la voce allibito la serva accennò di sì col capo si voltò di nuovo verso la madre non poté sostenerne la vista sconvolto dall'improvvisa atroce rivelazione che lo istupidiva e gli strappava ora il cordoglio violentemente si nascose gli occhi con le mani mentre su dalle viscere sospese gli saliva come un urlo che la gola strozzata dall'angoscia non lasciava passare di parto dunque morta di parto ma come dunque per questo e subito gli balenò il sospetto che di là d'ond'era venuto quel pianto infantile ci fosse qualcuno e si voltò a guatare la serva odiosamente chi chi non poté dire altro con la mano che gli ballava voleva reggersi le lenti che gli scivolavano dal naso per le lacrime che intanto inavvertitamente gli sgorgavano dagli occhi venga venga gli disse la serva no dimmi insistette ma finalmente si accorse che nella camera attorno al letto c'era altra gente che gli non conosceva e che lo guardava con pietoso stupore tacque e si lasciò condurre dalla serva nella stanzetta che aveva occupato prima di entrare in collegio c'era di là la levatrice soltanto che aveva da poco tratto dal bagno il neonato ancora gonfio e paunazzo cesarino lo guardò con ribrezzo e si volse di nuovo alla serva nessuno disse quasi questo bambino oh signorino mio esclamò la serva aggiungendo le mani che posso dirle non so nulla io dicevo appunto questo alla levatrice qua non so proprio nulla qua non è mai venuto nessuno questo glielo posso giurare non ti disse mai nulla non mi confidò mai nulla e io certo non potevo domandarle piangeva sa oh tanto di nascosto non usci più di casa da che cominciò a parere lei mi intende cesarino raccapricciato alzò le mani per accennare alla serva di tacere per quanto nel vuoto orrendo in cui quella morte improvvisa lo gettava sentisse per potente il bisogno di sapere non volle l'onta era troppa e sua madre n'era morta ed era ancora di là si permette le mani sul volto accostandosi alla finestra per fare da solo nel buio della mente le sue supposizioni non ricordava di aver veduto neanche lui finché era stato in casa nessun uomo mai che potesse dargli sospetto ma fuori sua madre era vissuta così poco in casa e che sapeva lui della vita che l'aveva condotto fuori che cosa fosse sua madre oltre il cerchio ristrettissimo delle relazioni che aveva avuto prima con lui lì le sere a cena tutta una vita a cui egli era rimasto sempre stranio si era messa con qualcuno certo con chi piangeva dunque costui l'aveva abbandonata non volendo o non potendo sposarla ed ecco perché ella lo aveva chiuso in collegio per sottrarsi e sottrarlo a una vergogna inevitabile ma dopo egli sarebbe pure uscito dal collegio nel prossimo luglio e allora intendeva ella forse di cancellare ogni traccia della colpa schiuse le mani per guardare di nuovo il bimbo ecco l'allevatrice lo aveva fasciato e messo a giacere sul lettino in cui egli dormiva quando era in casa quella cuffietta quella camicina quel bavaglino ma no ecco ella intendeva tenerselo il bimbo lo aveva preparato lei certo quel corredino e dunque uscendo dal collegio egli avrebbe trovato in casa quella nuova creaturina e che gli avrebbe detto allora la madre ecco ecco perché era morta chissà quale tremenda tortura segreta in quei mesi ah vile vile quell'uomo che gli aveva inflitta abbandonandola dopo averla svergognata ed ella si era rintanata in casa a celare il suo stato e forse aveva perduto il posto di insegnante alla scuola professionale con quali mezzi aveva vissuto in quei mesi certo coi risparmi accumulati in tanti anni di lavoro ma adesso cesarino sentì di improvviso il vuoto sparrancarglisi più nero e più vasto d'attorno si vide solo solo nella vita senza aiuto senza alcun parente né prossimo né lontano solo con quella creaturina lì che aveva ucciso la mamma venendo al mondo ed era rimasta anche lei così nello stesso vuoto abbandonata alla stessa sorte senza padre come lui come lui eh sì forse anche lui come non ci aveva mai pensato prima forse anche lui era nato così che sapeva di suo padre chi era stato quel cesare brei brei ma non era questo il cognome della madre sì enrica brei così ella si firmava e tutti la conoscevano come la maestra brei se fosse stata vedova venuta a roma entrata nell'insegnamento non avrebbe ripreso il suo cognome magari facendolo seguire da quello del marito ma no brei era il cognome della madre ed egli dunque portava soltanto il cognome di lei e quel fu cesare di cui non sapeva nulla di cui non era rimasta in casa alcuna traccia forse non era mai esistito cesare forse sì ma non brei chissà qual era veramente il cognome di suo padre come non ci aveva mai pensato finora a queste cose senta povero signorino gli disse la serva la levatrice qui vorrebbe dirle questa creaturina già interrompe la levatrice ha bisogno del latte ora questa creatura chi glielo darà cesarino la guardò smarrito ecco riprese la levatrice io dicevo che essendo nato così e perché la mamma poverina non c'è più e lei è un povero ragazzo che non potrebbe badare a questo innocente dicevo portarlo via domandò cesarino accigliandosi ma perché guardi seguito quella io dovrei denunziarlo allo stato civile bisogna che sappia quel che lei vuol fare sì disse cesarino smarrendosi di nuovo sì aspettate voglio voglio prima vedere e si guardò attorno come se cercasse qualcosa la serva gli venne in aiuto le chiavi gli domandò piano che chiavi fece egli che non pensava a nulla vuole il mazzetto di chiavi per vedere non so guardi sono di là sulla specchiera in camera della mamma cesarino si mosse per andare ma si arrestò subito al pensiero di rivedere la madre ora che sapeva la serva che si era messa a seguirlo aggiunse più piano bisognerebbe signorino mio provvedere a tante cose lo so lei si trova sperduto così solo povera anima innocente è venuto il medico sono corsa in farmacia ho preso tanta roba questo sarebbe nulla ma c'è da pensare ora anche alla povera mamma come si fa vede un po' lei cesarino andò per prendere le chiavi rivide estesa lunga e rigida sul letto la madre e come attratto dalla vista le si appressò ah mute mute ora per sempre quelle labbra da cui tante cose egli avrebbe voluto sapere se l'era portato via con sé nel silenzio orribile della morte il mistero di quel bimbo di là e l'altro della nascita di lui ma forse cercando frugando dove erano le chiavi le prese dalla specchiera e seguì la serva nello studiolo della madre ecco veda là in quello stipetto vi trovò poco più di cento lire che erano forse il residuo dei risparmi nient'altro niente aspetta aveva scorto in quello stipetto alcune lettere volle leggerle subito ma erano tre in tutto di una maestra della scuola professionale dirette alla madre a rio freddo dove due anni avanti ella insieme con lui aveva passato le vacanze estive e l'anno dopo quella maestra collega della madre era morta dall'ultima di quelle lettere a un tratto scivolò a terra un bigliettino che la serva si affrittò a raccogliere da qua da qua era scritto a lapis senza citazione senza data e diceva così impossibile oggi forse venerdì Alberto Alberto ripetè guardando la serva è lui Alberto lo conosci? non sei nulla? proprio nulla parla nulla signorino mio gliel'ho detto cercò di nuovo nello stipetto poi nei cassetti degli armadi dovunque scompigliando ogni cosa non trovò nulla solo quel nome solo questa notizia che il padre di quel bimbo si chiamava Alberto e suo padre Cesare due nomi nient'altro e lei di là morta e tutti quei mobili della casa inconsapevoli impassibili e lui ora senza più nessun sostegno in quel vuoto con quel bimbo là che appena nato non apparteneva più a nessuno mentre lui almeno finora aveva avuto una madre buttarlo via no no povero piccino commosso da una avimente pietà che era già quasi tenerezza fraterna sentì destarsi dentro una disperata energia trasse dallo stipetto alcune gioie della madre e le diede alla serva perché cercasse di cavarne denaro per il momento si regò nella saletta per pregare il custode che l'aveva accompagnato di attender lui a quanto si doveva ancora fare per la mamma ritornò dalla levatrice per pregarla di cercare subito una balia corse a prendere il suo berretto da collegiale là nella camera mortuaria e dopo avere in cuor so promesso alla madre che quel suo piccino non sarebbe perito e neanche lui corse al collegio a parlare col direttore era divenuto un altro in pochi istanti espose al direttore senza un lamento il suo caso il suo proposito chiedendogli aiuto sicuramente con la ferma convinzione che nessuno avrebbe potuto negarglielo perché ne aveva il diritto sacrosanto ormai per tutto il male che innocente gli toccava soffrire dalla propria madre da quell'ignoto che gli aveva dato la vita da quest'altro ignoto che gli aveva tolto la madre lasciandogli in braccio un bambino appena nato il direttore che ascoltandolo stava a mirarlo a bocca aperta e con gli occhi pieni di lacrime subito lo assicurò che avrebbe fatto di tutto per ottenergli a più presto un soccorso e che non lo avrebbe mai mai abbandonato se lo strinse al petto pianse con lui gli disse che quella sera stessa sarebbe venuto a trovarlo a casa e sperava con una buona notizia sta bene sì signore l'aspetto e ritornò di furia a casa il soccorso tenue giunse sollecito e cesarino quasi non se ne accorse perché servì subito per il trasporto della mamma a cui pensarono gli altri egli non pensò più che al bambino come salvarlo insieme con sé fuori fuori di quella trista casa dove tanta agiatezza chissà come chissà donde era entrata per finir di confonderlo mobili tende tappeti stoviglie tutto quell'arredo se non proprio di lusso certo costoso lo guardava quasi con rancore per il segreto che sosservava della sua provenienza bisognava disfarsene al più presto trattenendo soltanto le cose più umili e necessarie per arredarne le tre povere stanzette prese a pigione fuori di porta con l'aiuto del direttore del collegio coi negozianti di mobili usati e i ricattieri ai quali si rivolse per consiglio degli altri casigliani ne contrattò la rivendita con accanimento perché cosa strana gli parve che appartenessero soprattutto al bambino quei mobili o che la mamma era morta per lui rendendo nota a tutti così la vergogna di quella giatezza e al bambino almeno per dio si poteva concedere il diritto piccino com'era ignaro di tutto di non sentirla quella vergogna se uno invece di lui ne difendeva gli interessi avrebbe rivenduto anche gli abiti e tante galanterie rimaste della mamma a una malinconica ricattiera malaticcia che gli si presentò tutta gale e cascante di stanchezza e di vezzi se costei parlando molle molle tra dolci sorrisi non gli avesse lasciato intendere a quale clientela destinava quegli abiti e quelle gale la cacciò via ah quelle spoglie quasi vive ancora come serbavano il profumo che tanto lo aveva turbato negli ultimi tempi gli parve ora nell'abbracciata che ne fece per andarle a riporre di sentirci come l'alito del bimbo a riprova della strana impressione che tutto tutto lì appartenesse a lui lavato incipriato avvolto in quel corredino ricco che la gli aveva preparato prima di morire ecco gli appariva ormai come una cosa preziosa preziosa e cara quel bimbo non più soltanto da salvare ma anche da tener custodito con tutte quelle cure che certamente avrebbe avuto per lui la mamma di cui era felice di risentire in sé così l'improvviso di destata la bella lacrità coraggiosa non si accorgeva come potevano accorgersi gli altri che la vivace ardente prontezza disinvolta della mamma nella sgraziata magrezza del suo corpicciolo appariva come un disperato sforzo che lo rendeva ispido sospettoso ed anche crudele sì anche crudele come si dimostrò nel licenziare la vecchia serva rosa cheppure era stata tanto buona per lui in quel trambusto ma non gli si poteva voler male di quello che faceva o che diceva era giusto in fondo che licenziasse la serva dovendo sostenere la grossa spesa della balia per il bambino avrebbe sì potuto farlo con un'altra maniera ma gli si perdonava anche questa come del resto gliel'aveva perdonato la stessa rosa perché forse poverino neanche il sospetto poteva avere d'essere crudele verso gli altri lui che sperimentava in quel momento in quella misura la crudeltà feroce della sorte tutt'al più se la compassione non l'avesse impedito sorridere se ne poteva nel vederlo così assaettato con quelle spallucce strette e troppo in su e la faccetta pallida e dura protesa come a rintuzzare con gli occhi aguzzi dietro quelle forti lenti da miope affannato angosciato dalla paura di non arrivare mai a tempo correva di qua di là per trar partito da tutto lo aiutavano e non ringraziava nemmeno non ringraziò neanche il direttore del collegio quando nella casetta nuova dopo lo sgombero venne ad annunziargli che gli aveva trovato il posto di scrivanello al ministero della pubblica istruzione è poco sì ma verrai la sera al collegio all'uscita dal ministero per qualche lezioncina privata ai convittori scolaretti del ginnasio inferiore vedrai che ti basterà tu sei bravo sì signore ma l'abito che abito non posso mica andare al ministero vestito ancora da collegiale indosserai uno degli abiti che avevi prima di entrare in collegio no signore non posso sono tutti come li voleva la mamma coi calzoni corti e poi neanche neri ogni difficoltà che gli si parava davanti ed erano tante lo irritava più che sbigottirlo voleva vincere doveva vincere ma il dovere di farlo vincere pareva che spettasse agli altri quanto più lui ne dimostrava la volontà e al ministero se gli altri scrivani tutti uomini maturi o vecchi passavano il tempo a far la burletta nonostante la minaccia dei capi che quell'ufficio di ricopiatura sarebbe stato soppresso per lo scarso rendimento che dava egli dapprima saggitava sulla seggiola sbuffando oppestava un piede poi si voltava brusco a guardarli dal suo tavolino battendo il pugno sulla spagliera della seggiola non perché gli paresse disonesta quella loro stupida negligenza ma perché non sentendo l'obbligo di lavorare con lui e quasi per lui lo mettevano a rischio di perdere il posto nel vedersi così richiamati al dovere da un ragazzo era naturale che quelli ridessero e se lo pigliessero a godere balzava in piedi minacciava ad andargli a denunziare e faceva peggio perché quelli ecco lo sfidavano a farlo allora lui doveva riconoscere che facendolo avrebbe forse affrettato il danno di tutti restava a guardarli come se con le loro risate gli avessero squarciato il ventre poi ricurvava le spallucce sul tavolino e dagli a ricopiare a ricopiare quante più carte poteva a rivedere anche le poche ricopiate dagli altri per levarne via gli errori sordo ai motteggi con cui quelli ora si spassavano a sbottoneggiarlo certe sere perché il lavoro assegnato all'ufficio fosse terminato usciva dal ministero un'ora dopo tutti gli altri il direttore se lo vedeva arrivare al collegio trafilato ansante con gli occhi induriti dalla fissità spasimosa che dava loro il pensiero di non bastare a difendersi dalle difficoltà e le contrarietà della sorte a cui purtroppo suoniva anche la malignità delle più uomini adesso ma no ma no gli diceva il direttore per confortarlo e qualche volta anche lo rimproverava amorevolmente non sentiva né i conforti né i rimproveri come per via correndo non vedeva mai nulla la mattina per trovarsi puntuale all'ufficio venendo dalla casa lontana fuori di porta a mezzogiorno per ritornare fin là a desinare e poi per ritrovarsi a tempo all'ufficio alle tre sempre a piedi sia per risparmiare i soldi del tram sia per la paura di mancare all'orario stando ad aspettare che quello passasse non ne poteva più la sera si sentiva così stanco che neanche la forza aveva di reggere in braccio Ninni stando in piedi doveva prima sedere sul balconcino dalla ringhiera di ferro arrugginita che gli era parso tanto bello da prima là alla vista degli orti suburbani ora tenendo sulle ginocchia Ninni avrebbe voluto compensarsi delle corse delle fatiche delle amarezze di tutta la giornata ma il bimbo che aveva già circa tre mesi non voleva stare con lui forse perché non vedendolo quasi mai durante la giornata ancora non lo riconosceva forse anche perché egli non lo sapeva tenere bene in braccio o perché aveva già sonno come diceva la balia per scusarlo su me lo ridia gli farò far la nanna e poi penserò a lei per la cena aspettando la cena lì seduto sul balconcino nell'ultima luce fredda del crepuscolo guardando senza neppur forse vederla la fetta di luna già accesa nel cielo scialbo e vano poi abbassando gli occhi sulla sugice a stradicciuola deserta costeggiata da una parte da una siepe secca e polverosa al riparo degli orti si sentiva invader l'anima in quella stanchezza da uno squallore angoscioso ma non appena il pianto accennava di lungergli gli occhi serrava i denti stringeva nel pugno la bacchetta di ferro della ringhiera appuntava lo sguardo all'unico fanale della stradicciuola a cui monellaccia avevano fracassato assassate due vetri e si metteva a pensare cose cattive apposta contro gli scolaretti del convitto anche contro il direttore ora che non sentiva più di poter essere come prima fiducioso con lui avendo capito che gli faceva il bene sì ma quasi più per sé per il compiacimento di sentirsi lui buono il che gli dava adesso nel riceverne quel bene come un impiccio d'umiliazione e quei compagni d'ufficio quei loro sudici discorsi e certe sconce domande che avrebbero voluto avvilirlo di vergogna se come faceva se l'aveva mai fatto ed ecco un improvviso convulso di lacrime lo assaliva al ricordo di una sera che andando al solito di furia per via come un cieco aveva inciampato in una donnaccia di strada la quale subito fingendo di pararlo se l'era premuto al seno con tutte e due le braccia costringendolo così a cogliere con le nari sulla carne viva oscinamente il profumo quel profumo stesso della sua mamma per cui si era strappato da lei mugolando ed era fuggito via gli pareva ora di sentirsi frustato dal dileggio di quelli verginello verginello e tornava a stringere nel pugno la bacchetta della ringhiera e a serrare i denti no non avrebbe potuto mai farlo lui perché sempre sempre avrebbe avuto nelle nari a dargli nell'orrore quel profumo della madre ora nel silenzio gli arrivavano i secchi tonfi sul mattonato dei piedi della seggiola prima i due davanti poi i due di dietro dondolata dalla balia che addormentava il piccino e di là dalla siepe il frusciare dell'acqua che usciva a ventaglio dalla tromba lunga come un serpente con cui l'ortolano annaffiava l'orto quel fruscio d'acqua gli piaceva gli rinfrescava lo spirito e non voleva che per distrazione dell'ortolano in qualche punto ne cadisse troppa lo avvertiva lo avvertiva subito dal rumore della terra che si faceva creta e ne era come affogata perché gli veniva a mente adesso quella tovaglietta da tè damascata con l'orlo cilestrino e i peneri fitti fitti che la mamma stendeva su un tavolinetto per offrire il tè a qualche amica capitando insolitamente a casa verso le cinque quella tovaglietta il corredino di dinni l'eleganza il gusto quello scrupolo di pulizia della mamma e ora ecco stesa là sulla tavola una sudicia tovaglia la cena non ancora preparata il suo letto di là non ancora rifatto dalla mattina e fosse stato almeno ben curato il bimbo ma no signori sporca la vestina sporco il bavaglino e a muoverne a quella balia il minimo rimprovero già la certezza di indispettirla e il pericolo che l'approfittasse dell'assenza di lui per sfogare il dispetto contro la creaturina innocente e poi subito pronta la doppia scusa che dovendo badare al bambino non aveva tempo né di rassettare la casa né di attendere alla cucina e che se mancava al bambino qualche cura questo dipendeva perché le toccava far anche da serva e da cuoca brutta zoticona venuta su dalla campagna che pareva un tronco d'albero e che ora credeva di farsi bella pettinandosi coi capelli alti e infronzolandosi ma pazienza il latte lo aveva buono e il bimbo quantunque trascurato prosperava come somigliava alla mamma gli stessi occhi e quel nasino quella boccuccia la balia gli voleva far credere che somigliasse a lui invece ma che chissà chi somigliava a lui ma ormai non gli importava più di saperlo gli bastava che Ninnì somigliasse alla mamma ne era felice anzi perché così non avrebbe baciato su quel visino alcun tratto che avrebbe potuto fargli nascere l'idea di quell'ignoto che ormai non si curava più di scoprire dopo cena sulla stessa tavola appena sparecchiata si metteva a studiare con le intenzioni di presentarsi l'anno appresso agli esami di licenza liceale per entrare poi con l'esenzione dalle tasse se gli veniva fatto all'università si sarebbe scritto in legge e se riusciva a ottenere la laurea questa gli avrebbe servito per qualche concorso di segretario allo stesso ministero della pubblica istruzione voleva sollevarsi al più presto da quella meschina e non ben sicura condizione di scrivano ma studiando certe sere era a poco a poco invaso e vinto da un cupo scoraggiamento gli parevano così lontane dal suo presente affanno quelle cose da studiare e distratto in quella lontananza sentiva come vano il suo stesso affanno e che non dovesse né potesse avere mai fine il silenzio di quelle tre stanzette quasi nude era tanto che gli faceva perfino avvertire il ronzio del lume a petrolio tolto dalla sospensione e posato lì sulla tavola per vederci meglio si toglieva le lenti dal naso fissava con gli occhi socchiusi la fiamma e grosse lacrime allora gli pollavano dalle palpebre e piombavano sul libro aperto sotto il mento ma erano momenti la mattina dopo tornava ad assettarsi più ostinato protendendo dalle spallucce ricurve a modo dei miopi quello sudo visetto di cera stirato e madido con quei capelli lisci di malato troppo cresciuti tra gli orecchi e le gote e quella violenza delle lenti che gli smaltavano gli occhi di impiccoliti lucenti e precisi pinzandogli a sangue le graci di pareti nel naso di tanto in tanto veniva a fargli qualche visitina rosa la vecchia serva piano paiano gli faceva notare anch'essa tutte le magagne di quella balia e per metterlo in guardia gli riferiva quanto lo dicevano sul conto di lei le donne del vicinato cesarino si stringeva nelle spalle sospettava che rosa parlasse per rancore perché fin da principio per non essere mandata via gli aveva proposto da allevare il bimbo col latte sterilizzato come aveva veduto fare a tante mamme che se ne erano poi trovate contente ma le dovette rendere giustizia alla fine quando si vide costretto a cacciar via su due piedi quella balia già gravita da due mesi per fortuna il bambino non soffrì del cambiato allevamento anche per le cure amorose della buona vecchia la quale si mostrò lietissima di ritornare al servizio di quei due abbandonati e ora finalmente cesarino poteva assaporare davvero la dolcezza della pace conquistata con tanta pena sapeva il suo ninni affidato in buone mani e poteva lavorare e studiar tranquillamente la sera rincasando trovava tutto in ordine ninni lindo come uno sposino e gustosa la cena e soffice il letto era la felicità i primi gridolini certe mossette piene di grazia di ninni lo facevano impazzire dalla gioia lo mandava a pesare ogni due giorni per paura che calasse di peso con quell'allattamento artificiale nonostante che rosa lo rassicurasse ma non sente che a momenti pesa più di me sempre con la trombetta in bocca la trombetta era il biberon su ninni fatti una sonatina e ninni subito non se lo faceva dire due volte e non gli bastava che gliela reggessero gli altri la trombetta se la voleva reggere anche da sé là da bravo trombettiere esso chiedeva a langui dei cari occhiuzzi dalla voluttà lo guardavano tutte e due in estasi e poiché il bimbo spesso prima che finisse di succhiare si addormentava zitti zitti si levavano e andavano in punta di piedi e rattenendo il respiro a deporlo nella culla riprendendo lo studio serale con la doppiata lena ormai sicuro dell'esito le vere ragioni per cui Napoleone Bonaparte era stato sconfitto a Waterloo Cesarino ormai le penetrava benissimo se non che una sera rientrando in casa di furia come soleva quasi assetato ad un bacio del suo ninnì fu arrestato sulla soglia da rosa la quale tutta turbata gli annunziò che c'era di là un signore che voleva parlargli e che lo aspettava da una buona mezz'ora Cesarino si trova di fronte a un uomo di circa 50 anni alto di statura e ben piantato vestito tutto di nero per lutto recentissimo grigio di capelli e bruno in volto dall'aria cupa grave si era alzato al suono del campanello della porta e lo attendeva nella saletta da pranzo desidera parlarmi? gli domandò Cesarino osservandolo sospeso e costernato sì da solo se permette venga entri e Cesarino gli indicò l'uscio della sua cameretta e lo fece passare avanti poi richiuso l'uscio con le mani che già gli ballavano si volse alterato il viso pallidissimo con gli occhi strizzati dietro le lenti e le ciglia corrugate e avventò la domanda Alberto? Rocchi sì sono venuto Cesarino gli si appressò convulso trasfigurato come se volesse inveire affarchè in casa mia quelli si trasse indietro impallidendo e contenendosi mi lasci dire vengo con buone intenzioni che intenzioni mia madre è morta lo so ah lo sa e non le basta se ne vada via subito o lo farò pentire ma scusi pentire pentire di essere venuto qua a infliggermi l'onta ma no scusi l'onta della sua vista sì signore che vuole da me se non mi lascia dire scusi si calmi riprese egli così investito sconcertato io comprendo ma bisogna che le dica no gridò Cesarino risoluto fremente levando le graci di pugna guardi io non voglio saper nulla non voglio spiegazioni le basti avere osato di comparirmi davanti e se ne vada ma qua c'è mio figlio disse allora quegli torbido e spazientito vostro figlio invece Cesarino ah siete venuto per questo ve ne ricordate adesso che c'è vostro figlio qua prima non potevo se non mi lasciate dire che volete dire andate via andate via avete fatto mirire mia madre andate via o chiamo gente il rocchi si è chiuso e gli occhi trasse confiandosi un profondo sospiro e disse va bene vuol dire che farò valere altrove le mie ragioni e s'avviò ragioni voi gli gridò dietro Cesarino perdendo il lume degli occhi miserabile dopo che mi hai ucciso la madre vuoi aver ragioni da far valere tu contro di me ragioni quegli si voltò a guardarlo fosco ma aprì poi la bocca a un sorriso tra disdegno e di compassione per la graciltà di quel ragazzo che lo insultava vedremo disse e se ne andò Cesarino rimase al buio nella saletta dietro la porta tutto vibrante dell'impedo violento che in lui timido debole avevano fatto il rancore l'onta la paura di perdere il suo piccino adorato rimessosi alla meglio andò a bussare all'uscio di Rosa che si era chiusa a chiave col bimbo stretto tra le braccia ho capito ho capito ho capito gli disse Rosa voleva Ninnì lui si e le sue ragioni capisci vuol far varere lui e chi può dare ragione a lui è il padre ma mi può togliere forse Ninnì ora l'ho cacciato via come un cane gli ho detto che che mi ha ucciso la madre e che l'ho raccolto io il bambino e che ora è mio è mio e nessuno me lo può strappare dalle braccia mio mio guarda un po' miserabile assassino ma sì ma certo si calmi signorino gli disse Rosa più afflitta e costernata di lui mica con la forza potrà venire a prendergli il bambino lei avrà pure le sue ragioni da far valere e vorrei vedere questa ora che ci levassero Ninnì che abbiamo allevato noi ma stia tranquillo che non si farà più vedere dopo la degna accoglienza che lei gli ha affatta né queste però né altre assicurazioni che la buona vecchia ripetè durante tutta la sera valsero a tranquillare il cesarino il giorno dopo là al ministero provò un vero eterno supplizio a mezzogiorno scappò a casa trepidante col cuore in gola non voleva più ritornare all'ufficio per le tre del pomeriggio ma Rosa lo spinse ad andare promettendogli che avrebbe tenuto la porta sprangata e non avrebbe aperto a nessuno e che non avrebbe lasciato Ninnì neanche per un minuto così egli andò ma rincasò alle sei senza recarsi al collegio per la ripetizione e gli scolaretti nel vederselo davanti come uno stordito così abbattuto e costernato Rosa cercò in tutti i modi di scuoterlo ma invano aveva un presentimento cesarino che gli rodeva l'anima e non gli dava requie passò insonne tutta la nottata il giorno oppresso non ritornò a casa a mezzodì per il desinare la vecchia Rosa non sapeva come spiegarsi quel ritardo verso le quattro finalmente lo vide arrivare ansante livido con una fissità truce negli occhi devo darglielo mi hanno chiamato in questura c'era anche lui ha mostrato le lettere di mia madre è suo disse così a scatti senza alzar gli occhi a guardare il bimbo che Rosa teneva in braccio oh cuore mio esclamò questa stringendosi al seno Ninni ma come che ha detto come è potuto la giustizia è il padre è il padre rispose cesarino dunque è suo e lei domandò Rosa come farà a lei io io con lui ce ne andremo insieme con Ninni da lui da lui ah così tutte e due insieme allora ah così va bene non lo lascerà e io signorino questa povera Rosa cesarino per non risponderle direttamente si tolse in braccio il piccino se lo strinse al petto e piangendo cominciò a dirgli la povera Rosa Ninni insieme con noi anche lei non è giusto non si può le lasceremo tutto alla povera Rosa questa poca roba che è qua stavamo insieme tanto bene tutte e tre è vero Ninni mio ma non hanno voluto non hanno voluto ebbene disse Rosa inghiottendo le lacrime si vuole affliggere così per me adesso signorino io sono vecchia non conto più Dio per me provvederà purché siano contenti loro del resto dica non potrò forse venire a trovarla a vedere questo mio angioletto non mi calceranno via se verrò alla fin fine perché non deve essere così passato il primo momento sarà forse anche un bene per lei signorino che le pare forse disse Cesarino intanto Rosa bisogna che tu prepari tutto presto tutto quello che abbiamo fatto a Ninni le mie robe e le tue anche si va via stasera siamo aspettati a pranzo senti io ti lascio tutto che dice signorino mio esclamò Rosa tutto tutto quel po' che ho con me in denaro ben altro ti debbo per tutto l'affetto zitta zitta non ne parliamo tu lo sai e io lo so basta anche quei pochi mobili noi troveremo di là un'altra casa tu farai di questa ciò che vorrai non mi ringraziare prepara tutto e andiamo via tu prima non saprai andarmene lasciandoti qua poi domani verrai a trovarmi e io ti lascerò la chiave e tutto la vecchia Rosa obbedì senza rispondere aveva il cuore così gonfio che ad aprir la bocca per parlare si inghiozzi certo e non parole le sarebbero venuti fuori preparò tutto anche il suo fagotto lo lascio qua domandò tanto se domande ebbo ritornare sì certo le rispose cesarino e ora eccoti bacia ninni bacialo e addio Rosa si prese in braccio il piccino che guardava un po' sbigottito ma non pote in prima baciarlo bisogna che si sfogasse un pezzo pur dicendo è una sciocchezza piangere perché domani ecco a lei signorino se lo prenda e coraggio eh un bacio anche a lei a domani se ne andò senza voltarsi indietro soffogando i singhiozzi nel fazzoletto subito cesarino sprangò la porta si passò una mano sui capelli che gli si dirzzarono irti andò a posare ninni sul letto gli mise in mano l'orologino d'argento perché stesse quieto scrisse in gran fretta poche dighe su un foglio di carta la donazione a rosa della povera soppellettile di casa poi scappò in cucina preparò lesto lesto un buon fuoco lo portò in camera chiuse gli scuri l'uscio e al lume della lampadina che la vecchia rosa teneva sempre accesa davanti a un'immagine della madonna si stese sul letto accanto a ninni questo allora lasciò cadere sul letto l'orologino e al solito alzò la mano per strappare dal naso al fratello le lenti cesarino questa volta se le lasciò strappare chiuse gli occhi e si strinse il bimbo al petto quieto ora ninni quieto facciamo la nanna bellino la nanna fine della novella in silenzio registrazione di silvia de simone roma l'altro figlio dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Lisa Caputo novelle per un anno di Luigi Pirandello l'altro figlio c'è ninfarrosa? c'è bussate la vecchia Maragrazia bussò e poi si calò a sedere pian piano sul logoro scalino davanti la porta era la sua sedia naturale quello come tant'altri davanti le porte delle casupole di Farnia lì seduta o dormiva o piangeva in silenzio qualcuno passando le buttava in grembo un soldo o un tozzo di pane ella si scoteva appena dal sonno dal pianto baciava il soldo o il pane si segnava e riprendeva a piangere o a dormire pareva un mucchio di cenci cenci unti e grevi sempre gli stessi d'estate e d'inverno strappati sbrindellati senza più colore e impregnati di sudor puzzolente e di tutto il sudicio delle strade la faccia giallastra era un fitto reticcio di rughe in cui le palpebre sanguinavano rovesciate bruciate dal continuo lacrimare ma tra quelle rughe quel sangue e quelle lacrime gli occhi chiari apparivano come lontani quelli di un'infanzia senza memorie ora spesso qualche mosca le si attaccava vorace a quegli occhi ma ella era così sprofondata e assorta nella sua pena che non l'avvertiva nemmeno non la cacciava i pochi capelli aridi spartiti sul capo le terminavano in due nodicini pendenti sugli orecchi i cui lobby erano strappati del peso degli orecchini massicci a pendaglio portati in gioventù dal mento giù giù fin sotto la gola la floscia giogaia era divisa da un solco nero che le sprofondava nel petto cavo le vicine messe a sedere sull'uscio non le badavano più stavano quasi tutto il giorno lì e chi rattoppava panni chi sceglieva legumi chi faceva la calza e insomma tutti occupati in qualche lavoro conversavano davanti a quelle loro casupole basse che prendevano luce dall'uscio case e stalle insieme dal pavimento acciottolato come la strada e di qua la mangiatoia dove qualche asinello o qualche mula scalpitavano tormentati dalle mosche di là il letto alto monumentale e poi una lunga cassapanca nera da beto di faggio che pareva una bara e due o tre seggiole impagliate la madia e poi attrezzi rurali sulle pareti grezze fuliginose per unicornamento certe stampacce da un soldo che volevano raffigurare i santi del paese per la strada intanfata di fumo e di stalla ruzzavano ragazzi cotti dal sole alcuni ignudinati altri con la sola camicina a brendoli sudicia e le galline razzolavano e grugnivano soffiando col grifo tra la spazzatura i porcellini cretacei quel giorno si parlava della nuova comitiva dei migranti che la mattina dopo doveva partire per l'america parte sarò scoma diceva una lascia la moglie e tre figliuoli vito scordia soggiungeva un'altra ne lascia cinque e la moglie gravida è vero che carmine è ronca domandava una terza se lo porta con sé il figliuolo di dodici anni che già andava alla zolfara oh santa maria il ragazzo almeno avrebbe potuto lasciarglilo alla moglie come farà quella povera cristiana ora a darsi aiuto che pianto che pianto gridava lamentosamente una quarta più là tutta la notte in casa di nunziali greci il figlio nico tornato appena da soldato vuol partire anche lui udendo queste notizie la vecchia maragrazia si durava la bocca con lo scialle per non scoppiare in singhiozzi la foga del dolore le rompeva però dagli occhi sanguigni in lacrime senza fine da quattordici anni erano partiti anche a lei per l'america due figliuoli le avevano promesso di ritornare dopo quattro cinque anni ma avevano fatto fortuna laggiù specialmente uno il maggiore e si erano dimenticati della vecchia mamma ogni qualvolta una nuova comitiva di emigranti partiva da Farnia e la si recava da Ninfa Rosa perché le scrivesse una lettera che qualcuno dei partenti doveva per carità consegnare nelle mani dell'uno o dell'altro di quei figliuoli poi seguiva per un lungo tratto dello stradone polveroso la comitiva che si recava sovraccarica di sacchi e di fagotti alla stazione ferroviaria della prossima città fra le madri le spose e le sorelle che piangevano disperate e camminando guardava affitto affitto gli occhi di questo o di quel giovane emigrante che simulava una rumorosa allegria per soffocare la commozione e stordire i parenti che lo accompagnavano vecchia matta vecchia matta qualcuno le gridava o perché mi guardate così vorreste cavarmi gli occhi no bello te l'invidio gli rispondeva la vecchia perché tu li vedrai i miei figliuoli di loro come mai lasciata che non mi ritroveranno più se tardano ancora intanto là le commari del vicinato seguitavano a fare il conto di quelli che partivano il giorno appresso a un tratto un vecchio dalla barba e dai capelli lanosi che se n'era stato finora zitto ad ascoltare steso a pancia all'aria e fumando la pipa in fondo alla straducola rizzò il capo che teneva appoggiato a una bardella d'asino e posandosi le grosse mani rocciose sul petto se io fossi il re disse e sputò se io fossi il re nemmeno una lettera farei più arrivare a Farnia da laggiù e viva Iacospina esclamò allora una delle vicine e come farebbero qua le povere mamme le spose senza notizie e senza aiuto sì ne mandano assai brontolò il vecchio e sputò di nuovo le madri a farle serve e le spose vanno a male ma perché i guai che trovano laggiù non li dicono nelle loro lettere solo il bene dicono e ogni lettere è per questi ragazzacci ignoranti come la chioccia Pio 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 se li chiama e porta via tutti quanti dove son più le braccia per lavorare le nostre terre a Farnia ormai siamo rimasti noi soli vecchi femmine e bambini e ho la terra e me la vedo patire con un solo paio di braccia che posso fare e ne partono ancora ne partono pioggia in faccia e vento alle spalle dico io si rompa nel collo maledetti a questo punto l'infarrosa schiuse la porta e parve spuntasse il sole in quella stradetta bruna e colorita dagli occhi neri spavillanti dalle labbra accese da tutto il corpo solido e svelto spirava un'allegra fierezza aveva sul petto colmo un gran falzoletto di cotone rosso a lune gialle e grossi cerchi d'oro agli orecchi i capelli corvini lucidi ondulati volti indietro senza scriminatura le si annodavano voluminosamente sulla nuca attorno a uno sfadino d'argento nel mento rotondo una fossetta acuta nel mezzo le dava una grazia maliziosa e provocante vedova ad un primo marito dopo appena due anni di matrimonio era stata abbandonata dal secondo partito per l'america cinque anni addietro di notte nessuno doveva saperlo dalla porticina posta sul dietro della casa dove era l'orto qualcuno un pezzo grosso del paese veniva a visitarla perciò le vicine oneste e timorate la vedevano di malocchio quantunque in segreto poi la invidiassero gliene volevano anche perché in paese si diceva che per vendicarsi dell'abbandono del secondo marito aveva scritto parecchie lettere anonime agli emigrati in america calugnando e infamando alcune povere donne chi predica così disse scendendo sulla via ah Iaco Spina meglio zio Iaco se restiamo a farne a noi soli zapperemo noi donne la terra voi donne brontolò di nuovo il vecchio con voce catarrosa per una cosa sola siete buone e sputò per che cosa zio Iaco dite forte piangere è un'altra cosa e dunque per due allegramente io non piango però vedete e lo so figlia non piangesti neppure quando ti morì il primo marito ma se morivo prima io zio Iaco ribatte pronta l'infarosa non avrebbe forse ripreso moglie lui dunque vedete chi piange qua per tutti maragrazia questo dipende sentenziò Iaco spina sdraiandosi di nuovo a pancia all'aria perché la vecchia ha acqua da buttar via e la butta anche dagli occhi le vicine risero maragrazia si scosse ed esclamò due figli ho perduto belli come il sole e volete che non pianga belli davvero è da piangerli disse l'infarrosa nuotano nell'abbondanza laggiù e vi lasciano morire qua mendica loro sono i figli e io sono la mamma replicò la vecchia come possono capirla la mia pena io io non lo so perché tante lacrime e tanta pena riprese l'infarrosa quando voi stessa a quel che dicono li faceste scappar via per disperati io esclamò maragrazia dandosi un pugno sul petto e sorgendo in piedi trasecolata io chi l'ha detto chi si sia l'ha detto infamità io ai figli miei io che lasciatela perdere le interruppe una delle vicine non vedete che scherza ninfarrosa prolungò la risata ondeggiando dispettosamente sulle anche poi per rifar la vecchia della cellia crudele le domandò con voce affettuosa su su nonnetta mia che volete maragrazia si cacciò in seno la mano tremolante e ne trasse fuori un foglietto di carta tutto gualcito e una busta mostrò l'una e l'altra con aria supplichevole a ninfarrosa e disse se vuoi farmi la solita carità ancora una lettera se vuoi ninfarrosa sbuffò ma poi sapendo che non se la sarebbe levata d'addosso la invitò a entrare la sua casa non era come quelle del vicinato la vasta camera un po' buia quando la porta era chiusa perché prendeva luce allora soltanto da una finestra ferrata che s'apriva sulla porta stessa era imbiancata ammattonata pulita e ben messa con una lettiera di ferro un armadio un cassettone dal piano di marmo un tavolino impiallacciato di noce mobilia modesta ma di cui tuttavia si capiva che ninfarrosa non avrebbe potuto da sola pagarsi il lusso coi suoi guadagni molto incerti di sarta rurale prese la penna e il calamaio posò il foglietto gualcito sul piano del cassettone e si disposa a scrivere lì in piedi dite su sbrigatevi cari figli cominciò a dettare la vecchia io non ho più occhi per piangere seguitò ninfarrosa con un sospiro di stanchezza è la vecchia perché gli occhi miei sono abbruciati di vedervi almeno per l'ultima volta avanti avanti l'encitò ninfarrosa questo gliel'avete scritto a dir poco una trentina di volte e tu scrivi è la verità core mio non vedi dunque scrivi cari figli daccapo no adesso un'altra cosa ci ho pensato tutta stanotte senti cari figli la povera vecchia mamma vostra vi promette e giura così vi promette e giura davanti a dio che se voi ritornate a farnia vi cederà in vita il suo casalino ninfarrosa scoppiò a ridere pure il casalino ma che volete che se ne facciano se già sono ricchi di quei quattro muri di crete e canne che crollano a soffiarci su e tu scrivi ripete la vecchia ostinata valgono più quattro pietruzze in patria che tutto il regno fuori via scrivi scrivi ho scritto che altro volete aggiungere ecco questo che la vostra povera mamma cari figli ora che l'inverno è alle porte trema di freddo vorrebbe farsi un vestitino e non può che vogliate farle la carità di mandarle almeno una carta da cinque lire per basta 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 fece ninfarrosa ripiegando il foglietto e cacciandolo dentro la busta ho belle scritto basta anche per le cinque lire domandò investita da quella furia inattesa la vecchia tutto anche per le cinque lire ignorsì scritto bene tutto vi dico di sì pazienza abbia un po' di pazienza con questa povera vecchia figlia mia disse Maragrazia che vuoi sono mezzo stolida ora Dio ti paghi la carità e la bella madre santissima prese la lettera e se la cacciò in seno aveva pensato di affidarla al figlio di Nunzi agli greci che si regava al rosario di Santa Fe dove erano i suoi piglioli e si avviò per portargliela già le donne sopravvenuta la sera erano rientrate in casa e quasi tutte le porte si chiudevano per le straducole anguste non passava più un'anima il lampionaio andava in giro con la scala in collo per accendere i rari lampioncini a petrolio che rendevano più triste col loro scarso lume piagnucoloso la vista malcerta e il silenzio di quelle viuzze abbandonate la vecchia Maragrazia andava curva premendosi con una mano sul seno la lettera da mandare ai figlioli come per comunicare a quel pezzo di carta il suo calore materno con l'altra o si grattava una spalla o si grattava in testa a ogni nuova lettera le rinasceva prepotente la speranza che con quella sarebbe alla fine riuscita a commuovere e a richiamare a sé i figlioli certo leggendo quelle sue parole pregne di tutte le lacrime versate per loro in quattordici anni i suoi figlioli belli i suoi dolci figlioli non avrebbero più saputo resistere ma questa volta veramente non era molto soddisfatta della lettera che recava in seno le pareva che Ninfa Rosa l'avesse buttata giù troppo in fretta e non era neanche ben sicura che ci avesse proprio messo l'ultima parte delle cinque lire per il vestitino cinque lire che questo avrebbero fatto ai suoi figlioli già ricchi cinque lire per vestire le carni della loro vecchia mamma infreddolita attraverso le porte chiuse delle casupole le giungevano intanto le grida di qualche madre che piangeva la prossima partenza del figliolo oh figli figli gemeva allora tra sé maragrazia premendosi più forte la lettera sul seno con che cuore potete partire promettete di ritornare poi non ritornate più ah povere vecchie non credete alle loro promesse i vostri figliuoli come i miei non ritorneranno più non ritorneranno più a un tratto si fermò sotto un lampioncino sentendo rumor di passi per la viuzza chi era? ah era il nuovo medico condotto quel giovine venuto da poco ma che presto a quanto dicevano sarebbe andato via non perché avesse fatto cattiva prova ma perché mal visto dai pochi signorotti del paese tutti i poveri invece avevano preso subito a volerli bene sembrava un ragazzo a vederlo eppure era proprio vecchio di senno e dotto faceva restare tutti a bocca aperta quando parlava dicevano che anche lui voleva partire per l'america ma non aveva più la mamma lui era solo signor dottore pregò Maragrazia vorrebbe farmi una carità il giovane dottore si fermò sotto il lampioncino rastornato pensava andando e non si era accorto della vecchia chi siete? ah voi si ricordò d'aver veduto più volte quel mucchio di cenci davanti alle porte delle casupole vorrebbe farmi la carità ripete Maragrazia di leggermi questa letterina che debbo mandare ai miei figlioli se ci vedo disse il dottore che era miope rassettandosi sul naso le lenti Maragrazia trasse dal seno la lettera gliela porse e restò in attesa che gli cominciasse a leggerle le parole dettate all'infarrosa cari figli ma che il medico o non ci vedeva o non riusciva a decifrare la scrittura accostava agli occhi il foglietto lo allontanava per vederlo meglio al lume del lampioncino lo rovesciava di qua di là alla fine disse ma che non si legge? domandò timidamente Maragrazia il dottore si mise a ridere ma qua non c'è scritto nulla disse quattro sgorbi tirati giù con la penna a zig zag guardate come? esclamò la vecchia restando ma sì guardate nulla non c'è scritto proprio nulla possibile fece la vecchia ma come? se gliel'ho dettata io a ninfarrosa parola per parola e l'ho vista che scriveva avrà finto disse il medico stringendosi nelle spalle Maragrazia rimase come un ceppo poi si diede un gran pugno sul petto ah infamaccia proruppe e perché mi ha ingannata così? ah per questo dunque i miei figli non mi rispondono dunque nulla mai nulla ha scritto loro di tutto quello che io le ho dettato per questo dunque non ne sanno niente i figli miei del mio stato che io sto morendo per loro e io li incolpavo signor dottore mentre era lei quest'infamaccia qua che si è sempre burlata di me oddio oddio e come si può fare un simile tradimento a una povera madre a una povera vecchia come me oh che cosa oh il giovane dottore commossa e indignato si provò dapprima a quietarlo un poco si fece dire chi fosse quella ninfarrosa dove stesse di casa per farle il giorno dopo una strapazzata come si meritava ma la vecchia badava ancora a scusare i figliuoli lontani del lungo silenzio straziata dal rimorso d'averli incolpati per tanti anni dell'abbandono sicurissima ora che si sarebbero ritornati volati a lei se una sola di quelle tante lettere che ella aveva creduto di mandar loro fosse stata scritta veramente e fosse loro pervenuta per troncare quella scena il dottore dovette prometterle che la mattina seguente avrebbe scritto lui una lunga lettera per quei figliuoli su su non vi disperate così verrete domattina da me a dormire adesso andate a dormire ma che dormire circa due ore dopo il dottore ripassando per quella straducola la ritrovò ancora lì che piangeva inconsolabile accosciata sotto il lampioncino la rimproverò la fece levare le ingiunse da andare subito a casa subito perché era notte dove state ah signor dottore ho un casalino qua sotto all'uscita del paese avevo detto a quell'infamaccia di scrivere ai figli miei che lo avrei loro ceduto in vita se volevano ritornare si è messa a ridere svergognata perché sono quattro muretti di crete e canne ma io va bene va bene troncò di nuovo il dottore andate a dormire domani scriveremo anche del casalino su venite v'accompagno Dio la benedica signor dottore ma che dice accompagnarmi vos signoria vada vada avanti io sono vecchierella e vado piano il dottore le diede la buonanotte e si avviò ma ragrazia gli tenne dietro a distanza poi arrivata al portoncino in cui lo vide entrare si fermò si tirò sul capo lo scialle si avvolse bene e sedette sullo scalino lì davanti la porta per passarvi la notte in attesa all'alba dormiva quando il dottore che era mattiniero uscì per le prime visite essendo il portoncino a un solo battente nell'aprirlo si vide cadere ai piedi la vecchia dormente che vi stava appoggiata uè voi vi siete fatta male vo vo signoria mi perdoni valbettò ma ragrazia aiutandosi con ambo le mani avviluppate nell'uscialle a rizzarsi avete passato qua la notte si signore e niente ci sono avvezza si scuso la vecchia che vuole signorino mio non mi so dar pace non mi so dar pace del tradimento di quella scelerata mi verrebbe ad ammazzarla signor dottore poteva dirmi che le seccava a scrivere sarei andata da un altro sarei venuta da vostra signoria che è tanto buono si aspettate un po' qua disse il dottore ora passerò io da questa buona femmina poi scriveremo la lettera aspettate e andò di fretta dove la vecchia la sera avanti gli aveva indicato gli avvenne per caso di domandare proprio a ninfa rosa che si trovava già in strada l'indirizzo di colei a cui voleva parlare eccomi qua sono io signor dottore gli rispose ridendo e rossendo ninfa rosa e lo invitò a entrare aveva veduto passare più volte per la stradetta quel giovane medico dall'aspetto quasi infantile e com'era sempre sana e non avrebbe saputo fingere di star male per chiamarlo ora si mostrò contenta pur nella sorpresa che egli fosse venuto da sé per parlare con lei appena seppe di che si trattava e lo vide turbato e severo si piegò procace verso di lui col volto dolente per il dispiacere che egli si prendeva senza ragione via e appena potè senza commettere la sconvenienza di interromperlo ma scusi tanto signor dottore disse socchiudendo i begli occhi neri lei si affligge sul serio per quella vecchia matta qua in paese la conoscono tutti signor dottore e non le vada più nessuno lei domandi a chi vuole e tutti le diranno che è matta da quattordici anni sa da che le sono partiti coi due figlioli per l'america non vuole ammettere che essi si siano scordati di lei come la verità e sostiene a scrivere a scrivere ora tanto per contentarla capisce io fingo così di farle la lettera quelli che partono poi fingono di prendersela per recapitarla e lei poveraccia si illude ma se tutti dovessimo far come lei a quest'ora signor dottore mio non ci sarebbe più un mondo guardi anche io che le parlo sono stata abbandonata da mio marito sì signore e sa che coraggio ha avuto questo bel garantuomo di mandarmi un ritratto di lui e della sua bella di laggiù io lo posso far vedere stanno tutti e due con le teste l'una appoggiata all'altra e le mani afferrate così permette mi dia la mano così e ridono ridono in faccia a chi li guarda in faccia a me vuol dire ah signor dottore tutta la pietà è per chi parte è per chi resta niente ho pianto anch'io si sa nei primi tempi ma poi mi sono fatto una ragione e ora ora tiro a campare e a spassarmela anche se mi capita visto che il mondo è fatto così turbato dall'affabilità provocante dalla simpatia che quella bella donna gli dimostrava il giovane dottore abbassò gli occhi e disse ma perché voi forse avrete da vivere quella poverina invece ma che quella rispose vivacemente l'infarrosa avrebbe da vivere anche lei bella seduta e servita in bocca se volesse non vuole come domandò il dottore alzando gli occhi meravigliato l'infarrosa nel vedergli quel bel faccino stupito scoppiò a ridere scoprendo i denti forti e bianchi che davano al suo sorriso la bellezza splendida della salute ma sì disse non vuole signor dottore ha un altro figlio qua l'ultimo che la vorrebbe con sé e non le farebbe mancare mai nulla un altro figlio lei sì signore si chiama Rocco Trupia non vuole saperne e perché? perché è proprio matta non glielo dico piange giorno e notte per quei due che l'hanno abbandonata e non vuole accettare neanche un tozzo di pane da quest'altro che la prega a mani giunte dagli estranei non volendo un'altra volta mostrarsi stupito per nascondere il turbamento crescente il dottore s'accigliò e disse forse l'avrà trattata male cos'è sto figlio non credo disse l'infarrosa brutto sì sempre ingrugnato ma non cattivo è il lavoratore poi lavoro moglie e figlioli non conosce altro se vossignoria si vuole levare questa curiosità non ha da camminare molto guardi seguitando per questa via appena un quarto di miglio uscito dal paese troverà a destra quella che chiamano la casa della colonna sta lì ha in affitto una bella chiusa che li rende bene ci vada e vedrà che come le dico io il dottore si levò ben disposto da quella conversazione allettato dalla dolce mattinata di settembre e più che mai incuriosito sul caso di quella vecchia disse ci vado davvero l'infarrosa si regò le mani dietro la nuca per rassettarsi i capelli attorno allo spadino d'argento e sto guardando il dottore con gli occhi che le ridevano promettenti buona passeggiata allora disse e serva sua superata l'erta e il dottore si fermò per riprender fiato poche altre povere casette di qua e di là e il paese finiva la viuzza emetteva nello stradone provinciale che correva diritto e polveroso per più di un miglio sul vasto altipiano tra le campagne terre di pane per la maggior parte gialle ora di stoppie un magnifico pino marittimo sorgeva a sinistra come un gigantesco ombrello meta ai signorotti di Farnia delle consuete loro passeggiate vespertine una lunga giocaia di Monti Azzurrognoli limitava in fondo in fondo l'altipiano dense nubi candenti bambagiose stavano dietro ad essi come in agguato qualcuna se ne staccava vagava lenta per il cielo passava sopra Montemirotta che sorgeva dietro Farnia a quel passaggio il monte si invaporava ad un'ombra cupa violacea e subito si rischiarava la quietesi lentissima della mattina era rotta di tratto in tratto dagli spari dei cacciatori al passo delle tortore o alla prima entrata delle allodole seguiva a quelli spari un lungo furibondo abbaiare dei cani di guardia il dottore andava di buon passo per lo stradone guardando di qua e di là le terre aride che aspettavano le prime piogge per essere lavorate ma le braccia mancavano espirava da tutte quelle campagne un senso profondo di tristezze d'abbandono ecco laggiù la casa della colonna detta così perché sostenuta a uno spigolo da una colonna d'antico tempio greco corrosa e smuzzicata era una catapecchia veramente una roba come i contadini di sicilia chiamano le loro abitazioni rurali protetta dietro da una fitta siepe di fichi d'india aveva davanti due grossi pagliai a cono oh della roba chiamò il dottore che aveva paura dei cani fermandosi davanti a un cancelletto di ferro arrugginito e cadente venne un ragazzotto di circa dieci anni scalzo con una selva di capelli rossastri scoloriti dal sole e un paio di occhi verdognoli da bestiola forastica c'è il cane gli domandò il dottore c'è ma non fa niente tonosce rispose il ragazzo sei figlio di Rocco Turupia tu sì signore dov'è tuo padre scarica il toncime di là tonlemule sul murello davanti la roba stava seduta la madre che pettinava la figliola maggiore la quale poteva aver presso a dodici anni seduta su un secchio di latta con un bambinello di pochi mesi sulle ginocchia un altro bambino ruzzava per terra tra le galline che non lo temevano a dispetto di un bel gallo che impettito drizzava il collo e scoteva la cresta vorrei parlare con Rocco Turupia disse il giovane dottore alla donna sono il nuovo medico del paese la donna rimase un tratto a guardarlo turbata non comprendendo che cosa potesse volere quel medico da suo marito si cacciò la camicia ruvida dentro il busto che l'era rimasto aperto da che aveva finito da allattare il piccino se lo abbottonò e si levò in piedi per offrire una sedia il medico non la volle e si chinò a carezzare il bamboccetto per terra mentre l'altro ragazzo scappava a chiamare il padre poco dopo si intese lo scalpiccio di grossi scarponi imbullettati e di tra i fichi d'india apparve Rocco che camminava curvo con le gambe larghe ad arco e una mano alla schiena come la maggior parte dei contadini il naso largo schiacciato e la troppa lunghezza del labbro superiore raso rilevato gli davano un aspetto scimmiesco era rosso di pelo e aveva la pelle del viso pallida e sparsa di lentigini gli occhi verdastri affossati gli guizzavano a tratti di torvi sguardi sfuggenti sollevò una mano per spingere un po' indietro sulla fronte la berretta nera a calza in segno di saluto baciò le mani a vossignoria che comandi a dodarmi ecco ero venuto cominciò il medico per parlarvi di vostra madre Rocco Trupia si turbò sta male no s'affrittò a soggiungere quello sta al solito ma così vecchia capirete lacera senza cure man mano che il dottore parlava il turbamento di Rocco Trupia cresceva alla fine non poté più reggere di sé signor dottore mi deve dare qualche altro comando sono pronto a servirla ma se vossignoria è venuto qua per parlarmi di mia madre le chiedo licenza me ne torno al lavoro aspettate so che non manca per voi disse il medico per trattenerlo me l'hanno detto che voi anzi venga qua signor dottore salto su a dire Rocco Trupia improvvisamente aditando la porta della roba casa da poverelli ma se vossignoria fa il medico chi sa quante altre ne avrà vedute le voglio mostrare il letto pronto sempre apparecchiato per quella buona vecchia è mia madre non posso chiamarla altrimenti qua c'è mia moglie ci sono i miei figliuoli possono attestarle com'io abbia loro comandato di servire di rispettare quella vecchia come maria santissima perché la mamma è santa signor dottore che ho fatto io a questa madre perché deve svergognarmi così davanti a tutto il paese e lasciar credere di me chissà che cosa io sono cresciuto signor dottore coi parenti di mio padre è vero fin da bambino non dovrei rispettarla come madre perché essa è sempre stata dura con me eppure l'ho rispettata e le ho voluto bene quando quei figliacci partirono per l'america subito corsi da lei per prendermela e portarmela qua come la regina della mia casa no signore deve fare la mendica per il paese deve dare questo spettacolo alla gente e quest'onta a me signor dottore le giuro che se qualcuno di quei suoi figliacci ritorna a Farnia io l'ammazzo per quest'onta e per tutte le amarezze che da 14 anni soffro per loro lo ammazzo come è vero che sto parlando con lei in presenza di mia moglie di questi quattro innocenti fremente più che mai sbiancato in volto Rocco Trupia si forbì la bocca schiumosa col braccio gli occhi gli si erano iniettati di sangue il giovane dottore rimase a guardarlo sdegnato ma ecco poi disse perché vostra madre non vuole accettare l'ospitalità che gli offrite per codesto odio che nutrite contro i vostri fratelli è chiaro odio fece Rocco Trupia serrando le pugni indietro e protendendosi ora sì odio signor dottore per quello che hanno fatto patire alla loro madre e a me ma prima quando erano qua io li amavo e rispettavo come fratelli maggiori e loro invece due caini per me ma senta non lavoravano e lavoravo io per tutti venivano qua a dirmi che non avevano da cucinare la sera che la mamma se ne sarebbe andata a letto digiuna e io davo subriacavano scialacquavano con le donnacce e io davo quando partirono per l'america mi svenai per loro qua c'è mia moglie che glielo può dire e allora perché disse di nuovo quasi a se stesso il dottore Rocco Trupia ruppe in un ghigno perché perché mia madre dice che non sono suo figlio come signor dottore se lo faccio a spiegare da lei io non ho tempo da perdere gli uomini di là mi aspettano con le mule cariche di concime debbo lavorare e guardi mi sono tutto rimescolato se lo faccio a dire da lei bacio le mani e Rocco Trupia se ne andò curvo come era venuto con le gambe larghe ad arco e la mano alla schiena il dottore lo seguì con gli occhi per un tratto poi si voltò a guardare i piccini che erano rimasti come basiti e la moglie questa congiunse le mani e agitandole un po' che so chiudendo amaramente gli occhi emise il sospiro delle rassegnate lasciamo far addio ritornato in paese il dottore volle venire subito in chiaro di quel caso così strano da parer quasi inverosimile e ritrovando la vecchia ancora seduta sullo scalino davanti alla porta della sua casa come l'aveva lasciata la invitò a salire con una certa sprezza nella voce sono stata a parlare con vostro figlio alla casa della colonna poi le disse perché mi avete nascosto che avevate qua quest'altro figlio Maragrazia lo guardò da prima smarrita poi quasi atterrita si passò le mani tremanti sulla fronte e sui capelli e disse ah signorino io sudo freddo se vos signoria mi parla di quel figlio non me ne parli per carità ma perché le domandò adirato il dottore che va fatto dite su nulla mi ha fatto si affrittò a rispondere la vecchia questo debbo riconoscerlo in coscienza anzi mi è sempre venuto appresso rispettoso ma io vede come tremo signorino mio appena ne parlo non ne posso parlare perché quello lì signor dottore non è figlio mio il giovane medico perdette la pazienza proruppe ma come non è figlio vostro che dite siete stolida o matta davvero non l'avete fatto voi la vecchia ragginò il capo a questa sfuriata so chiuse gli occhi sanguigni rispose sì signore e sono stolida forse matta no dio volesse non penerei più tanto ma certe cose vossignoria non le può sapere perché è ancora ragazzo io ho i capelli bianchi sto a penare da tanto tempo io e ne ho viste ne ho viste ho visto cose signorino mio che vossignoria non si può nemmeno immaginare che avete visto insomma parlate le incitò il dottore cose nere cose nere sospirò la vecchia scotendo il capo vossignoria non era allora neanche nella mente di dio e io le ho viste con questi occhi che hanno pianto da allora lacrime di sangue ha sentito parlare vossignoria ad un certo cane bardo garibaldi domandò il medico stordito sì signore che venne dalle nostre parti e fece ribellare ogni legge degli uomini e di dio campagna e città n'ha sentito parlare sì sì dite ma come c'entra garibaldi c'entra perché vossignoria deve sapere che questo cane bardo diede ordine quando venne che fossero aperte tutte le carceri di tutti i paesi ora si figuri vossignoria che ira di dio si scatenò allora per le nostre campagne i peggiori ladri i peggiori assassini vestie selvagge sanguinarie arrabbiate da tanti anni di catena tra gli altri ce n'era uno il più feroce un certo cola camizzi capo brigante che ammazzava le povere creature di dio così per piacere come fossero mosche per provare la polvere diceva per vedere se la carabina era parata bene costui si buttò in campagna dalle nostre parti passò per farna con una banda che si era formata di contadini ma non era contento ne voleva altri e uccideva tutti quelli che non volevano seguirlo io ero maritata da pochi anni e avevo già quei due figliucci che ora sono laggiù in america sangue mio stavamo nelle terre del pozzetto che mio marito sant'anima teneva a mezzadria con la camizzi passò di là e si trascinò via anche lui mio marito a viva forza due giorni dopo me lo vidi ritornare come un morto non pareva più lui non poteva parlare con gli occhi pieni di quello che aveva veduto e si nascondeva le mani poveretto per il ribrezzo di ciò che era stato costretto a fare ah signorino mio mi si voltò il cuore in petto quando me lo vidi davanti così nino mio gli gridai sant'anima nino mio che hai fatto non poteva parlare te ne sei scappato e se ti riafferrano ora ti ammazzeranno il cuore il cuore mi parlava me lì zitto sedette vicino al fuoco sempre con le mani nascoste così sotto la giacca gli occhi da insensato e setto un pezzo a guardare verso terra poi disse meglio morto non disse altro stette tre giorni nascosto al quarto uscì eravamo poverelli bisognava che lavorasse uscì per lavorare venne la sera non tornò aspettai aspettai addio ma già lo sapevo me l'ero immaginato pure pensavo chissà forse non l'hanno ammazzato forse se lo sono ripreso venne a sapere dopo sei giorni che con la camizzi si trovava con la sua banda nel feudo di Montelusa che era dei padri ligurini scappati via ci andai come una pazza c'erano dal pozzetto più di sei miglia di strada era una giornata di vento signorino mio come non ne ho più vista in vita mia si vede il vento eppure quel giorno si vedeva pareva che tutte le anime degli assassinati gridassero vendetta agli uomini e addio mi mise in quel vento tutta strappata ed esso mi portò gridavo più di lui volai ci avrò messo appena un'ora ad arrivare al convento che stava lassù lassù tra tante pioppe nere c'era un gran cortile murato vi si entrava per una porticina piccola piccola da una parte mezzo nascosta ricordo ancora da un grancespo di capperi radicato su nel muro presi una pietra per bussare più forte bussai bussai non mi volevano aprire ma tanto bussai che finalmente mi aprirono ah che vidi a questo punto Maragrazia si levò in piedi stravolta dall'orrore con gli occhi sanguigni sbarrati e allungò una mano con le dita artigliate dal ribrezzo le mancò la voce in prima per proseguire in mano poi disse in mano quegli assassini si arrestò di nuovo come soffocata e agitò quella mano quasi volesse lanciare qualcosa ebbene domandò il dottore allibito giocavano là in quel cortile alle bocce ma con teste d'uomini nere piene di terra le tenevano acciuffate pei capelli e una quella di mio marito la teneva lui con la camizzi e me la mostrò gettei un grido che mi stracciò la gola e il petto un grido così forte che quegli assassini ne tremarono ma come con la camizzi mi mise le mani al collo per farmi tacere uno di loro gli saltò addosso furioso e allora quattro cinque dieci prendendo a ardire da quello gli s'avventarono contro se lo presero in mezzo erano sazi rivoltati anche loro della tirannia feroce di quel mostro signor dottore e io ebbi la soddisfazione di vederlo scarnato lì sotto gli occhi miei dai suoi stessi compagni come assassino la vecchia si abbandonò sulla seggiola sfinita ansimante agitata tutta da un tremito convulso il giovane medico stette a guardarla raccapricciato col volto atteggiato di pietà di ribrezzo e di orrore ma passato il primo stupore come poter ricomporre le idee non seppe comprendere che innesso quella truce storia potesse avere col caso di quell'altro figlio e glielo domandò aspetti rispose la vecchia appena poter riprender fiato quello che prima si ribellò quello che prese le mie difese si chiamava Marco Trupia ah esclamò il medico dunque questo rocco suo figlio rispose Maragrazia ma pensi signor dottore se io potevo essere la moglie di quell'uomo dopo quanto avevo visto mi volle per forza tre mesi mi tenne con sé legata imbavagliata perché io gridavo lo mordevo dopo tre mesi la giustizia venne a scovarlo là e lo richiusa in galera dove morì poco dopo ma rimase incinta ah signorino mio le giuro che mi sarei strappate le viscere mi pareva che stessi a covarci un mostro sentivo che non me lo sarei potuto vedere tra le braccia al solo pensiero che avrei dovuto attaccarmela al petto gridavo come una pazza fui per morire quando lo misi alla luce mi assisteva mia madre sant'anima che non me lo fece neanche vedere lo portò subito dai parenti di lui che lo allevarono ora non le pare signor dottore che io possa dire davvero che egli non è figlio mio il giovane dottore stette un pezzo senza rispondere assorta a pensare poi disse ma lui in fondo vostro figlio che colpa nessuna rispose subito la vecchia e quando mai di fatti le mie labbra hanno detto una parola sola contro di lui mai signor dottore anzi ma che ci posso fare se non resisto a vederlo neanche da lontano è tutto suo padre signorino mio nelle fattezze nella corporatura fin anche nella voce mi metto a tremare appena lo vedo è sudo freddo non sono io si ribella il sangue ecco che ci posso fare atteso un po' asciugandosi gli occhi col dorso delle mani poi temendo che la comitiva degli emigranti partisse da Farnia senza la lettera per i suoi figlioli veri per i suoi figlioli adorati si fece coraggio e disse al dottore ancora assorto se vostra signoria volesse farmi la carità che mi ha promesso e come il dottore riscotendosi le disse che era pronto si accostò con la seggiola alla scrivania e ancora una volta con la stessa voce di lacrime cominciò a dettare cari figli fine della novella l'altro figlio registrazione di Lisa Caputo Palermo La morte addosso dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Lisa Caputo Novelle per un anno di Luigi Pirandello La morte addosso Ah, lo volevo dire lei dunque un uomo pacifico è ha perduto il treno per un minuto sa arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti poteva corrergli dietro già e da ridere lo so bastava santo Dio che non avessi tutti quegli impicci di pacchi pacchetti pacchettini più carico di un somaro ma le donne commissioni commissioni non la finiscono più tre minuti creda appena sceso dalla vettura per dispormi in odini di tutti quei pacchetti alle dita due pacchetti per ogni dito doveva esser bello sa che avrei fatto io li avrei lasciati nella vettura e mie moglie ah sì e le mie figliuole e tutte le loro amiche strillare mi ci sarei spassato un mondo perché lei forse non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura ma sì che lo so appunto perché lo so dicono tutte che non avranno bisogno di niente questo soltanto capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare poi appena arrivano in un paesello qua dei dintorni più brutto è più misero è lercio e più imbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galenterie più vistose e le donne caro signore ma del resto è la loro professione se tu facessi una capatina in città caro avrei proprio bisogno di questo di quest'altro e potresti anche se non ti secca caro il se non ti secca e poi già che ci sei passando di là ma come vuoi cara mia che in tre ore ti sbrighi tutte codeste faccende uh ma che dici prendendo una vettura il guaio è capisce che dovendo trattenermi tre ore sole sono venuto senza le chiavi di casa oh bella e perciò ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione me ne sono andato a cenare in una trattoria poi per farmi svaporare la stizza a teatro si crepava dal caldo all'uscita dico che faccio andarmene a dormire in un albergo sono già le dodici alle quattro prendo il primo treno per tre orette di sonno non vale la spesa e me ne sono venuto qua questo caffè non chiude è vero non chiude non signore e così ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione perché non sono sicuri erano tutti ben legati no no non dico eh ben legati me l'immagino con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta che mani un bel foglio grande di carta doppia rosea levigata che per se stessa un piacere a vederla così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza la stendono sul banco e poi con garbo disinvolto vi collocano su in mezzo la stoffa lieve ben ripiegata levano prima da sotto col dorso della mano un lembo poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una riboccaturina come un di più per amore dell'arte poi ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte allungano una mano alla scatola dello spago tirano per farne scorrere quanto basta a legarli in volto e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo d'ammirare la loro bravura che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito eh si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio io caro signore giornate intere ci passo sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina mi ci dimentico mi sembra d'essere vorrei essere veramente quella stoffa là di seta quel bordatino quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria dopo averlo misurato sul metro ha visto come fanno se lo raccolgono a numero 8 intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l'involto o appeso al dito o in mano o sotto braccio li seguo con gli occhi finché non li perdo di vista immaginando oh quante cose immagino lei non può farsene un'idea ma mi serve mi serve questo le serve scusi che cosa? attaccarmi così dico con l'immaginazione attaccarmi alla vita come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione aderire aderire con essa continuamente alla vita degli altri ma non della gente che conosco no no a quella non potrei ne provo un fastidio se sapesse una nausea alla vita degli estranei intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente ma non a capriccio anzi tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello e sapesse quanto e come lavora fino a quanto riesco ad addentrarmi vedo la casa di questo e di quello ci vivo ci respiro fino ad avvertire sa quel particolare alito che cove in ogni casa nella sua nella mia ma nella nostra noi non l'avvertiamo più perché è l'alito stesso della nostra vita mi spiego eh vedo che lei dice di sì sì perché dico deve essere un bel piacere questo che lei prova immaginando tante cose piacere io già mi figuro ma che piacere mi dico un po' è stato mai a consulto da qualche medico bravo io no perché non sono mica malato no no glielo domando per sapere se ha mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati ah sì mi toccò una volta accompagnare una mia figliuola che soffriva di nervi bene non voglio sapere dico quelle sale ci ha fatto attenzione quei divani di stoffa scura di foggia antica quelle seggiole imbottite spesso scompagne quelle poltroncine è roba comprata di combinazione roba di rivendita messa lì per i clienti non appartiene mica alla casa il signor dottore ha per sé per le amiche della sua signora un ben altro salotto ricco splendido chissà come striderebbe qualche seggiola qualche poltroncina di quel salotto portata qua nella sala dei clienti a cui basta quell'arredo così alla buona vorrei sapere se lei quando andò per la sua figliuola guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto aspettando io no veramente eh già perché lei non era malato ma neanche i malati spesso ci badano compresi come sono del loro male eppure quante volte certuni stanno lì intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciuolo lustro di quella poltrona su cui stanno seduti pensano e non vedono ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita riattraversando la sala il rivederla seggiola su cui poc'anzi in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto stavamo seduti ritrovarla occupata da un altro cliente anch'esso col suo male nascosto o là vuota impassibile in attesa che un altro qualsiasi venga a occuparla ma che dicevamo ah già il piacere dell'immaginazione chissà perché ho pensato subito a una seggiola di queste sale di medici dove i clienti stanno in attesa del consulto già veramente non capisce neanche io ma è che certi richiami d'immagini tra loro lontane sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da ragioni ed esperienze così singolari che l'uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassimo di farne uso niente di più illogico spesso di queste analogie ma la relazione forse può essere questa guardi avrebbero piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a seder su loro in attesa del consulto che male covi dentro dove andrà che farà dopo la visita nessun piacere e così io nessuno vengono tanti clienti ed esse sono là povere seggiole per essere occupate ebbene è anche un'occupazione simile la mia ora mi occupa questo ora quello in questo momento mi sta occupando lei e creda che non provo nessun piacere del treno che ha perduto della famiglia che l'aspetta in villeggiatura di tutti i fastidi che posso supporre in lei tanti sa ringrazi Dio se sono fastidi soltanto c'è chi ha di peggio caro signore io le dico che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui ma così senza piacere senza punto a interessarmene anzi anzi per sentirne il fastidio per giudicarla sciocca e vana la vita cosicché veramente non debba importare a nessuno di finirla e questo è da dimostrare bene sa con prove ed esempi continui a noi stessi implacabilmente perché caro signore non sappiamo da che cosa sia fatto ma c'è c'è ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gola il gusto della vita che non si soddisfa mai che non si può mai soddisfare perché la vita nell'atto stesso che la viviamo è così sempre ingorda di se stessa che non si lascia assaporare il sapore è nel passato che ci rimane vivo dentro il gusto della vita ci viene di là dai ricordi che ci tengono legati ma legati a che cosa a questa sciocchezza qua a queste noie a tante stupide illusioni insulso occupazioni sì sì questa che ora qua è una sciocchezza questa che ora qua è una noia e arrivo fin anche a dire questa che ora è per noi una sventura una vera sventura sì signori a distanza di quattro cinque dieci anni chi sa che sapore acquisterà che gusto queste lacrime e la vita per dio ha il solo pensiero di perderla specialmente quando si sa che è questione di giorni ecco vede là dico là a quel cantone vede quell'ombra malinconica di donna ecco se è nascosta come chi chi è che non l'ha vista se è nascosta una donna mia moglie già la sua signora mi sorveglia da lontano e mi verrebbe creda ad andarla a prendere a calci ma sarebbe inutile è come una di quelle cagne sperdute ostinate che più lei le prende a calci e più le si attaccano alle calcagne ciò che quella donna sta soffrendo per me lei non se lo può immaginare non mangia non dorme più mi viene appresso giorno e notte così a distanza e si curasse almeno di spolverarsi quella ciabatta che tiene in capo gli abiti non pare più una donna ma uno strofinaccio le si sono impolverati per sempre anche i capelli qua sulle tempie e da appena 34 anni mi fa una stizza che lei non può credere le salto addosso certe volte le grido in faccia stupida scrollandola si piglia tutto resta lì a guardarmi con certi occhi con certi occhi che le giuro mi fa venire qua alle dita una selvaggia voglia di strozzarla niente aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi ecco guardi sporge di nuovo il capo dal cantone povera signora ma che povera signora vorrebbe capisce che io me ne stessi a casa mi mettessi là fermo placido come vuole lei a prendermi tutte le sue più amorose sviscerate cure a goder dell'ordine perfetto di tutte le stanze della lindura di tutti i mobili di quel silenzio di specchio che c'era prima in casa mia misurato dal tic tac della pendola nel salotto da pranzo questo vorrebbe io domando ora a lei per farle intendere l'assurdità ma no che dico l'assurdità la macabra ferocia di questa pretesa le domando se crede possibile che le case d'Avezzano le case di Messina sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate avrebbero potuto starsene lì tranquille sotto la luna ordinate in fila lungo le strade e le piazze obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale case per dio di pietre e travi se ne sarebbero scappate immagini i cittadini d'Avezzano i cittadini di Messina spogliarsi tranquilli per mettersi a letto ripiegare gli abiti metter le scarpe fuori del luscio e cacciandosi sotto le coperte godere del candor fresco delle lenzuola di bucato con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti le sembra possibile ma forse la sua signora mi lasci dire se la morte signor mio fosse come uno di quegli insetti strani schifosi che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso lei passa per via un altro passante all'improvviso lo ferma e cauto con due dita protese le dice scusi permette lei egregio signore ci ha la morte addosso e con quelle due dita protese gliela piglia e gliela butta via sarebbe magnifica ma la morte non è come uno di questi insetti schifosi tanti che passeggiano disinvolti alieni forse ce l'hanno addosso nessuno la vede ed essi pensano intanto tranquilli a ciò che faranno domani o doman l'altro ora io caro signore ecco venga qua qua sotto questo lampione venga le faccio vedere una cosa guardi qua sotto questo baffo qua vede che bel tubero violaceo sa come si chiama questo ah un nome dolcissimo più dolce di una caramella epitelioma si chiama pronunzi pronunzi sentirà che dolcezza epitelioma la morte capisce è passata mi ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto tientelo caro ripasserò fra otto o dieci mesi ora mi dica lei se con questo fiore in bocca io me ne posso stare a casa tranquillo e alieno come quella disgraziata vorrebbe le grido ah si e vuoi che ti baci si baciami ma sai che ha fatto con uno spillo l'altra settimana si è fatto uno sgraffio qua sul labbro e poi mi ha preso la testa mi voleva baciare baciare in bocca perché dice che vuol morire con me è pazza a casa io non ci sto ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe io ad ammirare la bravura dei giovani di negozio perché lei lo capisce se mi si fa un momento di vuoto dentro lei lo capisce posso anche ammazzare come niente tutta la vita in uno che non conosco cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei per disgrazia abbia perduto il treno no no non tema caro signore io scherzo me ne vado ammazzarei me semmai ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche come le mangia lei con tutta la buccia è vero si spaccano a metà si premono con due dita per lungo come due labbra succhiose ah che delizia mi ossegui la sua egregia signora e anche le sue figliuole in villeggiatura me le immagino vestite di bianco e celeste in un bel prato verde in ombra e mi faccio un piacere domattina quando arriverà mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione all'alba lei può far la strada a piedi il primo c'è spuglietto d'erba sulla proda ne conti fili per me quanti fili saranno tanti giorni ancora io vivrò ma lo scelgà bello grosso mi raccomando buona notte caro signore la morte addosso palermo va bene prima parte dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di EGI novelle per un anno di Luigi Pirandello va bene prima parte capitolo 1 stato di servizio fino a di 5 marzo del 1904 a Sorrento da Corvara Francesco Aurelio e Florida Amidei nella notte dal 12 al 13 febbraio dell'anno 1861 nasce Cosmo Antonio Corvara Amidei e subito è accolto male a sculacciate preso per i piedi dalla levatrice e tenuto per qualche momento a testa giù perché quasi strozzato a causa delle doglie stanche della madre è entrato nel mondo senza strillare Botte finché non strilla entrando bisogna strillare dal 13 febbraio del 1861 al 15 di marzo del 1862 5 balie la prima e la seconda cambiate perché scarse di latte la terza perché nel fargli il bagno una mattina lo tuffa nell'acqua ancora quasi bollente scordandosi di temperarla scottatura di secondo grado è per morirne Dio misericordioso non vuole ma gli muore invece la madre la quarta balia lo lascia cadere tre volte dal letto e non di più e gli fa poi ruzzolare la scala insieme con lei una volta sola ferite di poco conto la più grave rottura dell'osso del naso a nove anni dopo aver sofferto tutte le malattie che sono come i gradini per cui dalla tenera infanzia con l'aiuto del medico da un lato e del farmacista dall'altro si sale alla vispa fanciullezza Cosmo Antonio Corvara Amidei animato da fervido zelo religioso entra in seminario pochi giorni prima d'entrarvi seguendo alla lettera una delle sette opere corporali di misericordia s'era sfogliato d'un bell'abituccio nuovo che il babbo gli aveva portato da Napoli ne aveva vestito un povero ragazzetto che se ne stava sulla spiaggia ignudonato ed era ritornato a casa col solo berrettino da marinaio in capo in compenso il babbo gli aveva detto tante belle cose imbecille somaro scimonito e gli aveva carezzato con tanto slancio gli orecchi che per miracolo non gliele aveva strappati in seminario Cosmo Antonio Corvara Amidei studia e attende alle pratiche religiose con grandissimo fervore tanto che a sedici anni minaccia di dare in tisico Tutto a un tratto però quando ha già preso i primi ordini religiosi gli avviene di impuntarsi in questo passo del trattato de grazia Si quis diccerit gratiam perseveranzie non esse gratis datam anatema sit Perché la perseveranza per il caso che qualcuno volesse saperlo è secondo la teologia cattolica cristiana una grazia che Dio concede a chi vuol salvare senza attenzione ai meriti o ai demeriti del salvando Deus libere movet dice Sant'Ommaso Cosmo Antonio Corvara Amidei ci ragiona su ben bene parecchie settimane e una notte alla fine viene sorpreso in camicia con una candela in mano infocato in volto con gli occhi sbarrati brillanti di febbre che va cercando per il dormitorio una chiave che chiave la chiave della perseveranza è ammattito per fortuna gli sopravviene la meningite esce dal seminario un mese tra la vita e la morte quando alla fine può riaversi ha perduto la fede ma pare che abbia perduto anche tante altre cose i capelli intanto la parola un po' anche la vista non si ricorda più di nulla e sta circa un anno intronato e come levato di cervello si riscuote a furia di trombate d'acqua alla schiena e a 22 anni e qualche mese può presentarsi agli esami di licenza liceale e andare a Napoli all'università per addottorarsi in lettere e filosofia calvo mezzo cieco e col naso schiacciato dalla caduta infantile nell'ottobre del 1887 ottiene per concorso il posto di reggente nel ginnasio inferiore di Sassari i ragazzi si sa sono vivaci il professore è brutto e non ci vede molto dunque Baldoria e per conseguenza continue riprensioni del direttore del ginnasio al subalterno che non sa tenere la disciplina ma anche per le vie di Sassari il professor Cosmo Antonio Corvara Amidei è sbeffeggiato da tutti i monelli finché non viene un collega Dolfo Dolfo professore di scienze naturali che prende a proteggerlo in scuola e fuori anzi fa di più lo invita ad accasarsi con lui novembre del 1888 Dolfo Dolfi entra tardi nell'insegnamento senza titoli senza concorso per protezione di un deputato autorevolissimo dopo aver fatto l'esploratore in Africa e per 30 anni a Genova il giornalista si è battuto una decina di volte e ne ha prese e ne ha date più date che prese è libero pensatore e ha con sé una figliuola naturale a cui ha imposto questo magnifico nome Satanina protetto da Dolfo Dolfi Cosmo Antonio Corvara Amidei vorrebbe finalmente rifiatare ma non può il suo protettore non gliene lascia il tempo gli parla dei suoi viaggi delle sue campagne giornalistiche dei suoi duelli gli narra le sue innumerevoli straordinarie avventure e vuole anche discutere con lui di filosofia di religione eccetera eccetera bestialità con tanto di petto in fuori nota bene Dolfo Dolfi ha la faccia piena di nei e parlando se li arriccia tutti una gamba qua una gamba là Cosmo Antonio Corvara Amidei si fa piccino piccino man mano che quegli le sballa più grosse e approva approva senza mai contraddire egli ormai è ben protetto non si nega gli alunni e i monellacci di strada per paura del Dolfi lo lasciano in pace ma è vero altresì che egli non è più padrone di sé del suo tempo del suo misero stipendiuccio di professore di ginnasio inferiore se ha bisogno imprescindibile di qualche soldino deve domandarlo a satanina e la ragazza che ha già quindici anni e fa da mammina glielo dà con gran mistero raccomandandogli di non farne sapere nulla per carità al bambino che altrimenti vorrebbe anche lui la sua parte per i minuti piaceri e dove s'andrebbe a finire buona ragazza satanina tanto che Cosmo Antonio Corvara Amidei vorrebbe chiamarla più brevemente e graziosamente Nina Ninetta ma Dolfo Dolfi non vuole che Nina che Ninetta Satana si chiama Satana salute o Satana o ribellione o forza vindice della ragione si va avanti così tre anni tutti domandano al professor Corvara Amidei come faccia a andar d'accordo con quella bufera d'uomo che è il professor Dolfo Dolfi egli si stringe nelle spalle apre le mani e abbozza un sorriso squallido socchiudendo gli occhi perché con quella domanda è facile intenderlo la gente vorrebbe farlo capace della sua imbecillità eh sì Cosmo Antonio Corvara Amidei in fondo sarebbe anche disposto a ammettere la propria imbecillità non è però al tutto convinto giacché a pensarci bene ti pare che sia forse alquanto più imbecille di lui la vita in genere ecco e che non valga perciò la pena d'essere o d'apparire accorti o scaltri massime quando essa dimostri con tanta perseveranza l'impegno di volerla proprio pigliare coi denti contro di uno in questo caso bisogna lasciarla fare la vita che un fine forse nascosto lo ha e se non ha un fine avrà pure una fine questo è certo l'ebbe di fatti un bel giorno ed improvviso la fine ma non per lui ahimè per il professor Dolfo Dolfi colpo apoplettico fulminante mentre faceva lezione 16 marzo 1891 Cosmo Antonio Corvara Amidei ne rimane esterrefatto non se l'aspettava gli pare che la casa sia diventata un tratto vuota misteriosamente vuota perché nessun oggetto in essa ha un barlume d'anima un qualche ricordo intimo per lui e sembra invece che stia là triste aspettar colui che non potrà più ritornare satanina piange inconsolabile egli dapprima non si prova nemmeno a consolarla stimando che ogni sua parola sarebbe vana ma poi il direttore del ginnasio i colleghi gli domandano come intenda di regolarsi con quella povera orfana rimasta così in mezzo a una strada senza diritto a pensione senza alcun parente né prossimo né lontano il professor Corvara Amidei risponde subito che se la terrà con sé c'è bisogno di dirlo le farà lui da padre che diamine tanto il direttore del ginnasio quanto i colleghi a questa sua risposta alzano le spalle e socchiudono gli occhi sospirando come non ne sono contenti non pare loro ben fatto il professor Corvara Amidei s'allontana sconcertato ne parla satanina e con suo sommo stupore sente rispondersi anche da lei che non è possibile che la non può più ormai rimanere con lui che le conviene andar via al più presto anzi subito dove all'avventura e perché il perché glielo spiegano poco dopo i colleghi ha poco più di trent'anni il professor Corvara Amidei e satanina già diciotto dunque non così vecchio ancora lui da farle da padre né così giovane a lei da essere semplicemente sua figlia chiaro ma il professor Corvara Amidei si guarda prima la punta delle scarpe poi quella delle dita si prova a inghiottire intendono forse i suoi colleghi che gli dovrebbe sposar satanina appena quest'idea gli balena rimane come basito poi sorride amaramente via glielo dicono per scherzo si vede costretto a riparlare con satanina per convincerla che commetterebbe una pazzia una vera pazzia andarsene come la dice all'avventura e allora anche lei satanina gli fa intendere che a un solo patto potrebbe rimanere con lui a patto sì signore di diventare sua moglie cosmo antonio corvara amidei teme di impazzire o che tutti si siano messi d'accordo per fargli una beffa atroce non riesce in alcun modo a capacitarsi come quella giovinetta possa sentire sul serio la necessità di diventare sua moglie quasi che davvero la convivenza con lui possa dar pretesto a charle in paese ma possibile che tal necessità non le appaia quasi grottesca e a ogni modo ripugnante va a guardarsi allo specchio si vede anche più brutto di quel che non sia ingiallito dai patimenti e dalla miseria squallido calvo quasi cieco pensa a lei a satanina così giovine così fresca così florida e ha come una vertigine sua moglie possibile si reca a ridomandarglielo balbettando e satanina sì signore gli risponde di sì senza arrossire e che anzi se egli vi fosse disposto ella gliene serberebbe eterna gratitudine cosmo antonio corvara amidei si mette allora a piangere come un bambino facendole con la mano cenno di tacere per carità grata lei ma che dice e allora lui una tal gioia dunque gli serbava la sorte come crederci per più giorni il professor corvara amidei non può articolar parola le nozze si debbono frettare sia per la considerazione che i due fidanzati sono costretti a vivere insieme sotto lo stesso tetto sia per la speranza del direttore del ginnasio che esse valgano a scuotere il professore dal beato estupidimento in cui è caduto ma questa speranza riesce vana dopo le nozze celebrate solo civilmente 14 marzo 1892 non potendo il professor corvara amidei sposare anche davanti a dio per i suoi precedenti impegni con la chiesa l'estupidimento cresce con la beatitudine quel che tanti anni di sofferenze non han potuto può tutto un tratto la gioia cosmo antonio corvara amidei dimentica la grammatica latina dimentica tutto diventa proprio inetto a ogni cosa non vede che satanina non pensa che a satanina non sogna che satanina non attenderebbe più neanche a cibarsi se satanina stessa non ve lo costringesse tanto gli basta la gioia di vedersela davanti ridente e vorace le darebbe da mangiare anche le sue misere carni se le stimasse degne dei dentini di lei intanto Dolfo Dolfi non c'è più per tenere a freno gli scolaretti in scuola e i monellacci in strada e la gazzarra è scoppiata in classe e fuori più indiavolata che mai il direttore del ginnasio ne è furibondo raffibbia al subalterno le più dure riprensioni ma che possono giovare il professor Corvara Midei lo guarda sorridente come se non fossero rivolte a lui allora satanina si vede costretta a scrivere a quel deputato tanto amico e protettore della buonanima di suo padre scongiurandolo di far valere la sua cresciuta autorità perché il professor Corvara Midei si è tolto subito dall'insegnamento e chiamato invece a prestare servizio più tranquillo o in qualche biblioteca o al ministero della pubblica istruzione così due mesi dopo Cosmo Antonio Corvara Midei con molto dispiacere dei suoi scolaretti che in fin dei conti gli vogliono un gran bene ma con piacere grandissimo del direttore del ginnasio e dei colleghi parte per Roma comandato al ministero satanina è incinta e soffre molto durante il viaggio di mare ma non ci pensa più appena sbarcata civita vecchia tal gioia le suscita il rimetter piede nel continente il pensiero di Roma vicina ah che bollore improvviso alza il sangue del padre avventuroso nelle vene di lei al ministero il professore Corvara Midei è relegato nella stanza degli scrivani come correttore ma non corregge nulla quei miseri impiegatucci alla giornata han fiutato subito con chi hanno da fare fosse putacaso un vecchio ladro di bella reputazione allora sì inchini e scappellate ma un povero galantuomo di quella fatta perché rispettarlo del resto non gli fanno nulla qualche scherzetto innocente per passare il tempo quando mancano le pratiche da ricopiare degli errori poi che si commettono ricopiando la colpa si sa è appioppata lui al professor Corvara Midei mi raccomando signori miei lasciatemi rivedere le carte attenzione lei ragione con una g sola la scriva per piacere mi raccomando meglio abbondare professore meglio abbondare quando si tratta di ragione e va bene sospira il professor Corvara Midei stringendosi nelle spalle allungando il collo e socchiudendo gli occhi dietro le lenti doppie da miope che paiono due fondi di bottiglia gli scrivani ogni qual volta gli sentono emettere questo sospiro e va bene scoppiano a ridere a coro perché il professor Corvara Midei non ci ha fatto mai caso ma ripete frequentissimamente quando qualche cosa gli va proprio male quel suo e va bene e ormai tutti quegli scrivani fra loro non lo chiamano altrimenti che il professor va bene quando egli viene a saperlo si stringe nelle spalle sorridente allunga il collo socchiude gli occhi è proprio lì lì per sospirar ah ecco dunque è vero sì ha preso questo vezzo senza accorgersene per la lunga abitudine di rassegnarsi ai colpi del destino avverso ma ormai ormai un compenso a tutto ciò che ha sofferto a tutto ciò che gli toccherà forse a soffrire ancora lo ha e non gli importa più di nulla lo sbeffeggino pure tutti gli scrivani del mondo lo chiamino va bene va male va zero come che sia egli ha ora satanina e se ne infischia a lei dal ministero ti è infisso di continuo il pensiero e quasi la vede là nelle stanze dell'umile casetta presa a pigione in via san nicolò da tolentino il 15 di agosto del 1893 satanina dà felicemente alla luce un maschietto dolfino fra l'esultanza quasi delirante un solo piccolo guaio satanina non si sente di allattare da sé il figliuolo e dolfino è messo a balia lontano in un paesello della sabina pazienza vuol dire che d'ora in poi il professor Corvara Amidei farà a meno del sigaro del caffè e di qualche altra coserella per pagar le spese del baliatico quando il salto in banco tra l'accorato stupore della folla raccolta intorno fa lavorare un suo pagliaccetto gracile pallido come grida ancora più difficile signori stiano a vedere si passa un esercizio ancora più difficile quanti esercizi dalla nascita in poi il destino saltimbanco non aveva fatto eseguire a cosmo Antonio Corvara Amidei suo pagliaccetto ma il più difficile ancora non gliel'aveva fatto eseguire aspettava il giorno 20 maggio dell'anno 1894 con un cartoccio di schiumette sotto il braccio quanto piacciono le schiumette a satanina il professor Corvara Amidei rincasa quel giorno al solito alle ore 18 e mezzo precise sale la scala interminabile trae il chiavino cerca e trova a tasto il buco della serratura apre entra satanina non è in casa e dov'è? ella non suole mai andar fuori a quell'ora qualcosa certamente deve esserle accaduta perché né la tavola del salottino da pranzo è apparecchiata né in cucina c'è alcunché preparato per il desinare i fornelli spenti e tutto in ordine come a mezzogiorno ha dovuto lasciarlo la servetta che tengono a mezzo servizio per la spesa e la pulizia di casa ma che mai può essere accaduto a satanina forse qualche improvvisa chiamata dalla balia di Dolfino e sarebbe partita così senza neppure avvertirlo al ministero ridiscende la scala quant'è lunga per domandare al portinaio qualche notizia né domanda anche ai bottegai lì presso alla servetta del pigionale che gli sta accanto nessuno sa nulla su in casa non può resistere a lungo al contrasto fra la confusione che ha nell'animo e l'ordine e la quiete delle tre stanzette le quali pare stieno a aspettare con tutti i mobili che la placida vita consueta seguiti a svolgersi fra loro esce dapprima senza meta in cerca poi si reca al telegrafo e spedisce alla balia di dolfino un telegramma d'urgenza con risposta pagata seguita a gironzolare di qua e di là dove lo portano i piedi con la testa che gli gira come un molino e non si accorge neppure che si è fatto buio quando gli pare che il telegramma di risposta non possa ormai più tardare di molto rincasa con la speranza di trovare su satanina ma il portinaio gliela leva subito e allora egli si sente così stanco così stanco da non saper come fare a risalire ancora una volta tutta quella scala come dio vuole ci riesce entra al buio al buio perviene nella camera da letto al buio rimane a attendere sprofondato in una poltrona gli pare a un certo punto che un ronzio strano si sia messo a turbinargli dentro nel capo nel ventre fin nelle piante dei piedi e nei ginocchi sommovendo sconvolgendo attirando nella sua furia pensieri e sentimenti ma quando di lì a poco intronato si reca la finestra per spiare se qualche fattorino del telegrafo si faccia alla porta di casa s'accorge che quel ronzio turbinoso proviene eh maledetta da una lampada elettrica che si è stizzita giù in mezzo alla via all'alba arriva finalmente la risposta della balia negativa l'ultimo filo di speranza così è spezzato poche ore dopo viene la servetta per far la spesa giornaliera e rimettere in ordine la casa è una toscanina tozza ma svelta muso duro e linguacciuta ben alzato non c'è le annunzia con aria stralunata e con faccia cadaverica il padrone da ieri via oh che mi dice il professor corvaramidei apre le braccia poi si cala pian piano a sedere su una seggiola e rimane lì come nebetito aggiunge tutta la notte oh dove mai la può essere andata il professor corvaramidei apre di nuovo le braccia che provi un po' sor padrone gli suggerisce allora quella che provi un po' a cercarla giù dove stanno quei certi un so son forastieri che fan le pitture so d'uno che le faceva un so il ritratto il professor corvaramidei si scuote la guarda un po' a lei il ritratto a lei e quando credevo che lo sapesse ma sì la sora padrona ci andava ogni mattina ci andava e poi il dopo pranzo egli rimane a bocca aperta poi comincia a passarsi le mani nocchierute sulle gambe pian piano zitto vuole sor padrone che vada giù io a sentire in due salti conosco lui il pittore francese egli par che non senta e la servetta allora scappa via in capo a pochi minuti e su di nuovo affocata ansimante appena può trar fiato eh mi pareva assai esclama ito via anche lui da ieri sì che via o incide il professor corvar amidei seguita a star muto col volto immobile da ebete e a passarsi meccanicamente le mani sulle gambe la servetta sta un pezzo a mirarlo impietosita poi esclama tra sé alludendo alla padrona imbecille va poteva starsene qua col su sposo che la trattava o sì per benino tranquillo là poe romo come una tartaruga su via sor padrone si faccia animo su un stia o sì si dia uno sfogo ignorantaccia sa l'amore sa con me le come il latte messo al fuoco che prima si gonfia poi alza il bollo e scappa via su su coraggio si provi un po' a votarsi il core sor padrone un stia o sì ma il professor corvar amidei a queste ingenue amorevoli esortazioni tentenna appena il capo non dice nulla non piange perché non gli importa di far conoscere che soffre non vuole intenerire né chieder conforto o commisorazione è stupito in fondo di non provare tutto quel cordoglio che forse qualche volta aveva pensato di dover provare se satanina o l'amore di lei per un caso atroce imprevedibile gli fossero venuti a mancare ed ecco nulla invece nulla nulla s'aspettava forse che il mondo dovesse crollare o lui perlomeno restarne fulminato ed ecco invece nulla nulla egli ora può licenziare la serva pagarle il resto della mesata rispondere anche alle altre esortazioni che la gli fa nell'andarsene col suo solito e va bene e va bene rimasto solo però rimessosi a sedere s'accorge tutta un tratto che non ha più voglia neppure d'alzare un dito e che il mondo dunque davvero è crollato per lui ma così quietamente senza parere le sedie stanno lì l'armadio sta lì il letto lì ma perché farne più ormai egli ora si stropiccia un po più forte le gambe con ambo le mani istintivamente perché si sente preso dal freddo da un freddo curioso alle ossa invadente ma non si muove ripete fra sé quelle poche notizie che gli ha dato la servetta il ritratto il pittore francese ci andava ogni mattina e ora comincia a battere anche i denti seguitando a stropicciarsi più forte senza saperlo le gambe che gli ballano quelle tre idee del ritratto del pittore francese e di lei che ci andava ogni mattina gli si fissano nel cervello come tre stellette di carta di quelle che pigliano vento e girano gli sannebbia la vista trema tutto perde i sensi casca dalla seggiola e resta lì siamo nel marzo del 1904 sono passati nove anni e dieci mesi il professor Corvara Amidei non si ricorda più quasi d'essere stato lì lì per morire all'ospedale allora dopo quell'esercizio ancora più difficile il pensiero del figlioletto lontano là in un paesello della Sabina lo ha salvato ora egli lo ha con sé Dolfino ma il povero ragazzo che ha già dieci anni e par che li abbia proprio per forza tirati tirati su dalle più minuziose cure del babbo il povero ragazzo corre ahimè il rischio di aver la stessa fortuna del padre o forse no si spera perché così gracile così miserino com'è sembra accenni piuttosto di volersene andare dello stesso male di cui il babbo fu minacciato da ragazzo quando era al seminario Dolfino sapeva fino all'età di otto anni che la mamma sua era morta nel darlo alla luce ma due anni fa un bel giorno mentre il padre si trovava all'ufficio aveva veduto entrare in casa una certa signora vestita alla bizzarra incipriata imbellettata la quale fra molte lacrime aveva avuto il piacere di assicurargli che non era vero niente perché la mamma sua invece eccola qua viveva ancora era lei proprio lei che gli voleva bene oh tanto e voleva star sempre con lui e curarlo e carezzarlo giorno e notte così come faceva ora così il figlietto suo bello il figlietto suo caro se non che la balia che lo aveva allevato e che rimasta vedova e sola era venuta a trovarlo per star con lui da governante ora e da serva rientrando in casa con la spesa giornaliera s'era scagliata addosso a quella femmina le aveva strappato il ragazzo dalle braccia e il povero dolfino atterrito aveva sentito ripetere dalla sua balia a colei che si diceva sua madre turpi parole per cui le due donne erano venute alle mani e ne era seguita una scena orribile dopo la quale egli aveva dovuto mettersi a letto assalito da una violentissima febbre Cosmo Antonio Corvara Amidei s'era recato in questura a denunziare quella trista donna che non contenta di tutto il male fatto a lui voleva farne dell'altro al figliuolo innocente satanina che fin dall'età di 18 anni alla morte del padre voleva andarsene come si sa all'avventura fuggita col pittore francese che le faceva il ritratto era stata quattro anni a Parigi poi a Nizza poi a Torino poi a Milano cadendo man mano sempre più nel fango pochi giorni dopo il suo arrivo a Roma era stata veduta dal marito il quale nello scorgerla in quello stato quantunque già se lo fosse immaginato s'era sentito mancare in mezzo alla via ed era stato condotto in una farmacia sorretto per le ascelle egli era già caduto in mano d'un certo prete sardo conosciuto a Sassari per nome Don Melchiorre Spanu il quale s'era fisso il chiodo di ricondurre all'ovile quella pecorella da tant'anni smarrita gli dava a leggere nelle interminabili ore d'ufficio libri e libri e libri d'argomento religioso gli dimostrava con le più lampanti prove che unica e sola causa di tutte le sciagure sofferte era l'indegno modo con cui egli in gioventù s'era regolato con la santa madre chiesa e che non per nulla certo Dio pareva si volesse raccogliere ora nella sede degli angeli dei beati quel caro ragazzo quel buon dolfino insomma era un sacro ammonimento questo perché il professor Corvara Amidei l'apostata rimasto solo si fosse indotto a entrare in qualche convento per esempio in quello della trappa alle tre fontane santo luogo santo luogo quello che proprio ci voleva per far penitenza sentendo questi discorsi il professor Corvara Amidei si stringeva nelle spalle protendeva il collo socchiudeva gli occhi e ripeteva ancora una volta e va bene certi giorni all'uscita dal ministero lo attendevano Don Melchiorre Spano di qua sui gradini di Santa Maria della Minerva la moglie di là appoggiata maestosamente alla ringhiera del Pantheon i due si lanciavano da lontano occhiatacce fulminanti il prete stropicciandosi le dita sul mento e sulle guance dove le ispide punte della barba pareva gli rinascessero ogni volta sotto il raschiamento del rasoio la donna con un sogghignetto perfido sulle labbra dipinte il professor Corvara Midei uscendo ogni sera sulla piazza volgeva uno sguardo obliquo a quella ringhiera dove di solito si appostava la moglie ma andava diviato al prete pur sapendo che quella in via a piedi marmo lo avrebbe senza dubbio raggiunto per chiedergli un po' di denaro che gli non sapeva negarle le aveva già negato più volte il perdono sdegnosamente a ogni nuovo assalto per prevenire le rampogne del prete si accostava a lui sospirando con la solita mossa e stropicciandosi per di più le mani e va bene e va bene intanto era prossima la primavera stagione più delle altre nociva ai malati di petto e il medico aveva consigliato al professor Corvara Midei di condurre Dolfino al mare almeno per il primo mese durante il quale l'aria di Roma sarebbe stata per lui troppo sottile così Cosmo Antonio Corvara Midei domandò un mese di licenza e il dì 5 di marzo del 1904 si recò a Nettuno per appigionarvi un quartierino alla vista del mare fine prima parte della novella va bene registrazione di EGI Pesaro www.anobi.com slash due slash books va bene seconda parte dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di EGI novelle per un anno di Luigi Pirandello va bene seconda parte capitolo 2 la pigna la promessa di quel mese di sollievo e di riposo non poteva essere migliore era piovuto fino al giorno avanti ora con la freschezza del primo limpido sole di marzo pareva che la primavera volesse dire son qua e veramente al professor Corvara Amidei affacciato al finestrino di una vettura di terza classe parve di intravederla la primavera appena uscito dalla stazione alle porte di Roma la primavera in un non so che di roseo fuggevole e palpitante tra il tenero verde dei prati che era forse un gruppo di peschi fioriti sì sì eccone un altro e un altro la primavera ah da quanto tempo non l'aveva più veduta così nel suo primo nascere con quel roseo riso dei peschi trasse un lungo sospiro e si sentì da quell'aria nuova inebriare di un'ebbrezza così limpida e pura che lo intenerì fino alle lagrime gli parve una grazia che la sorte nemica gli volesse concedere quella vista deliziosa da cui gli veniva una letizia così arcana che ora ecco non sapeva perché pur lì presente gli pareva dei lievi anni lontani della sua fanciullezza là nell'incanto del suo paese nativo e dimenticò allora per un momento tutte le sue sciagure passate e presenti il figliuolo tanto malato quella donnaccia che lo disonorava quel prete che lo primeva la spesa superiore alle sue misere condizioni alla quale bisognava pur sottomettersi per la speranza forse vana ahimè di recar bene adolfino la noia cupa amara il peso enorme di quella sua insopportabile esistenza di contro a tutto il nero che aveva nell'anima ecco il verde dei prati l'azzurro del cielo e quella soave freschezza dell'aria alito vivo della primavera e rimase incantato a mirare sì poteva poteva essere bella la vita ma lì in mezzo a quel verde all'aperto dove la sorte crudele certo non poteva esercitare come in città la sua feroce persecuzione di questa persecuzione per le opprimenti vie cittadine egli aveva quasi un'immagine tangibile se la sentiva realmente dietro le spalle come un'ombra orrenda che lo faceva andar curvo guardingo tutto ristretto in sé sua moglie ne scacciò subito l'immagine che gli aveva tutta un tratto offuscato la dolce visione e si rimise a mirare ecco là i monti albani che pareva respirassero nel cielo lievi come se non fossero di dura pietra monte cavo con la vetta incoronata di acere di faggi e il vecchio convento e il bosco biancheggiante a mezza costa ecco più là frascati sulla tia al fragore del treno si levò uno stormo di passeri e una lodola in alto librata sulle ali brillanti trillò il professor corvara midei si ricordò allora della prima proposizione della grammatica latina che da tanti anni non insegnava più a lauda est leta e tentennò il capo ora quasi quasi gli parevano belli anche i suoi primi anni di insegnamento quando però non si era ancora messo a far casa comune con quel e va bene sospirò turbandosi di nuovo ma fu per poco passata la stazione di carroceto cominciò a sentir prossimo il mare e tutta l'anima gli si allargò ilare e trepidante nella viva aspettazione di quella tremula azzurra immensità che da un momento all'altro gli si sarebbe spalancata davanti agli occhi ah il suo mare da quanto tempo più non lo vedeva e che desiderio acuto intenso ardente di rivederlo ma eccolo già eccolo eccolo e il professor Corvara Amidei sorse in piedi tutto tremante dall'emozione si sporse dal finestrino e beve con tanta ansia e tanta volutà la brezza marina che ne ebbe una vertigine e ricade a sedere sulla panca della vettura con le mani sul volto il treno si arrestò ad Anzio per pochi minuti e il professor Corvara Amidei stette con tanto ad occhi a mirare ciò che dalla stazione si scorgeva della bella cittadina dove non era mai stato scese di lì a poco alla stazione di Nettuno ancora stordito e inebriato da quel primo respiro che rivedendo il mare aveva tratto proprio dal fondo dei polmoni come non gli era più avvenuto da tanto tempo gli scrivani del ministero gli avevano dato qualche ragguaglio del paese si recò nella piazza principale e domandò dove avrebbe potuto trovare un quartierino modesto di poca spesa alla vista del mare gli fu indicato un villinetto lì sotto la piazza a destra sulla spiaggia era veramente un po' troppo caro per lui quel quartierino ma pazienza la finestra della cameretta posta sul davanti verso lo spiazzo di fronte alla caserma dei soldati d'artiglieria che venivano in distaccamento per le esercitazioni di tiro era appena all'altezza d'un mezzanino quella della camera prospicente il mare all'altezza d'un secondo piano e il mare di qua pareva proprio che volesse entrare in casa non si vedeva altro che mare il professor Corvara Amidei pagò la caparra al proprietario gli disse che sarebbe venuto a prendere alloggio la mattina dopo e scese sulla spiaggia di rimpetto al villino dal lato di ponente sorgeva e s'avanzava fin nel mare maestoso l'antico castello sansovinesco annerito dal tempo salì sulla scogliera sotto il castello e lì rimase per più di un'ora stupefatto a contemplare vide in fondo al mare elevarsi azzurrino quasi fragile monte Circello come un'isola aerea e più qua seguendo la riviera il castello di Stura vide prossimo a destra il porto d'anzio popolato di navi nereggiante per il traffico del carbone e poi la sterminata distesa delle acque riscintillante al sole così placida che sulla spiaggia s'arricciava appena silenziosamente quando alla fine poté scuotersi dal fascino di quello spettacolo si recò a prendere un boccone poi sapendo che prima delle cinque non avrebbe trovato alcun treno per ritornare a Roma pensò d'occupare le tre ore che aveva innanzi a sé in una visita al magnifico parco dei Borghese a mezza via tra Anzio e Nettuno non ricordava ad aver mai passato un giorno più delizioso di quello in vita sua si sentiva beato entro quel precoce voluttuoso tepor primaverile col mare di qua sotto lo scoscendimento dell'altipiano e il verde dei campi e dei boschi dall'altra parte il cancello del parco era aperto e il professor Corvara Amidei s'avviava ammirato per uno dei viali in pendio quando si sentì chiamare da una nannerottola che gli correva dietro come una papera ehi ehi si paga si paga il biglietto cinque soldi li pagò quantunque si fosse proposto di limitarsi nelle spese e riprese a vagare per quei viali profondi deserti ombrosi come in un sogno in un sogno parevano veramente assorti quegli alberi maestosi nel silenzio che il canto degli uccelli non rompeva ma rendeva anzi più misterioso gli avevano detto che in quel parco quasi abbandonato c'erano molti usignoli gli parve ascoltando di sentirne cantare uno in fondo e si internò da quella parte si trovò dopo un lungo tratto in una meravigliosa pineta i fusti altissimi diritti davan l'immagine di colonne d'un tempio gigantesco le fitte corone lassù erano confuse ed escludevano del tutto lo sguardo dalla vista del cielo pareva che la pineta avesse una sua propria aria cuprea insaporata di quella frescura d'ombra speciale delle chiese il professor Corvara Midei non seppe andar più oltre si tolse quasi istintivamente il cappello e sedette per terra poi si sdraiò da molti e molti anni fra una grave sciagura e l'altra i diuturni dolori gli avevano quasi vestito la mente d'una scorza di stupidità le cure affannose minute gli avevano impedito di levar lo spirito a quelle considerazioni che in gioventù lo avevano travagliato fino a fargli perdere per un momento la ragione e poi la fede ora in quel giorno di tregua essendo finalmente riuscito a intravedere come si potesse davvero sentir la gioja di vivere ebbe la cattiva ispirazione di provarsi di nuovo a penetrare nel folto di quelle antiche considerazioni e si domandò perché mai egli che non aveva mai fatto per volontà male ad alcuno doveva esser così bersagliato dalla sorte egli che anzi si era inteso di far sempre il bene bene lasciando l'abito ecclesiastico quando la sua logica non si era più accordata con quella dei dottori della chiesa la quale avrebbe dovuto essere legge per lui bene sposando per dare il pane a un'orfana la quale per forza aveva voluto accettarlo a questo patto mentre egli onestamente e con tutto il cuore avrebbe voluto offrirglielo altrimenti e ora dopo l'infame tradimento e la fuga di quella donna indegna che gli aveva spezzata l'esistenza ora quasi certamente gli toccava soffrire anche la pena di vedersi morire a poco a poco il figliuolo l'unico bene per quanto amaro che gli fosse rimasto ma perché Dio no Dio non poteva voler questo se Dio esisteva doveva coi buoni esser buono egli lo avrebbe offeso credendo in lui e chi dunque chi dunque aveva il governo del mondo di questa sciaguratissima vita degli uomini una pigna come sì una grossa pigna staccandosi in quel momento dai rami lassù piombò a guisa di fulminea risposta sul capo del professor Corvara Midei rimase il pover uomo a giacere quietamente privo di sensi quasi fulminato quando poteri aversi si trovò in una pozza di sangue e ne perdeva ancora da una bella ferita che dal sommo del capo gli andava giù giù dietro l'orecchio ancor tutto intronato riuscì a levarsi in piedi e a grande stento si trascinò fino al cancello della villa la nanerottola di guardia nel rivederlo in quello stato col volto tutto imbrattato di sangue strillò inorridita Gesù che ha fatto egli levò un braccio tremolante e contrasse il volto in una smorfia tra di spasimo e di riso la la pigna balbettò la pigna che governa il mondo già è matto pensò quella e spaventata si affrettò a chiamare il boaro della latteria annessa alla villa perché con l'aiuto d'uno dei ferrovieri che stavano lì presso il cancello a riattare la linea quel disgraziato fosse condotto al vicino sanatorio orsenigo dei fate bene fratelli qua il professor Corvara Midei fu prima raso poi medicato con sette bei punti di cucitura e infine fasciato aveva fretta temeva di perdere il treno il medico sentendo che egli doveva mettersi in viaggio volle abbondare in cautela e gli combinò allora con le bende una specie di turbante il quale gli impedì da settarsi il cappello sul capo quando fu pronto Cosmo Antonio Corvara Midei si strinse nelle spalle si provò pian piano a protendere il collo e so chiudendo gli occhi sospirò ancora una volta e va bene capitolo 3 il vento tu cara primavera non vedo perché debba proprio quest'anno venire innanzi al di che gli uomini nei loro calendari t'assegnano per il ritorno l'inverno è stato piuttosto mite e vorrebbe prima di ispirare fare almeno un po' di guasto è nel suo diritto vorrebbe che tu per esempio gli lasciassi il tempo di scaricarsi di qualche temporaletto che la doglia ma se questo non ti garba perché temi che ti sporcheresti i rose e i piedini trovando troppo imbrattate le campagne e le vie della città per il tuo ingresso trionfale egli ti fa sapere che è ancora tutto gonfio di vento povero vecchio e ti prega che sii contenta di fargli se non altro buttar fuori questo che ti snebbirebbe anche l'aria ben bene e ti spazzerebbe delle terre dalle sudicerie che va fatto renderesti un gran piacere a lui e un grandissimo a me che proteggo tanto se tu sapessi un brav'uomo fin da quando egli è nato figurati per dirtene una che ieri mentre egli si beava di te steso a pancia all'aria nella pineta ad un bel parco mi son divertita a fargli cadere in testa una pigna bella grossa e dura che avrebbe potuto anche accopparlo e altro ma io non ho voluto sai bene che porto nello stemma un gatto che scherza col topolino e non l'uccide come letta in altro tempo in un libro antico perché la crudeltà ne apparisse più raffinata se la ripeteva tra sé e sé da quindici giorni Cosmo Antonio Corvara Amidei questa bellissima preghiera che certamente la sua buona sorte aveva dovuto rivolgere alla primavera e che questa manco a dirlo aveva subito accolto era ancora col turbante in capo e se ne stava alla sponda del lettuccio di Dolfino il quale da che era sceso alla stazione di Nettuno gli si consumava nel lento cociore della febbre anche di giorno prima almeno a Roma l'aveva soltanto di notte la febbre e vento e vento e vento da quindici giorni non cessava un minuto né di né notte fischiava mugolava ruggiva in tutti i toni ed era in certe scosse lunghe tremende di tanta veemenza che pareva volesse schiantare le case e portarsele via pareva perché poi in realtà si portava via soltanto qualche tegola abbatteva qualche albero o qualche palo telegrafico e infrangeva qualche vetro si divertiva poi a rendere furioso il mare perché si ripigliasse la spiaggia e venisse a rompersi fragoroso e spaventevole contro le mura delle case al professor corvara amidei sembrava di trovarsi su una nave assaltata e sbattuta dalla tempesta il povero dolfino ne era atterrito e lui non trovava più modo a confortarlo con qualche parolina perché quel mugolo del vento più che il fragore del mare gli toglieva non che la voce ma fin anche il respiro gli torceva dentro le viscere gli dava un'angoscia rabbiosa e muta che trovava solo di tanto in tanto un po' di sfogo involontario nella gola della povera balia la quale per compir l'opera si era malata ad angina e doveva starsene a letto anche lei piano per carità signorino mio pregava quella appena se lo vedeva davanti come una fantasima con la boccetta dell'acido fenico in una mano e il pennello nell'altra piano per carità si metteva a sedere sul letto e spalancava la bocca che pareva un forno arroventato il professor Corvara Amidei non voleva far forte ma ogni volta come se la veemenza del vento che s'abbatteva i vetri gli spingesse il braccio lasciava andare certe spennellature che a quella poveretta per miracolo non schizzavano gli occhi dal capo sputate sputate e se ne tornava accanto a Dolfino con una fissità truce negli occhi mentre la boccetta dell'acido fenico gli tremava in mano acido fenico veleno ma troppo poco troppo poco e diluito non sarebbe certamente bastato e poi del resto come lasciar Dolfino in quelle condizioni no via la tentazione però era forte quel vento lo faceva impazzire villeggiatura borbottava tra sé già metà del mese era passata la spesa in più del fitto la mancanza dei comodi di casa l'aggravamento del mal di Dolfino la malattia della serva ci aveva guadagnato questo e poi ancora un po' di pazienza bisognava che si facesse tutto da sé lui accendersi il fuoco lui andar per la spesa lui apparecchiar da mangiare e non poter condurre neanche per un minuto il ragazzo sulla spiaggia vedersi lì in quelle tre stanzette imprigionato assediato dal mare e dal vento troppo eh tin 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 piano piano alla porta chi è ma lei satanina si sa venuta in groppo a quel vento satanina la buona mammina che vuole a tutti i costi rivedere il figliuolo malato entra si precipita cade in ginocchio ai piedi del professore il quale indietreggia sbalordito gli s'aggrappa la giacca gridando scarmigliata cosmo cosmo per carità lasciami veder dolfino mio perdonami salvami abbi compassione di me e scoppia così gridando in un pianto dirotto in un pianto vero di lagrime vere senza fine e in singhiozzi anche in singhiozzi non meno veri che la scuotono tutta e non si leva da terra e si nasconde la faccia con le mani seguitando implorare bacerò bacerò la terra dove tu metti piedi cosmo se tu mi perdoni se tu mi salvi non ne posso più voglio esser tutta del mio dolfino ora lasciamelo assistere curare per carità cosmo antonio corvara amidei casca sedere su una seggiola si nasconde il volto con le mani anche lui benché in quella cameretta veramente per l'ombra della sera sopravvenuta non ci si veda quasi più suona la campana dell'ave maria ave maria dice forte apposta la balia dal letto cominciando la preghiera per sottrarre il padrone alla tentazione edolfino chiama dall'altra camera in fondo sbigottito papà papà allora satanina come sospinta da una susta scatta in piedi e corre dal figliuolo il professor corvara amidei rimane inchiodato sulla sedia gli giungono dalla camera di dolfino le tenere espressioni d'affetto che colei rivolge al figliuolo il suono dei baci che gli dà gli sembra che d'improvviso un gran silenzio si sia fatto intorno un silenzio misterioso di fuori come di tutto il mondo si toglie le mani dal volto e resta attonito ad ascoltare un vetro si scuote appena appena alla finestra ah il vento ecco il vento è cessato e come mai si reca dietro la vetrata a guardare la via illuminata di là dal prossimo giardino annesso alla casa degli ufficiali che escono allegri dalla mensa ma dolfino è ancora al bujo in camera con colei e il professor corvara va per accendere la candela lascia faccio io gli dice subito satanina il lume dov'è di là e scappa a prenderlo premurosa papà dice allora dolfino piano piano papà io non la voglio fa troppo odore zitto figliuolo mio zitto papà dove ti corichi tu per lei non c'è letto tu devi coricarti qui papà senti accanto a me si bello mio si sta zitto sta zitto silenzio e perché non torna satanina non trova forse il lume che fa il professore corvara amidei tende l'orecchio poi avverte un fresco insolito alle gambe come se colei di là avesse aperto la finestra possibile si leva dalla sponda del letto e va al buio in punta di piedi a origliare fino all'uscio della camera che ha la finestra bassa sullo spiazzo davanti la caserma satanina sta affacciata a quella finestra e parla sottovoce con qualcuno giù come con chi ah spudorata ancora cosmo antonio corvara amidei si stringe in sé felinamente le si accosta senza fare il minimo rumore e quando le sente dire all'ufficiale che sta lì sotto no gigino stasera no non è possibile domani domani immancabilmente si china la branca per i piedi e giù la rovescia dalla finestra gridando signor tenente se la pigli al doppio urlo che gli risponde di sotto dell'ufficiale e della precipitata egli si ritrae raccapricciato in preda a un tremor convulso di tutto il corpo si prova a richiuderle in poste ma non può poiché dallo spiazzo nuove grida si levano di soldati di ufficiali d'altra gente a corsa traballando col passo legato si trascina fino alla camera del figlio ribellandosi ferocemente alla balia che saltata dal letto in camicia a quegli urli vorrebbe trattenerlo per sapere che ha fatto che è stato nulla nulla risponde lui fremebondo abbracciando il figliuolo sul letto nulla non ti spaventare una tegola una tegola sul capo a un tenente bussano furiosamente alla porta la balia scappa infilarsi una sottana corre ad aprire un fiume di gente soldati e ufficiali allagano vociando la casa ancora al buio dietro a due carabinieri e al delegato abbiano pazienza accendo il lume balbetta la balia spaventata cosmo antonio corvara amidei si tiene stretto con tutte e due le braccia dolfino che si è inginocchiato sul letto via venite con me gli grida il delegato egli si volta a guardarlo sotto il turbante delle fasce quella faccia da morto con gli occhiali incute sgomento e orrore alla folla che ha invaso la camera dove? domanda con me senza storie gli risponde brusco il delegato prendendolo per una spalla va bene ma questo figlio domanda lui di nuovo è malato a chi lo lascio? sappia signor delegato via 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 lo interrompe questi con violenza vostro figlio sarà condotto al sanatorio voi venite con me il professor corvara amidei rimette a giacere dolfino che trema tutto dallo spavento lo esorta pian piano a far buon animo che non è nulla che presto ritornerà a lui e se lo bacia quasi a ogni parola rattenendo le lacrime uno dei carabinieri spazientito lo agguanta per un braccio anche le manette domanda il professor corvara amidei ammanettato si china su dolfino di nuovo e gli dice figlio mio questi occhiali che vuoi gli chiede il ragazzo tremando atterrito strappameli dal naso bello mio così bravo ora non ti vedo più si volge verso la folla ammiccando e scoprendo nella contrazione del volto i denti gialli si stringe nelle spalle protende il collo ma l'angoscia gli serra troppo la gola e non può ripetere anche questa volta e va bene fine della novella va bene registrazione di egi pesaro www.anobi.com il giardinetto lassù dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Egi novelle per un anno di Luigi Pirandello il giardinetto lassù che voleva dirmi l'affanno cresciuto non dava adito alle parole che volevano certo essere aspre a giudicare dagli sguardi e dai gesti con cui tossendo cercava di farmi comprendere il servo gli domandai cercando angustiato un'interpretazione accennò di sì più volte col capo irosamente poi con la mano tremolante mi fece altri gesti lo caccio via sì 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 ma cennò col capo di nuovo per quanto l'indignazione a cui pareva in preda il povero infermo ora si comunicasse anche a me al pensiero che quel servo vigliacco si fosse approfittato dei brevi momenti durante la giornata nei quali ero costretta ad allontanarmi pure restai perplesso venivo proprio ad annunziargli che d'ora in poi non avrei più potuto trattenermi a vegliarlo a curarlo come nei primi giorni della malattia cacciando ora il servo poteva egli restar solo lì in casa mi venne in mente lì per lì di persuaderlo a cercar ricovero o in un ospedale o in qualche casa di salute e gliene feci la proposta nonno Bauer lo chiamavo così fin da quando ero ragazzo mi guardò con occhi smarriti poi guardò in giro lentamente la camera la cui vecchia su pellettile gli era tanto cara quanto la sua stessa persona e dal seggiolone di cuoio entro il quale stava sprofondato volse infine gli occhi alla finestra senza rispondermi c'era di là un giardinetto apparteneva agli inquilini del secondo piano ma chi veramente ne godeva era lui nonno Bauer che da quella finestra bassa poteva conversar comodamente col giardiniere e allungando appena un braccio toccare i rami d'un mandorlo che adesso pareva tutto fiorito di farfalle mi accorsi che due lagrime erano sgorgate dai calvi occhi infossati del mio caro vecchietto due lagrimoni che ora gli scorrevano sulle guance di cera lei non vorrebbe è vero ma frettai a dirgli impietosito negò col capo senza guardarmi quasi vergognoso mentre la commozione gli agitava le labbra no ebbene vuol dire che si provvederà in altro modo intanto lei non si affligga il povero vecchio alzò gli occhi lagrimosi a ringraziarmi e un mezzo sorriso quasi puerile gli affiorò alle labbra che subito si contrassero come per fare il greppo tanto intenerimento aveva provato in quel punto per sé povero nonno bauer moriva o meglio si spegneva a poco a poco lì solo e dopo una lunga vita tutta stenti e fatiche esser privato all'ultimo di quegli oggetti familiari testimoni della pace finalmente conquistata gli era parsa una vera crudeltà capitolo 2 era nato in Italia da genitori alsaziani e fin da giovanetto era stato col nonno e poi con mio padre nell'umile ufficio di scritturale di banco dopo il nostro rovescio finanziario e la conseguente morte di mio padre se n'era andato in Alsazia a trovare i parenti sconosciuti trascorsi circa sette anni eccolo di ritorno in Italia vinto dalla nostalgia per il paese in cui era nato e cresciuto era ritornato con una modesta sostanza ereditata da un cugino morto celibe in quei sette anni io ero rimasto solo senza più la mamma e quasi povero nonno Bauer venne a trovarmi appena ritornato e mi proverse di abitare con lui non accettai perché per le buone relazioni di cui godevo avevo da poco ottenuto un impiego di fiducia che mi obbligava a viaggiare continuamente tuttavia non perdetti mai di vista il buon vecchietto andavo a trovarlo ogni qual volta ritornavo a Roma e lui mi accoglieva con tenerezza paterna era per me una vera delizia la sua compagnia conversando con lui mi pareva di tuffar l'anima in un bagno di antica semplicità nonno Bauer era rimasto in uno stato di vergine ignoranza per quasi tutte le cose della vita e bisognava vedere con quale e quanta meraviglia la sua mente si aprisse man mano alle cognizioni più ovvie ora che la vita per lui era quasi finita passava ore e ore in biblioteca a leggere a studiare per rendersi conto di tante tante cose che veramente ormai non doveva più importargli di sapere restava stordito di ciò che apprendeva così tardi riportava l'amaestramento al tempo in cui avrebbe potuto giovargli e si immergeva allora in lunghe e profonde considerazioni immaginando il diverso cammino che avrebbe potuto prendere con esso la sua vita ma la sua passione più viva erano le piante una volta andò via da una casa per non veder morire un albero che era cresciuto non si sa come in mezzo al cortile quel povero albero io lo ricordo si era levato sul magro stelo cinereo con evidente sforzo erizzando i rami come a supplicare desideroso di vedere il sole e l'aria libera angosciato dalla paura di non avere in sé tanto rigoglio d'arrivare oltre i tetti delle case che lo circondavano ma finalmente c'era arrivato e come brillavano felici le frondi della cima e quanta invidia destavano in quelle che stavano giù senza aria senza sole anche nella morte nello staccarsi dai rami in autunno le foglie di lassù avevano una lieta sorte volavano via col vento in alto cadevano sui tetti vedevano il cielo ancora mentre le povere foglie basse morivano nel fango della via calpestate in tutte le stagioni all'ora del tramonto quell'albero si popolava ad una miriade di passeri che pareva vi si dessero convegno da tutti i tetti della città quei rami allora palpitavano più d'ali che di foglie pareva che ogni foglia avesse voce che tutto l'albero cantasse fremebondo dalle finestre delle case i bambini sorridevano storditi a quel passeraio fitto continuo assordante nonno Bauer si affacciava con me sorrideva con aria misteriosa di vecchio mago mi diceva socchiudendo gli occhi aspetta e batteva forte due volte le mani subito come per incanto tutto l'albero tacceva esanime che te ne pare ma di lì a poco lo sbaldore ricominciava ogni passero tornava inebriarsi del proprio gridio e di quello degli altri il concetto diveniva man mano più fitto più assordante di prima ora avvenne che il proprietario di quella casa un bel giorno pensò di alzar tutto in giro il muro per fabbricare un altro piano e allora l'albero che con tanto stento si era guadagnata la libertà del sole dell'aria aperta piegò avvilito la cima si curvò sul tronco nonno bauer vedendolo così cominciò a smaniare a sentire una pena che gli toglieva il respiro guarda guarda mi diceva mostrandomi i passerotti che dalle grondaie spiccavano il volo e si tenevano sospesi sulle ali gridando quasi per esortar più da vicino l'albero a rizzarsi e forse quei passerotti anche loro ripetevano al vecchio albero le solite frasi gli inutili consigli i vani ammonimenti che si sogliono dare caduti agli sconsolati fatti coraggio non bisogna avilirsi raccogli le forze rialzati ma il vecchio albero non aveva ormai più forza di rialzarsi aveva stentato tanto per arrivare fin lassù a quell'altezza più su ormai non poteva arrivare meglio morire andato via da quella casa nonno Bauer se n'era venuto in questa col giardinetto che non apparteneva a lui non andava più da un pezzo in biblioteca erano cominciati gli acciacchi della vecchiaia dopo la settantina e nonno Bauer non potendo più uscir di casa tutti i giorni se ne stava alla finestra a conversare col giardiniere e a fare all'amore come gli diceva con le rose del giardino capitolo 3 di quelle rose e degli altri fiori si innamorò tanto che cominciò a struggersi dal desiderio di avere anche lui un giardinetto gli venne allora un'idea che non mi piacque affatto quando me la manifestò quantunque la fondasse in un ragionamento pieno di buon senso alla mia età mi disse bisogna pensare figliuolo mio anche alla morte e giacché non ho tanti quattrini da farmi due case con due giardinetti me ne farò una sola ma bella e con un giardinetto che varrà per due questo mi servirà per sfogare ora il desiderio che mi è nato quella che mi servirà per poi e quando questo poi sarà arrivato al giardinetto di nonno bauer verrai a pensarci tu così acquistò un buon pezzo di terra al campo santo la casa sotto invece che sopra e senza nessuna pretesa una piccola nicchietta e lì perché i morti hanno questo di buono che possono anche fare a meno di star comodi e dell'aria e del sole ed ogni altra cosa visto e considerato che si son tolto per sempre il fastidio di muoversi di respirare e che se son freddi non sentono più nessun bisogno di riscaldarsi ma veramente nonno bauer stando intere giornate lassù quando si sentiva bene intento a far nascere il giardino da quel suo pezzo di terra pareva un morto venuto su dalla sua nicchietta sotterranea per darsi ancora da fare per muoversi per bearsi ancora dell'aria e del sole zitto zitto e affacendato senza più nessun pensiero nessuna curiosità della vita senza neppure accorgersi dello stupore di certi visitatori del camposanto che si fermavano in distanza a mirarlo a bocca aperta lì chino su questa o quella pianta con la forbice o con la zappetta o con l'innaffiatoio o seduto sulla sedia libricino che si portava ogni mattina appesa al braccio il cappellaccio di paglia in capo l'ombrello aperto sulla spalla immobile con gli occhi fissi nel vuoto assorti in qualche pensiero lontano che gli atteggiava ad un lieve sorriso le labbra tra la barbetta argentea veniva a qualcuno quasi quasi la tentazione d'andarlo a scuotere e d'ordinargli che se ne tornasse giù subito a riporsi perché a un morto non è lecito per dio sconcertar così la gente farla impazzire con tutte quelle sue faccende là attorno al giardinetto o con quella immobilità sul sediolino o quell'ombrello aperto sulla spalla la sera nonno Bauer ritornando a casa parlava col giardiniere dalla finestra bisognava sentire che conversazioni aveva ottenuto da lui semi e tralci da trapiantare lassù e i fiori sosteneva sbocciavano meglio assai meglio là che qua perché infine i morti a qualche cosa erano ancora buoni ora inchiodato da quindici giorni in quel seggiolone di cuoio da cui non doveva più rialzarsi egli non sentiva altra pena che quella di non poter recarsi neanche in vettura a vedere il suo caro giardinetto lassù ed era per lui una consolazione veder quest'altro invece dalla finestra sollevandosi un poco sulla vita astento e allungando il collo quanto più poteva le rose che vi fiorivano non erano forse sorelle delle rose che fiorivano lassù meno belle ma sorelle e sapete perché quel giorno io trovai nonno bauer così arrabbiato contro il suo servo perché non era vero che questi si fosse recato ogni mattina al camposanto a curare a curare il giardinetto come nonno bauer gli aveva ordinato il vicino giardiniere venuto quella mattina a fargli visita gliene aveva dato la brutta notizia non ci fu verso dovetti cacciar via il servo lo cacciai anche in verità perché lo ritenevo infedele e sgarbato il vicino giardiniere promise che ci sarebbe andato lui ogni giorno a curare le piante sorelle più belle e così nonno bauer si tranquillò io pensai conoscendo purtroppo che la morte non poteva essere lontana di domandare l'assistenza di due suore per quegli ultimi giorni ed egli non si oppose era cosciente del suo stato e non se ne rammaricava appunto aveva vissuto a lungo aveva assaporato la pace ora si sentiva stanco era tempo di chiudere gli occhi e dormire per sempre là nella nicchietta sotto le rose dell'altro giardino capitolo 4 ogni giorno andando a visitarlo mi sorgeva innanzi alla porta la speranza che la mia assidua costernazione dovesse essere ovviata da un repentino miglioramento ma la men giovane delle suore che veniva ad aprirmi la porta rispondeva sempre con un gesto di triste rassegnazione alla mia prima ansiosa domanda mi trattenevo da lui qualche ora la conversazione però languiva poiché egli dopo avermi accolto con un sorriso mesto e muto di riconoscenza spesso richiudeva gli occhi e allora io per non disturbarlo me ne stavo zitto come le due suore assistenti veramente quegli occhi non si sapeva più come guardarglieli così scavati dentro come erano nel male che lo consumava nessun rumore nessun segno di vita arrivava in quella linda casetta appartata in cui il vecchietto aspettava tranquillo la morte talvolta nel silenzio attraverso le vetrate giungeva il cinguettio di un passero io e le due suore alzavamo gli occhi alla finestra il passero era lì sul ramo fiorito del mandorlo e scotendo or di qua or di là il capino guardava curioso nella camera come se volesse domandare che fate poi a un tratto un frullo e via quasi avesse compreso che cosa in quella camera si stesse ad aspettare un giorno nonno bauer mi domandò se ero stato a vedere il suo giardinetto c'ero stato ma non avevo voluto dirglielo perché non me l'hai detto fece egli qua o là ormai non è lo stesso anzi meglio là hai visto come è bello vi tengo tutti impicciati e io ho tanta voglia di dormire gli parlai allora delle sue piante tutte in fiore esagerando per fargli piacere la mia ammirazione gli occhi di nonno bauer si avvivarono di contentezza ci andrò presto peccato che non possa più vederlo lo spettacolo di quell'essere ancor del tutto cosciente che con tanta tranquillità si era conciliato col pensiero della morte mi cagionava un occulto indefinibile sentimento ma di lì a pochi giorni un'altra cosa doveva stupirmi maggiormente si era ammalato d'una malattia assai grave l'unico figlio di un mio intimo amico vispo e leggiadro fanciullo di circa sette anni che già saccarezzava sul labbro un paio di baffetti immaginari e a cavallo d'una seggiola con una sciabola di legno in mano un elmo di cartone in capo marciava a debellare in Africa i beduini ero andato a casa di quel mio amico per affari e lo avevo trovato con la moglie in preda a un cordoglio angoscioso attorno al lettuccio dell'infermo adorato tifo tifo non sapevano dire altro padre e madre e si nascondevano la faccia con le mani come per non vedere il fanciulletto avvampato dalla febbre ancora turbato e commosso andai quel giorno con molto ritardo a visitare nonno Bauer e gli prestò ascolto alla triste notizia recata da me per scusare il ritardo volle anzi sapere quanti anni avesse il bambino e se i medici avessero dichiarata la malattia tifo scosse il capo con le ciglia corrugate poi richiuse gli occhi e nella cameretta ritornò il silenzio consueto quanti giorni sono domandò dopo un lungo tratto senza aprire gli occhi non potendo supporre che egli pensasse ancora a quel fanciullo infermo e non intendendo perciò la domanda gli domandai a mia volta quanti giorni di che che il bambino è ammalato spiegò spiegò nonno bauer come se parlasse in sogno nove giorni risposi e la febbre sempre alta a un modo bagni freddi gliene fanno anche uno ogni due ore senza paura diglielo al tuo amico dopo un altro lungo silenzio volle sapere anche il nome del fanciullo il giorno appresso mi recai con lo stesso ritardo a visitare nonno bauer e così nei giorni successivi andavo prima a prender notizia del bambino e non già perché questo mi interessasse più del mio caro vecchietto ma perché nonno bauer se ne interessava lui più di me e per prima cosa ogni giorno nel vedermi entrare mi domandava come sta come sta era rimasto impressionato del caso di quel bambino che moriva contemporaneamente a lui e mentre per sé non si lagnava nemmeno di quello si affliggeva così che pareva non se ne potesse dar pace ma di ma un consulto non l'hanno ancora tenuto e consigliava i medici da chiamare avrebbe voluto salvarlo a ogni costo purtroppo però il fanciullo era spacciato il giorno in cui diede a nonno bauer la triste notizia c'era da lui a visita il vicino giardiniere il quale era venuto a riferirgli che il rosaio tutto intorno aveva gettato tanto che la pietra sepolcrale ne era quasi nascosta signor bauer le rose dicono là dentro non ci si va ma nonno bauer stava peggio anche lui quel giorno guardava con occhi spenti pareva non intendesse andato via il giardiniere cadde in letargo poi si riscosse con un sospiro e disse se volessero portarlo lì credetti che vaneggiasse e per richiamarlo in sensi gli domandai dove nonno bauer lì e alzò appena la mano compresi e provai una viva tenerezza egli intendeva nel suo giardinetto lassù al campo santo voleva con sé il bambino lì nella nicchietta sotto le rose diglielo 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 riprese con insistenza rianimandosi un po' e guardandomi negli occhi glielo dirai fine della novella il giardinetto lassù registrazione di EGI Pesaro www.anobi.com slash 2 slash books la maschera dimenticata dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Isiron novelle per un anno di Luigi Pirandello la maschera dimenticata nella sala già quasi piena per la riunione indetta dal comitato elettorale in casa del candidato la leva tutti vedendola entrare zitto zitto zoppicante e con gli occhi fissi e cupi sotto la fronte grinzuta si erano voltati stupiti a mirarlo Don Ciccino ci rinciò possibile e chi lo aveva invitato si sapeva che da anni e anni non si immischiava più di nulla tutto assorto com'era nelle sue sciagure la morte della moglie e di due figliuoli la perdita della zolfara dopo una sequela di liti giudiziarie e la miseria sciagure che avrebbe fatto meglio a portare in pubblico con dignità meno funebre perché non spiccasse agli occhi di tutti i maldicenti del paese quel sigillo particolare di scherno con cui la sorte buffona pareva si fosse spassata a bollargliele se era vero che la moglie gli fosse morta per aver partorito sulla cinquantina non si sapeva bene che cosa chi diceva un cagnolo chi una marmotta e chi avesse perduto la zolfara per una virgola malposta nel contratto d'affitto e che zoppicasse così per una famosa avventura di caccia nella quale invece dell'uccello era volato in aria lui con tutti gli stivaloni e lo schioppo e la carniera e il cane investito dalle alacce di un mulino a vento abbandonato sul poggio di Montelusa le quali tutta un tratto si erano messe a girare da sé per cui ormai era inteso da tutti come Don Ciccino ci rinciò quello del mulino cosa strana se da qualche malcreato sentiva fare allusione a quel parto della moglie o a quella virgola del contratto d'affitto sorrideva triste o scrollava alle spalle ma nel sentirsi chiamare quello del mulino usciva dai gangheri minacciava col bastone e urlava che il suo era un pese di carognoni imbecilli ora questi carognoni imbecilli ecco che si meravigliavano del suo intervento alla riunione elettorale ma si voleva tanto a pensare che egli doveva prima di tutto gratitudine eterna al vecchio avvocato Don Francesco Laleva padre del candidato d'oggi l'unico tra tutti gli avvocati del foro che lo avesse aiutato e difeso nell'occasione delle liti per la zolfara queste liti è vero le aveva perdute l'aiuto perciò se vogliamo era stato vano ma che per questo l'obbligo della gratitudine non restava forse per lui stesso sacro santo e poi a parte la gratitudine ci voleva tanto forse a crederlo capace di un sentimento che doveva in quell'ora essere comune a tutti i galantuomini disgraziati e non disgraziati per Dio il sentimento della dignità del proprio paese era sì o no un cittadino anche lui le disgrazie va bene ma come cittadino non poteva essere forse indignato anche lui delle spudrate vergogne che il vecchio deputato uscente commetteva da venti anni impunemente non parlava non aveva mai parlato perché le parole bento ma ora che era venuto il tempo d'agire sì signori eccolo qua si presentava da sé non invitato per mettersi a disposizione del figlio del suo antico e unico benefattore gli radunati stettero un pezzo a mirarlo a bocca aperta qualcuno si toccò con un dito la fronte come per dire eh che volete gli è se voltato il cervello poveretto perché sapevano tutti che non era vero che dovesse poi tanta gratitudine al padre del la leva il quale non lo aveva né aiutato né difeso ma solo dissuaso dal mettersi in lite per quella zolfara maledetta se non che a forza di ragionare tra sé e sé le sue disgrazie chissà povero Cirincio come era arrivato adesso a rappresentarsi uomini e cose tutti gli avvenimenti della sua vita e quali parti in questi lontani avvenimenti della sua vita attribuiva a presunti amici a presunti nemici e chissà da che strambe ragioni era stato perciò indotto a presentarsi ora lì non invitato e che cosa nei misteriosi arzigogoli nelle segrete previsioni del suo spirito conturbato doveva rappresentare per lui questa sua partecipazione alla lotta politica in favore del figlio di Don Francesco la leva che benefici sbardellati se ne riprometteva che tremendi pericoli e responsabilità si immaginava di dover affrontare ma sì quegli occhi che lampeggiavano sotto la fronta grottata quelle pugna serrate sui ginocchi povero Don Ciccino Cirincio invece guardava così perché non riusciva a spiegarsi il perché di tutta quella meraviglia per la sua venuta vedendosi spiato da lontano con quell'aria di costernazione perplessa e afflitta cominciò a entrare in sospetto che non lo volessero lì aveva forse capito male l'invito del comitato elettorale a un certo punto non potendone più salzò sdegnoso e zoppicando si accostò a domandarlo al la leva scusate debbo rimanere o me ne debbo andare ho forse fatto male a venire ma no perché caro Don Ciccino si affrettò a rispondergli in la leva siamo tutti felicissimi e io particolarmente della sua venuta ma si figuri segga segga l'ho per un onore e ne ho tanto piacere e allora domandò a se stesso Cirinciò tornando a sedere perché tutti mi guardano così che ci fosse in lui qualche cosa che egli non vedeva e che gli altri vedevano perché in quel momento gli pareva proprio che potesse come tutti gli altri occuparsi delle lezioni e che non ci fosse in questo nulla di straordinario capiva bene sì o no ma sì per Dio che capiva benissimo tutte le discussioni che ora si facevano attorno a lui sulle probabilità più o meno di vittoria sulla disposizione dei vari partiti locali in questo e in quel comune del collegio sul computo dei voti favorevoli e contrari non solo ma gli pareva anzi di vedere più chiaro di certuni nella tattica da seguire verso qualche capolettore ancora neutrale nella lotta tanto che a un certo punto dimenticandosi del dubbio che lo aveva finora tenuto ingrugnato e sospettoso non poté più trattenersi salzò prese la parola e in breve con chiarezza e semplicità espresse il suo concetto come a lui pareva che si dovesse fare fu nella sala uno sbalordimento generale perché proprio nessuno riusciva a capacitarsi come mai Don Ciccino Cirinciò potesse vedere così chiaro e giusto eppure sì era proprio quella la mossa da tentare si doveva far proprio come diceva lui tre quattro volte durante la lunga discussione si rinnovò quello sbalordimento per il retto giudizio e la giustezza dei consigli e la finezza degli espedienti da lui suggeriti non pareva vero signori miei Don Ciccino Cirinciò ma parlava benissimo chi l'avrebbe creduto un oratore ma bravo ma bene viva Cirinciò più sbalordito di tutti alla fine perché da un canto non gli pareva proprio di aver detto cose così straordinarie da suscitare tanto stupore tanto fervore d'ammirazione ma dall'altro canto mezzo ubriaco dagli applausi Cirinciò si trovò designato da tutti a un posto di combattimento difficilissimo nel comune di Borgetto che si riteneva la cittadella inespugnabile del partito avversario cercò di tirarsi indietro con la scusa che non conosceva nessuno lì che non c'era mai stato disse anche che non erano imprese per lui che aveva esposto così in astratto il suo modo di vedere ma che nell'atto pratico si sarebbe perduto non vollero neppure lasciarlo finire di parlare lo costrinsero ad accettare quel posto di combattimento e così la mattina dopo Don Ciccino Cirinciò provvisto di mezzi e di commendatizie partì per Borgetto vi fece miracoli a detta di tutti nei 15 giorni che precedettero l'elezione politica veri miracoli se in due settimane riuscì a cambiare la posizione della leva in quel comune da così a così fu per il bisogno di raggiungere e toccare una realtà qualunque nel vuoto strano in cui quell'avventura impensata lo aveva così di improvviso gettato vuoto arioso e lieve nel quale tutti gli aspetti nuovi duomini e di cose gli apparivano come in una luce di sogno nella freschezza di quell'azzurro di marzo corso da allegre nuvole luminose o fu per il prorompere di tante energie ancora vive e ignorate da anni e anni compresse in lui soffocate dall'incube delle sciagure energie giovanili intatte che lo avrebbero portato chissà dove chissà a quali imprese a quali vittorie se la sua vita non si fosse chiusa come si era chiusa nel lutto di quelle sciagure il fatto è che operò a miracoli in quel paesello dove nessuno lo conosceva e certo perché nessuno lo conosceva tutto fuori di sé la in preda a quelle energie insospettate e scatenate d'un subito in lui affrontò in perterrito gli avversari li forzò a discutere e a riconoscere prima gli errori e l'insipienza poi la vergogna del loro vecchio deputato e non si diede un momento di requie ora qua a scrollare i titubanti ora là a sventare un'insidia a presidere un comizio a sfidare al contraddittorio anche lo stesso deputato uscente o chi per lui tutto quanto è il paese cose che non avrebbe mai supposto non che di poter dire ma neppure di pensare lontanamente gli venivano alle labbra spontanee con un'abbondanza e facilità di parola un'efficacia di espressioni che ne restava lui stesso come abbagliato pareva che una vena nuova di vita gli fosse rampollata dentro e si fosse messa a scorrere in lui con urgenza impetuosa coglieva al volo tutto comprendeva tutto a un minimo cenno e ogni cosa dentro pur restandogli nuova e fresca gli diventava subito nota e propria se ne impadroniva con quelle forze vergini che non avevano potuto avere mai uno sfogo in lui e che ora lo rendevano alacre e sicuro della vittoria come un giovane tra la frenesia che già aveva preso a bollire in tutti coloro che gli si facevano attorno sempre in maggior numero e che a stento riuscivano a tenergli dietro in quella tumultuosa agitazione non pensò più neanche ad avere una gamba doppicante non gli faceva più male gli anni 62 sì ma che voleva dire avanti era come se cominciasse ora la vita avanti avanti qua per il momento c'era da correre e minacciare a quel signor assessore la denunzia delle cento schede trattenute ai soci del circolo operaio poi a documentare il tentativo di corruzione del signor sindaco il pagamento di 50 voti a 10 lire l'uno come documentarlo ma con le testimonianze per dio si incaricava lui di far confessare quei contadini alla presenza di un notaio lui lui avanti arrivò così al giorno della vittoria che pareva un altro ricreato in quell'aura di popolarità tra gente nuova in un paese nuovo preso d'assalto messo sotto sopra e conquistato in pochi giorni e la sera della proclamazione del nuovo eletto si presentò raggiante nella vasta sala del circolo dei civili dove era imbandita una splendida mensa in suo onore per quanto già gli apparissero evidenti i segni della stanchezza nella vecchia maschera dimenticata circolava intanto in quella sala nell'attesa che i posti fossero assegnati nella mensa un certo squallidometto scontorto dal cranio d'avorio luccicante sotto i lumi quasi a nascondersi teneva il capo insaccato nelle spallucce assute ma cacciava in tutti i crocchi la punta della barbetta arguta gialliccia come scolorita e figgeva in faccia a questo e a quello gli occhietti illustri acuti come due spilli che gli spiccavano maligni nel cereo pallore del viso si fermava un momento a ripetere una domanda insistente alla quale era chiaro che non riceveva una risposta che lo soddisfacesse negava col dito scrollava le spalle come se esclamasse ma che ma che impossibile o stirava il volto sporgendo il labbro inferiore come uno che non riesca a capacitarsi e si allontanava rivoltandosi a guardare di sfuggita e di sbiego con quegli occhietti puntuti ci rinciò ci rinciò se ne accorse subito pur tra il fervore entusiastico dell'accoglienza si sentì ferire fin da principio da quegli occhietti cercò di sfuggirli rituffandosi in mezzo alla confusione della festa ma di qua di là da vicino da lontano d'onde meno se l'aspettava si sentiva pungere dalla fissità quasi spasimosa di quegli occhietti persecutori e appena appunto raggelare sconcertare rimescolare tutto da un sentimento scuro che facendogli impeto rabbiosamente gli occupava come di una tenebra di vertigi nel cervello si ripigliava ma avvertiva internamente che non gli era più possibile ormai tenersi fermo che tutto dentro gli vagellava non tanto per la persecuzione di quegli occhietti di cui infine non aveva nulla da temere quanto perché perché non lo sapeva bene lui stesso non era timore non era vergogna ma si sentiva come tratto di dentro a nascondersi e a scomparire da quella festa troppo chiasso oh dio troppo chiasso e andando in giro per la sala intronato faceva atto con le mani di smorzare i rumori ma più faceva così più si acuiva proprio fino allo spasimo in quei tagliocchietti una curiosità pazzesca e allora ci rinciò cadde in preda a una così cupa esasperazione che di fuori ebbe lo strano effetto di farlo apparire quasi cangiato all'improvviso si riebbe un momento allora che tutti lo presero e lo portarono in trionfo a sedere a capotavola ma cessata l'agitazione della cerca dei posti appena tutti si furono accomodati ci rinciò volgendo lo sguardo in giro ricadde più intronato che mai e nell'intronamento si fissò come impietrato vedendosi vicinissimo a quattro posti di distanza quell'ometto che seguitava a fissarlo e ora ecco allungava il collo verso di lui con l'indice teso come un'arma presso uno di quegli occhietti diabolici quasi a prendere la mira e gli domandava ma scusate non siete Don Cicino Cirinciò voi non era sul nome la domanda non potevano capirlo gli altri ma lui sì Cirinciò lo intese benissimo che quegli fosse Don Cicino Cirinciò glielo dovevano aver detto o ripetuto tutti cento volte a quell'ometto ma appunto di questo non riusciva a capacitarsi quell'ometto che cioè Don Cicino Cirinciò che gli tempo addietro aveva conosciuto fosse questo che ora gli stava davanti questo possibile quello del mulino sì sì quello del mulino aveva ragione non era credibile Cirinciò adesso tutto a un tratto lo riconosceva anche lui non era credibile non appariva più credibile neanche lui stesso che quello del mulino lui proprio lui potesse trovarsi lì in mezzo a quella festa e che avesse potuto fare tutto quel che aveva fatto senza saperne più il perché che importava lui infatti ora che con gli occhi di quell'ometto si vedeva rientrare in sé medesimo con tutte le sue sciagure e la sua miseria che importava più a lui della vittoria della leva delle vergogne del deputato sconfitto tutti convitati nel vederlo così dun subito a passire credetero in prima che fosse effetto di momentanea stanchezza e cercarono di ravvivarlo con incitamenti e congratulazioni ma si sentirono rispondere e agghiacciare con certi scemi strascicati già già che rivelarono assente lontano mille miglia dalla festa lo spirito di lui e quando il giorno appresso Cirinciò se ne partì da Borgetto ingrugnato funebre rispondendo a malapena e saluti tutti restarono a guardarsi tra loro non sapendo comprendere la ragione di un mutamento così improvviso e parecchi avanzarono il sospetto che fosse un imbroglione un miserabile impostore venuto a mistificarli fine della novella la maschera dimenticata la balia prima parte dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Silvia di Simone novelle per un anno di Luigi Pirandello la balia prima parte capitolo 1 finalmente esclamò la signora Manfroni strappando di mano alla serva la lettera da Roma tanto sospirata nella quale il genero Ennio Mori doveva darle tutti i minuti ragguagli promessi intorno al parto recente della figlia Ersilia inforcò subito gli occhiali e si mise a leggere già sapeva da telegrammi precedenti che il parto era stato laborioso ma che tuttavia la figlia non correva alcun rischio ora però la lettera le dava a sapere che qualche rischio Ersilia veramente lo aveva corso e che anzi c'era stato bisogno di un ostetrico questa notizia il Mori la dava non certo per affliggere i parenti della moglie ora che tutto bene o male era passato ma per lagnarsi della capabilità di lei che contro i suoi saggi consigli si era ostinata a portare fino all'ultimo il busto troppo stretto i tacchi delle scarpe troppo alti asino i tacchi e parecchie volte la signora Manfroni friggendo ripetè quell'asino durante la lettura a un tratto si impuntò più che maestizida e levò gli occhi dalla lettera e guardò in giro quasi cercasse qualcuno con cui sfogarsi come come ah la balia non doveva essere romana o perché no signor avvocato Mori le balie romane hanno troppe pretensioni o guarda l'economia adesso come se la dote di Ersilia non potesse permettere un tallusso al signor avvocato socialista eh già e intanto che bella figura avrebbe fatto Ersilia per le vie di Roma con a fianco una zotica contadinotta siciliana da lavare a sei o a sette acque parata da balia asino 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 oè non si mangia oggi perché la tavola non è ancora apparecchiata il signor Manfroni entrò vociando così al solito di là aveva già sgridato la serva e la cuoca piano Saverio piano disse la moglie sai bene che c'è sempre un mondo da fare in casa nostra da fare voi e io leggiti leggiti la bella lettera del tuo carissimo genero piuttosto Ersilia sentirai il signor Manfroni si calmò di botto scorse la lettera poi ripiegandola benissimo ho la balia che ci vuole aveva di questi lampi il signor Manfroni nei quali egli per primo s'abbagliava e a cui doveva a suo credere la sua ingente fortuna commerciale con aria derisoria e di sfida la signora Manfroni domandò sarebbe la moglie di Tittamarullo la moglie di quell'avanzo di forca taci la moglie di quel capopopolo taci la moglie di un coatto lasciami dire gridò il Manfroni sei donna tu e per tua norma qua domine Dio stoppa stoppa cara mia ti ci ha messo stoppa in luogo di cervello con le belle condizioni sociali nelle quali viviamo come c'entrano le condizioni sociali domandò stordita la moglie c'entrano c'entrano ribatté furiosamente il signor Saverio perché noi noi che siamo riusciti col lavoro assiduo e per come si dice per ticace cioè no sì giusto dico per ticace a mettere da banda una sostanza qualsiasi noi oggi per tua norma di fronte all'avvenire che si fa man mano più torbido e minaccioso hai capito no che vuoi che capisca e non te lo dico io stoppa afferrò una seggiola l'accostò a quella su cui stava la moglie e vi sedette in gran furia sbuffando io ti tamarullo riprese sforzandosi di parlare sottovoce perché i servi non udissero io ti tamarullo per tua norma lo scacciai dal panificio per le sue idee rivoluzionarie come quelle del signor Mori a cui hai dato tua figlia lasciami dire urlò il manfroni e perché gli ho dato mia figlia io prima di tutto perché Ennio è un ottimo giovine poi si signora perché socialista si signora e mi è convenuto e mi ha fatto gioco sai dirmi perché sono tanto rispettato io da tutta quella canaglia a cui do da mangiare stoppa ma qui Ennio non c'entra parlavamo di di tamarullo lo scacciai dal panificio rimasto sull'astrico il disgraziato si rigolò in modo da farsi mandare all'isola a domicilio coatto ora io ricco ma con qui dentro qualcosa che batte che per tua norma si chiama cuore prendo sua moglie la ficco in un vagone di terza classe e la spedisco a Roma balia del mio nipotino poteva avere centomila ragioni il signor Manfroni ma aveva anche su uno zigomo un ridicolissimo porro sul quale la moglie appuntava gelidamente uno sguardo quanto mai dispettoso quando si vedeva costretta a sottomettersi a quelle ragioni e il signor Manfroni nel vedersi ogni volta guardato il porro provava un tale urto di nervi che per non fare uno sproposito troncava subito la discussione sonò il campanello e ordinò alla serva dia a Lisi che venga subito qua Lisi che fungeva da cocchiere e da servotto si presentò sulla soglia senza giacca con le maniche della camicia rimboccate sulle braccia e la bocca aperta a un riso muto come soleva ogni qual volta i padroni lo chiamavano al loro cospetto il signor Manfroni fin dal primo vederlo aveva scoperto uno straordinario ingegno in questo ragazzo sa dove sta la moglie di tittamarullo si signore ho capito rispose Lisi e sollevò una spalla e si contorse mentre un sorriso scemo gli alzava quasi il bollo in gola che hai capito animale gli gridò il Manfroni che non era in vena ad ammirarlo in quel momento Lisi si storcignò di nuovo come se il padrone gli avesse fatto un bel complimento e rispose vado a dirglielo sì signore dille che venga subito qua debbo parlarle e di lì a poco il signor Manfroni ebbe una prova lampantissima del non comune ingegno di Lisi figurarsi che mentre era ancora a tavola con la moglie vide il rompere nella stanza annicchia la moglie di Titta piangente di gioia con un bambinello in braccio di circa due mesi ah signorino signorino mio si lasci baciare la mano e così esclamando gli si inginocchiò i piedi la serva la cuoca si erano affacciate all'uscio per assistere alla scena e Lisi innanzi a loro rideva triunfante e beato tra gli occhi e le sopracciglia del signor Saverio si impegnò una viva lotta quelli volevano sbarrarsi per lo stordimento improvviso e queste contemporaneamente aggrottarsi dalla rabbia ritrasse subito la mano che la giovine inginocchiata voleva baciargli guardò verso l'uscio e urlò fuori no tu qua Lisi che le hai detto che Titta verrà esclamò annicchia senza levarsi che me l'ha liberato lei signorino mio il manfroni balzò in piedi e brandì la seggiola aspetta canaglia Lisi scappò via come un daino non è vero fece annicchia passendo rivolta alla signora manfroni e si rialzò lentamente ci volle del bello e del buono per farle intendere che la liberazione del marito non dipendeva né poteva dipendere in alcun modo dalla volontà e dalle amicizie del signor manfroni il quale se lo aveva scacciato dal panificio e la mia figlia era testimonia di quanta lunganimità avesse prima dato prova unicamente per lei che da bambina gli era cresciuta in casa ed era stata compagna di giuoco d'ersilia tant'anni mentre il marito dava queste spiegazioni la signora manfroni osservava la giovine e con l'immaginazione la parava da balia e approvava col capo approvava come se già la vedesse con un goffo zendato rosso in testa e uno spillone dai tremuli fiori d'argento tra i biondi capelli annicchia allorché il manfroni le espose e la ragione per cui aveva mandato Lisi a chiamarla restò trastordita e perplessa e questo mio bambinello disse mostrandolo a chi lo lascio se lo strense al seno si mise a piangere di nuovo tata non torna Luzì non torna infine scoprendo la faccia lacrimosa aggiunse rivolta alla signora manfroni non lo conosce ancora non l'ha veduto quest'angeletto che gli è nato potresti darlo ad allevare con un po' di quello che avrai da Ersilia oh per la signorina Ersilia si affrittò a dire annicchia si figuri con che cuore lo vorrei fare ma troppo lontano a Roma il signor Saverio spiegò lì per lì che partenza pronti col treno e col piroscafo non c'erano più distanze ormai sì signore disse annicchia vos signoria dice bene ma io sono una povera ignorante mi sperderei non ho mai dato un passo fuori del paese e poi aggiunse vos signoria sa che ho con me la suocera come potrei lasciarla povera vecchia siamo restati noi due sole ditta me l'ha tanto raccomandata e se sapesse come viviamo io con le braccia legate da questa creaturina lei vecchia di 70 anni volevo dare ad allevare il piccino e mettermi a servizio già titta non troverà più nulla della bella roba comperata quando sposammo roba da poverelli si sa ma pulita svenduta a questo e a quello ma la vecchia non vuole che io vada a servizio è superba non vuole però essendo per la signorina Ersilia forse ecco potrei tentare di dirglielo sì ma la risposta subito dovresti partire domattina al più tardi annicchia rimase ancora perplessa sentirò e le saprò dire sì o no disse infine e andò via abitava in una viucola lì presso già tutte le vicine al tanto lieto quanto falso annunzio di Lisi si erano affollate nella nuda casetta a pian terreno intorno alla vecchia madre del deportato che se ne stava seduta tutta incarcocchiata con un fazzoletto nero in capo annodato sotto il mento e le mani nodose su un rozzo scaldino di terracotta posato sulle ginocchia lo davano quelle il buon cuore e la generosità del manfroni e la vecchia con la testa bassa emetteva di tratto in tratto come un grugnito non si sapeva se dà senso o di dispetto saettando con gli occhi certi sguardi che esprimevano diffidenza e fastidio quando annicchia si presentò sulla soglia e con l'aspetto e con le prime parole raggelò sulle labbra delle vicine le frasi ammirative per il signor manfroni la vecchia suocere alzò la testa e guardò in giro con sdegno le vicine poi all'annunzio della proposta del manfroni si levò in piedi che gli hai risposto annicchia volse uno sguardo alle vicine come per dire fatele intendere voi che io debbo accettare gli ho risposto che sarei venuta a dirvelo mamma non voglio non voglio gridò subito e rosa la vecchia non vorrei nemmeno io ma e di nuovo annicchia si rivolse per aiuto alle vicine queste allora un po' l'una e un po' l'altra cercarono di persuadere alla vecchia le ragioni per cui la nuora non avrebbe dovuto perdere l'occasione che le si offriva di provvedere onestamente a sé a lei al bambino una anzi che era venuta col suo figliolo in braccio attaccato a un'enorme poppa qua qua guardate si mise a gridare ho latte per due me lo piglio io il bambino qua guardate e cavando il capezzolo di bocca al poppante sollevando con una mano la mammella fece sprizzare il latte in faccia alle comari del vicinato che ridendo e riparandosi con le braccia si scostarono addossandosi l'una all'altra ma la vecchia non volle piegarsi si ribellò a tutte le insistenze gridando alla nuora se vai è contro la mia volontà e ti maledico ricordatene capitolo 2 l'avvocato l'avvocato Ennio Mori aspettava alla stazione l'arrivo del treno da Napoli piccolo di statura magrissimo con le spalle in capo sbuffava impaziente o si grattava la faccetta ossuta dalla tinta etterica invasa e quasi oppressa da una barba nera troppo cresciuta o si aggiustava le lenti che non volevano reggerglisi sul naso o si tastava di tanto in tanto le tasche del pastrano e della giacca piene di giornali si accostò a un ferroviere scusi il treno da Napoli? è in ritardo di 40 minuti ferrovie italiane cose da pazzi e si allontanò in cerca di un posto qualunque per sedere là in fondo sotto l'orologio in qualche sporgenza del muro poiché tutti i sedili erano ingombri gli toccava fare anche da servitore alla balia che doveva arrivare cose da pazzi dopo due anni di matrimonio e di dimora in Roma sua moglie era come uscita aurora da quella tribù di selvaggi dell'estremo lembo della Sicilia non sapeva né muoversi per casa né uscir sola per provvedere ai bisogni minuti della famiglia non sapeva far altro che rimproverar lui dalla mattina alla sera sempre imbronciata e punsecchiarlo dove più si teneva nella logica nella logica e affliggerlo con la più stupida e odiosa gelosia non per amore ma per puntiglio non si sentiva amata e sfido che aveva mai fatto che faceva per essere amata se pareva anzi che provasse gusto a farsi odiare mai una parola gentile mai una carezza mai e sempre armata di diffidenza spinosa dura arcigna permalosa parola d'onore aveva fatto un bel guadagno a sposarla cosa era pazzi sbuffò tornò ad aggiustarsi sul naso le lenti trasse uno dei tanti giornali e si mise a leggere ma pure in quella lettura come in casa trattando con la moglie non riusciva a trovare un momento di requie e quasi a ogni notizia tornava a ripetere quella sua solita frase cosa era pazzi seguitava a leggere tuttavia e ogni giorno non si dichiarava soddisfatto se non aveva scorso da capo a fondo tutti i fogli più in vista di Roma e di Milano di Napoli di Torino di Firenze di cui aveva sempre così piene le tasche medicina soleva dire mi muovono la bile troppo però eh glielo aveva detto anche il medico troppo sì forse ma poi non leggendo i giornali lo spettacolo diretto della minissima vita italiana la compagnia della moglie non gli avrebbero guastato il fegato meglio dunque giornali e questo maledetto treno da Napoli insomma arriva o non arriva guardò l'orologio scatto in piedi smarrito era trascorsa più di un'ora si avviò di corsa verso l'uscita dove trovare adesso quella poveretta che doveva essere arrivata e non sapeva l'indirizzo di casa ma la trovò per fortuna nell'ufficio della dogana dove si visitano i bagagli che piangeva seduta sul sacco i doganieri cercavano di confortarla le consigliavano di andare in questura non conoscendo essi quell'avvocato moro di cui ella parlava annicchia signorino gridò la poveretta levandosi d'un balzo alla voce e per poco non l'abbracciò dalla gioia tremava tutta perduta signorino mio perduta e come avrei fatto io se vostra signoria non veniva ma quel degnissimo galantuomo di mio socero le gridò a mori non poteva scriverti l'indirizzo di casa mia su un pezzettino di carta ma io non so leggere gli fece osservare annicchia che si sforzava di soffocare gli ultimi singhiozzi e si asciugava le lacrime cosa era pazzi avresti potuto dare l'indirizzo a un vetturino senza che mi incomodassi io a venire del resto son venuto ero dentro la stazione non mi sono accorto dell'arrivo del treno basta montando in vettura le raccomandò non far parola a mia moglie di questo incidente succederebbe un caso del diavolo trasse di tasca un altro giornale e si mise a leggere annicchia si restrinse per occupare nella vettura quanto meno posto le fosse possibile provava una gran soggezione seduta lì accanto al padrone sola con lui ma fu per poco era addirittura intronata dal lungo viaggio dalle tante e nuove impressioni che le avevano tumultuosamente investito la povera anima chiusa finora e ristretta là nelle abituali occupazioni dell'angusta sua vita non ricordava più nulla non pensava non vedeva più nulla sentiva soltanto il sollievo di essere giunta finalmente d'aver superato il terrore della traversata sul piroscafo da palermo a napoli lo sgomento della furia del treno ov'era giunta si provava a guardar fuori della vettura ma gli occhi le dolevano avrebbe avuto tanto tempo di vedere Roma la grande città dove era il papa intanto già si trovava accanto a uno che la conosceva e tra poco avrebbe riveduto la signorina sua e si sarebbe di nuovo sentita quasi nel suo paese sorrise le si affacciò per un istante al pensiero il figliuolo lontano la vecchia suocera ma ne scacciò subito l'immagine per il bisogno istintivo di non turbarsi quel momento di sollievo dopo le lunghe sofferenze angosciose del viaggio a Napoli le domandò a un tratto il mori è venuto qualcuno a rilevarti sul piroscafo ah sì signore un galantuomo tanto buono si affrettò a rispondergli a nicchia anzi mi ha comandato di salutarla ti ha comandato sì signore di salutarla ti avrà pregato sì signore ma un padrone mio e mio mori sbuffò e si rimise a leggere il giornale medicina medicina come dice a rischiotti imitamente a nicchia niente parlo con me a nicchia rimase un po' perplessa poi aggiunse anche a palermo è venuto alla stazione un altro galantuomo che mi ha poi accompagnata fino al vapore tanto buono anche lui e ti ha comandato anche lui di salutarmi sì signore anche lui il mori abbassò sulle gambe il giornale si aggiustò sul naso le lenti e le domandò accigliato tuo marito sempre là sospirò a nicchia all'isola ah se vos signoria che sta qui a roma che c'è il re sta zitta la interrompe la interrompe di scatto il mori come se nominando il re quella poveretta gli avesse pestato un piede basterebbe una parolina osò da aggiungere a nicchia sommessamente cose da pazzi sbuffò di nuovo il mori così urtato che spiegazzò il giornale che teneva sulle gambe e lo buttò fuori della vettura credi che ci abbiano mandato soltanto tuo marito a domicilio quattro ci mandano anche noi i signori domandò a nicchia stupita e incredula come ci li mandano i signori sta zitta ripelò il mori a cui riusciva addirittura insopportabile quella subita ignoranza e si mise fosco a riflettere sull'impresa disperata di dare una nuova coscienza a quell'infima gente della sua Sicilia in cui era così profondamente eradicato il sentimento della servilità la carrozza alla fine giunse in via Sistina dove il mori abitava Ersilia era ancora a letto sotto il roseo parato a padiglione dell'ampio letto tra il candore dei guanciali e dei merletti appariva più bruna di carnagione quasi nera immagrita come era dalle doglie del recente parto a nicchia corse ad abbracciarla festosamente signorina signorina mia eccomi qua mi pare un sogno come sta ha sofferto molto è vero oh figlia mia si vede non si riconosce più ma così vuole dio noi donne siamo fatte per patire un corno protestò Ersilia che stupide le donne tutte così ci provate gusto è vero a ripetere che noi donne siamo fatte per patire e a furia di ripeterlo eccoli qua i signori uomini credono davvero adesso che noi altre dobbiamo stare al loro servizio per il loro comodo e per il loro piacere noi le schiave vero e loro i padroni un corno Ennio Mori a cui era diretta la botta ripiegò furiosamente il terzo giornale sbuffò e uscì dalla camera a nicchia guardò la padrona un po' impacciata e disse anche loro poveretti hanno tanti guai dormire mangiare e andare a spasso vorrei fare un po' il cambio io uomo uomo e cieco d'un occhio certo quando abbiamo finito da poco di patire per loro no sempre li odio tutti a questo punto si intese dall'altra parte un grido di Ennio Mori l'universo mondo a cui rispose un altro grido eccomi signorino mi comandi Ersilia scoppiò a ridere e spiegò ad annicchia ho la serva sorda appena si grida un po' si sente chiamata margherita margherita sulla soglia si presentò la vecchia sorda con un'area tra di offesa e di stralunata di là il Mori con gli occhi fuori del capo le aveva fatto un gesto un certo gesto sguagliato senti margherita riprese Ersilia questa è la balia arrivata adesso adesso sì bene ora tu insegnale la sua camera hai capito andrai a lavarti aggiunse rivolgendosi ad annicchia sei tutta affumicata annicchia sporse il capo per guardarsi nello specchio dell'armadio e subito esclamò con le mani per aria mamma mia il fumo della ferrovia e le lacrime versate alla stazione le avevano insudiciato il volto prima ad andare a lavarsi volle però raccontare alla signorina sua con vivacissimi gesti e frequenti esclamazioni che facevano sbarrare tanto d'occhi alla serva sorda le peripezie del viaggio di mare poi di quello in ferrovia e come a un certo punto sentendosi scoppiare il seno per la furia del latte si fosse messa a piangere come una bambina i compagni di viaggio le domandavano chi avesse ma ella si vergognava a dirlo alla fine quelli capirono e allora un giovinastro le propose di succhiarle lui il latte mal creato e già le stendeva ridendo le mani al petto ella gridando aveva minacciato di buttarsi dal finestrino del vagone ma poi per fortuna alla prima fermata del treno un vecchio che era lì accanto a lei l'aveva condotta a un altro scompartimento dove c'era una donna che aveva con sé una bambinuccia di tre mesi misera misera alla quale finalmente aveva potuto dar latte sentendosi man mano rinascere Ersilia credeva ad aver già preso l'aria della continentale ed ebbe perciò fastidio di quelle vive e ingenue espressioni di pudor paesano basta lavarti ora poi mi dirai della mamma e del babbo va va il bambinello chiese Annicchia non me lo vuol far vedere lo vedo e me ne vado là disse Ersilia indicando la culla ma tu no non toccare il velo con le mani sporche su margherita faglielo vedere tra tanta ricchezza di nastri di veli di merletti Annicchia vide un mostriciattolo dal volto paonazzo più misero di quella bimba a cui aveva dato latte in treno pure esclamò bello bello coruccio mio dorme come un angioletto vos signoria vedrà quanto glielo farò diventare anche il mio luzziddu era nato così piccolo piccolo e ora se lo vedesse si interrompe commossa vado e torno poi disse e seguì la serva nell'altra camera fine prima parte della novella La Balia registrazione di Silvia De Simone Roma La Balia seconda parte dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Silvia De Simone novelle per un anno di Luigi Pirandello La Balia seconda parte capitolo 3 avrebbe voluto attaccarsi subito al seno il piccino il padrone era d'accordo con lei ma Ersilia che doveva in tutto contrariare il marito no signore volle prima che un medico esaminasse il latte c'è bisogno del medico disse a nicchia ridendo non vede come sto era raggiante di salute fresca e rosea Ersilia dal letto la guardò odiosamente come se ella con quelle parole avesse voluto attirare l'attenzione del marito il medico voglio subito il medico insistette e il mori borbottando la sua solita frase dovette andare per il medico questi venne verso sera quando già a nicchia spasimava di nuovo per il seno inturgidito e il bambino che non riusciva ad attaccarsi a quello del resto arido della madre trangosciava affamato Ennio avrebbe voluto assistere alla visita ma la moglie lo cacciò via che hai da vedere di piuttosto a Margherita che porti un cucchiaio e un bicchiar d'acqua bionda è bionda bionda diceva intanto il medico che aveva in vezzo ripetere tre o quattro volte di seguito la stessa parola guardando con aria astratta come se stentasse ogni volta a fissare il pensiero a nicchia nel vedersi osservata a quel modo diventò rossa come un papavero bionda è diciamo gentilissima signora seguitava intanto il medico bionda è vero gentilissima signora bella giovane bella e pare sana anche sana ma bruna 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 sarebbe stata meglio il latte delle brune sicuro il latte delle brune basta vediamo un po' fece alzare il capo da nicchia e le esaminò le glandule del collo dopo altre osservazioni distratto cominciò a sbottonarle il corpetto a nicchia tremante di vergogna stupita e imbarazzata cercò di impedirglielo riparandosi il seno con le mani cava fuori le disse il medico Ersilia scoppiò a ridere perché perché ride gentilissima signora ma non vede come si vergogna con questa sciocca gli fece notare Ersilia di me io sono il medico non c'è avvezza riprese Ersilia e poi le nostre donne sa noi siciliane non siamo mica come le donne di qua ah fece subito il medico capisco capisco so bene so bene più pudibonde eh pudibonde ma io sono il medico un medico è come il confessore vediamo un po' spremi tu stessa qualche goccia in questo cucchiaio quanto tempo ha il tuo figliuolo l'ho comprato rispose a nicchia forzandosi a guardarlo in volto che saranno due mesi l'hai comprato che dici come debbo dire ma fatto figliuola mia fatto i figliuoli si fanno si fanno che c'è di male quando il medico finalmente dopo l'esame del latte andò via a nicchia si abbandonò su una seggiola sfinita come se avesse sostenuto una tremenda fatica ah signorina mia che vergogna mi sentivo morire poco dopo udendo vaggire il bambino corse alla culla e subito gli porse il petto ti è sazia ti figlio bello mio animuccia mia ersilia dal letto la guatò di nuovo le vide i biondi capelli dorati spartiti nel mezzo in due bande che si ripiegavano sugli orecchi e le incorniciavano il volto delicato le intravide il seno meravigliosamente bianco e formoso e le disse stizzita sarebbe stato meglio custodirlo prima e poi dargli il latte per addormentarlo lo lasci succhiare poverino esclamò annicchia ha proprio fame se sentisse come succhia come succhia poco dopo nella camera accanto destinata a lei al piccino non rifiniva ad esclamare ammirando la mobilia e i cortinaggi Gesù che cosa Roma che cose e si sentì impacciata davanti a quel letto nuovo così bello apparecchiato per lei ricordò allora l'impaccio più vivo provato due anni addietro alla vista di un altro letto nel quale per la prima volta avrebbe dovuto coricarsi non più sola rivide col pensiero la sua casetta lontana come era già all'orchettitta senza quelle ideacce cattive che lo avevano rovinato aveva messa su amorosamente per le nozze come era adesso squallida e nuda con due seggiole appena e un letto solo per lei e per la suocera ora la vecchia laggiù lo aveva tutto per sé quel letto a due poiché forse il bambino dormiva in casa della vicina povero Luzziddu così piccino là fuori di casa e con la mamma sua così lontana certo quella donna non poteva aver per lui le cure che aveva per il proprio figliuolo e Luzziddu messo da parte doveva aspettar quieto quel po' che avanzava lui lui che finora aveva avuta tutta per sé la mamma sua Annicchia si mise a piangere ma poi temendo che qualcuno se ne avvedesse asciugò le lacrime e per confortarsi pensò che lì presso a guardia c'era la nonna la quale all'occorrenza avrebbe saputo farsi valere con quel suo fare cupo imperioso degna madre di Titta ma buona in fondo come era buono Titta certo col tempo si sarebbe convinta che se la nuora aveva osato disobbedire vi era stata costretta dalla necessità e per il bene di tutti ora per dimostrare quasi a se stessa che era stato un sacrificio il suo e che nel compierlo aveva pensato soltanto al bene degli altri non al suo avrebbe voluto dormire magari per terra e non lì su quel letto signorile sotto quel cortinaggio il piccino lì poiché tutta quella ricchezza era profusa per lui e lei per terra come una cagna non le dava proprio l'animo di entrare sotto quelle coperte pensando allo strame su cui giaceva il suo luziddu e a quello della suocera ma di lì a pochi giorni il goffo e pomposo abbigliamento recato dalla sarta doveva maggiormente offenderla in quel suo segreto sentimento erano proprio per lei tutte quelle galanterie grembiuli ricamati nastri di raso spilloni d'argento e doveva uscire così come se dovesse andare a una mascherata Ersilia che già si era levata da diretto si stizia facerbamente uh quante smorfie me le aspettavo qua usa così e così devi vestire ti piaccia o non ti piaccia come comandavo signoria si affrettò a risponderle a nicchia per calmarla mi perdoni vos signoria ha speso tanti bei denari per me che non merito nulla e poi che c'entra vos signoria è la padrona dicevo che mi sembra curioso perché nel nostro paese qua siamo a Roma troncò Ersilia del resto stai benissimo era vero il rosso acceso dello zendato dava un vivo risalto al biondo dei capelli all'azzurro degli occhi limpidi e gai Ersilia era certa che uscendo a passeggio con lei avrebbe fatto una pessima figura ma la vanità l'ambizione di averla a balia parata riccamente erano più forti in lei della stessa gelosia la condusse con sé la prima volta in carrozza annicchia infocata in volto dalla vergogna teneva gli occhi bassi sul piccino che le giaceva in grembo Ersilia intanto notava che tutti per via si fermavano e si voltavano a mirarla su su le disse tieni alta la testa non diamo spettacolo pare che t'abbiano schiaffeggiata annicchia si prova ad alzare gli occhi e a tenere alta la testa a poco a poco la maraviglia dello spettacolo insolito e grandioso della città le fece scordare la vergogna e si mise a guardare come all'occhita dove Ersilia le indicava Gesù Gesù mormorava tra sé annicchia che cose grandi che cose rientrò in casa da quella prima passeggiata stordita quasi vacillante con gli orecchi che le ronzavano come se fosse stata in mezzo a un tumulto e avesse faticato tanto a uscirne e si sentì di gran lunga di gran lunga più lontana dal suo paese come non si sarebbe mai immaginato e quasi sperduta in un altro mondo che non le pareva ancora vero Gesù Gesù intanto di là il mori dava a leggere alla moglie una lettera arrivata dalla Sicilia durante l'assenza di lei la signora Manfroni scriveva alla figlia che la vecchia Marullo le aveva rimandato il denaro che ella secondo l'accordo con Annicchia le aveva anticipato sulla prima mesata del Bialiatico la vecchia non aveva voluto neanche vederlo da lontano piuttosto diceva sarebbe morta di fame o sarebbe andata a mendicare di porta in porta un tozzo di pane intanto era venuta la vicina a cui Annicchia aveva affidato il bambino a protestare contro quella vecchia strega che non le voleva dar nulla neanche per provvedere ai bisogni della creaturina la signora Manfroni aggiungeva che aveva dato a quella vicina metà della mesata a patto però che la desse ogni giorno alla vecchia come carità che partisse da lei un piatto di minestra per non farla proprio morire di fame consigliava alla figlia di non stare a mandare l'altra metà che la Marullo non avrebbe mai accettato e concludeva dichiarandosi dolentissima di essersi cacciata in questo impiccio per aver voluto seguire il consiglio altrui il tuo bel consiglio scattò Ersilia ripiegando la lettera non devi farne mai una giusta io rimbeccò Egno e che ho forse scritto alla tua degnissima signora madre che mi scegliesse per balia la nuora ad una pazza furiosa no ma di volere una balia siciliana se non avessi avuto questa splendida idea non ci troveremmo ora in questi impicci del resto va là va là che ti piace e molto la balietta siciliana già me ne sono accorta il Mori sgranò tanto d'occhi la balia di mio figlio grida grida fa sentire tutto di là prima mi pungi e poi vuoi che non gridi anche gelosa della balia di mio figlio adesso sei pazza tu sei pazzo avessi tu tanto sale qui quanto ne ho io intanto che si fa che dobbiamo farne di questo denaro non vorrei mica spero spiattellarle che sua suocera lo rifiuta ma figurati darle questo dispiacere me ne guarderei bene il Mori perdette la pazienza e scrollandosi rabbiosamente andò via capitolo 4 gli toccava ora anche questo privarsi di fare una carezza fin anche di volgere uno sguardo al suo piccino perché la moglie sospettava già che la balia potesse interpretare quelle carezze e quegli sguardi come rivolti a lei e perché gli domandava ella infatti perché non ti compiace di tuo figlio quando sta in braccio a me e va invece a fargli tante smorfie quando sta con quella sdegnato avvilito di quell'ingiusto e odioso sospetto Ennio le gridava ma se te non ci stai mai il bambino ogni qualvolta ella se lo prendeva in braccio si metteva a piangere e tendeva le manine alla balia forse ella lo teneva male non tanto perché non ci fosse avvezza quanto per timore che potesse averne sporcate le ricche vesti da camera di cui faceva grande sfoggio quantunque non ricevesse mai visite e di rado uscisse di casa pure spendeva enormemente per gli abiti dei quali alla fine restava sempre scontenta come di tutto e di se stessa si sentiva ed era forse davvero infelice ma di questa sua infelicità incolpava gli altri anziché la propria indole scontrosa l'aspro carattere la mancanza di ogni garbo era convinta che se si fosse imbattuta in un altro uomo che l'avesse amata e compresa non avrebbe sentito tutto quel vuoto che sentiva dentro e attorno a sé ora le era venuto in uggia fino anche il bambino perché questi dimostrava di voler più bene alla balia che a lei e non passava giorno che anneghittita in quell'ozio non piangesse di nascosto il marito le vedeva qualche volta agli occhi gonfi e rossi ma fingeva di non accorgersene schivava quanto più poteva di parlare con lei ormai certo che per quanto dicesse o facesse non sarebbe riuscito a ispirarle a comunicarle quell'affetto per la vita di cui ella sentiva il desiderio smanioso ma del quale nello stesso tempo la riteneva incapace se l'aspettava dagli altri la vita senza intendere che ciascuno deve farsela da sé del resto se era infelice non meno infelice era lui che doveva viverci insieme bella esistenza la sua tutto il giorno tappato lì nello studio meno male che di tanto in tanto venivano a trovarlo gli amici del partito con i quali poteva almeno sfogarsi discutere liberamente durante quelle discussioni il vecchio scrivano dello studio era mandato in sala si inchinava ogni volta profondamente il signor felicissimo ramicelli a quei signori rivoluzionari e usciva con molta dignità appena avarcata la soglia però e richiuso l'uscio strizzava un occhio sollevava un piede e si stropicciava con tentone le mani poi rizzandosi le punte dei baffetti ritinti andava a seder sulla panca della sala d'ingresso con la speranza che vi capitasse annicchia la bella balietta siciliana già aveva tentato di attaccar discorso con lei sai come mi chiamo felicissimo ma annicchia pareva non capisse gli voltava le spalle e il signor ramicelli diceva allora a se stesso felicissimo eh già ma di che gli avevano imposto come un augurio questo bel nome superlativo grazie ma proprio nella vita non aveva trovato mai di che dichiararsi non che felice ma neppure appena appena contento il signor ramicelli guadagnava otto lire al giorno che gli sarebbero bastate forse se non avesse avuto un vizzetto un certo vizzetto eh come si fa le belle donnine quella annicchia per esempio che bocconcino ogni qualvolta la vedeva si sentiva toccar l'ugola e gli pareva anche una buona ragazza gli pareva intendiamoci perché tutte le balie si sa ragazze andate a male roba da da guerra là annicchia notando le occhiate i lezzi da scimmia del signor ramicelli non sapeva se dovesse riderne o aversene a male le sembrava tanto curioso quel vecchietto ancora così biondo certo se non era già andato via col cervello poco ci doveva mancare là nella saletta d'ingresso ella tentava di mettere a prova i piedini del bimbo reggendolo sotto le ascelle non era ancora riuscita dopo sei mesi a pronunziare correttamente il nome che il mori aveva imposto al bambino Leonida lo chiamava Nonida ma che Nonida le diceva il signor ramicelli per stuzzicarla Leonida io non so dirlo è felicissimo non sai dirlo neppure felicissimo mi chiamo proprio così sai annicchia si riprendeva in braccio il bambino e andava via dalla saletta dicendo non ci credo e neppure io concludeva filosoficamente il signor ramicelli che restava lì ad aspettare che la discussione nello studio terminasse tattica farabutti l'educazione del proletariato programma minimo queste simili espressioni giungevano di tratto in tratto agli orecchi del ramicelli il quale scoteva malinconicamente il capo e si volgeva piuttosto a guardare verso l'uscio per cui era andata via la balia e sospirava gli giungeva di là qualche volta una certa ninna nanna paesana che annicchia cantava con voce dolce e malinconica forse pensando al suo bambino e guardando intanto questo che già col suo latte si era fatto grosso e bello anche più grosso di quanto aveva lasciato il suo là ah un gigante certo si sarebbe fatto povero luzziddu se ella avesse potuto allattarlo e invece chissà le passavano tante brutte deacce per il capo spesso se lo sognava infermo magro magro pelle ossa col colluccio vizzo e un testone d'arachitico che gli si abbandonava ora su una spalluccia ora sull'altra e gli ingrossava di punto in punto mentre ella stava a contemplarlo raccapricciata allibita questo è il mio luzziddu così si è ridotto e voleva nel sogno angoscioso dargli il suo latte subito subito ma il bambino allora la guardava con gli occhi cupi truci della nonna e voltava la faccia rifiutando il seno che ella gli porgeva che strazio si destava col cuore in gola e fino a giorno non riusciva a togliersi dagli occhi l'immagine del figliuolo ridotto in quello stato non ardiva più intanto di parlarne alla padrona che già più volte le aveva risposto male forse perché urtata dalla sua soverchia insistenza o forse perché temeva che ella pensando troppo alla sua creaturina trascurasse il bimbo ma questo no in coscienza non poteva né doveva dirlo eccolo qua nodida florido e vispo annicchia quasi quasi non sapeva più riconoscere nella padrona ad oggi la signorina Ersilia ad un tempo così malamente si vedeva trattata peggio d'una serva faceva di tutto per lasciarla contenta si piegava a tanti servizi a cui non era obbligata ora che Margherita la sorda era andata via e si sforzava di parere allegra e di rincorare anche la padrona che dava i nismani e si disperava per ogni non nulla eccomi qua ci sono io faccio tutto io signorina mia non si confonda avrebbe voluto in compenso un po' più di considerazione per esempio quando arrivavano le lettere dalla Sicilia gli elegava lei tutta contenta esultante signorina signorina che c'è hai preso un terno all'otto la agghiacciava ogni volta con quelle parole stava ad aspettarla che la finissa di leggere la lettera sperando che le desse subito notizia del suo bambino ma che nulla doveva domandargne lei quando le vedeva rimettere il foglio nella busta e di Luzziddu niente sì dice che sta bene e mia suocera mia suocera anche doveva contentarsi di queste risposte ma possibile che di laggiù non le mandassero a dire altro ah come si pentiva adesso di non avere imparato a scrivere aveva sì supposto partendo che la lontananza le sarebbe riuscita penosa ma tanto poi no era un vero supplizio così il bambino però tra pochi giorni avrebbe compiuto sette mesi a nove per volontà del padre doveva essere svezzato dunque due mesi ancora di quelle sofferenze pazienza non si aspettava confortandosi e rassegnandosi così alla malasorte quel che doveva accaderle proprio nel giorno che il bambino compiva il settimo mese giorno di doppia festa perché a nonita era anche spuntato il primo dentuccio sentendo suonare quel giorno il campanello alla porta e parendole dalla scampanellata che fosse il postino si era recata ad aprire tutta contenta al solito ma a un tratto senza aver avuto neanche il tempo di accorgersi a chi avesse aperto si era trovata per terra intronata da un terribile schiaffo titta marullo il marito pallido scontraffatto dall'ira le era sopra con un piede alzato per pestarle la faccia brutta cagna dov'è il tuo padrone al grido accorsero il mori la moglie e il signor ramicelli titta marullo pallido come un morto si accostò al mori gli prese il bavero della giacca e scrollandoglielo pian piano mio figlio è morto sei morto aggiunse voltandosi verso annicchia che aveva cacciato un urlo e tu ora che vuoi fare me lo paghi o vuoi darmi il tuo è pazzo gridò ersilia tremando spaventata il mori respinse con un urtone il marullo indicandogli la porta furente nel corpicciuolo nervoso via gridò ma scalzone esci di casa mia subito che fai gli disse il marullo venendogli avanti a petto io non ho più nulla da perdere bada mia madre all'ospedale mio figlio è morto sono venuto a sputarti in faccia e prendermi questa cagna su alzati aggiunse rivolgendosi alla moglie che stava ancora buttata a terra ma a questo punto il ramicelli che era scappato via non visto ritornò ansante spaventato insieme con due guardie di questura alle quali subito il mori che tremava tutto di rabbia si rivolse concitatissimo via conducetelo via è venuto a insultarmi a minacciarmi fino in casa cos'è sto mascalzone le due guardie afferrarono per le braccia il marullo che cercava di svincolarsi gridando io voglio mia moglie e lo trascirarono via seguiti dal mori che volle recarsi in questura a denunziare l'aggressione patita capitolo 5 il giorno dopo senza fretta arrivò la lettera della signora Manfroni che annunziava la morte del bambino e la malattia della vecchia Marullo di titta nessun cenno il mori suppose dapprima che gli fosse evaso dal domicilio coatto ma poi venne a sapere che era stato graziato per intercessione del prefetto a cui la madre ammalata aveva rivolto una supplica dall'ospedale la questura di Roma intanto lo aveva rimandato in Sicilia sotto la minaccia che sarebbe tornato al suo luogo di pena se laggiù avesse minimamente tentato di sottrarsi alla sorveglianza speciale a cui era stato sottoposto per tre anni ad annicchia per lo spavento del marito e lo strazio della morte del figlio era sopravvenuta una fierissima febbre parve per tre giorni che volesse impazzire poi il delirio le allucinazioni cessarono rimase come stordita in un istupidimento che costernava anche più delle furie di prima guardava e pareva non vedesse udiva ciò che le si diceva rispondeva di sì col capo o con la voce ma poi dimostrava di non aver compreso il latte le era venuto meno e il bambino si era dovuto svezzare tutta la casa era sossopra Ersilia inesperta inetta a tutto aveva dovuto vegliare due notti il bambino che voleva la balia e non si quietava un momento aveva dovuto anche attendere alla casa dar le prime istruzioni alla nuova serva badare anche un po' alla malata ed era sulle furie contro il marito che si guardava attorno con un giornale in mano senza saper che fare ma che avrebbe potuto fare che? gli gridava la moglie ma muoverti darti attorno non vedi che io sono qua sola senza nessuno col bambino in braccio e non posso badare anche a lei che mi ha cagionato tutto questo scompiglio va esci procura di trovarle posto in qualche ospedale Ennio a tale proposta si fermava a guardarla trasecolato all'ospedale pietà compassione riprendeva Ersilia inviperita per lei è vero non per me che non dormo più da tante notti che non trovo più neanche il tempo da pettinarmi devo fare la serva a tutti ma aspetta che si rimetta in piedi e ti farò vedere neanche un giorno neanche un minuto deve rimanere più in casa mia non ebbe però il coraggio di porre a effetto questa minaccia appena Annicchia si fu un poco rimessa tentò di muovergli nel discorso dichiarandole che teneva a disposizione di lei il danaro che la suocera aveva rifiutato ma Annicchia le rispose e che vuole che me ne faccia più oramai non ho più che questo qua ora e si strinse al seno Nonida che era tornato a lei e le dimostrava lo stesso amore quantunque divezzato la prima volta che la serva glielo recò lì a letto ne provò una viva repulsione per lui il suo bambino era morto ma poi commossa dall'amorosa impazienza con cui il piccino ignaro le tendeva le manine se lo abbracciò stretto stretto come si sarebbe abbracciato il suo stesso figliuolo e sciolse il cordoglio che la soffocava in un pianto senza fine il piccino le cercava ancora il seno ah figlio ah figlio che vuoi più da me non ho più nulla io non posso dar più nulla io né a te né a nessuno finì la mamma tua amore mio finì finì ah se almeno avesse potuto sapere con certezza come perché fosse morto il suo bambino se per mancanza di nutrimento o per qualche male non curato doveva rassegnarsi così senza saperne nulla più nulla possibile come fosse morto un cagnolino oh povero innocente abbandonato senza la mamma sua accanto senza il padre senza nessuno morto lì fra mani estranee oddio oddio ma chi si curava ora della sua pena la padrona anzi era in collera con lei per via del figlio privato improvvisamente del latte a soli sette mesi e aveva ragione sì perché anche lei era mamma e non poteva darsi pensiero che del suo figliuolo che importava a lei che quell'altro fosse morto dispetto poteva sentirne non dolore sì ma deve pur comprendere pensava annicchia che il suo figliuolo appartiene ora anche a me che se ella ci ha messo la pena di farlo io ci ho rimesso il figlio per lui e ora non mi resta più altro per quanto Ersinia non dispiacesse di sottrarsi al fastidio del bambino pure non voleva che questo si affezionasse di più a colei che già lo considerava come suo e si raffermava sempre più nel proposito di mandarla via del resto che obbligo aveva di tenerla ancora non era adatta né a far da serva né da bambinaia ella poi voleva che il suo piccino imparasse a parlare bene l'italiano e con quello accanto che parlava soltanto in dialetto non sarebbe stato possibile dunque via via o doveva forse tenerla perché desse spettacolo della sua bellezza al marito via via e il marito stesso doveva licenziarla io perché io le disse il mori perché tu sei il capo di casa e poi perché non so che cosa ella si sia fitto in mente per la pietà per la commiserazione che tu hai voluto dimostrarle in questa occasione io ripete Ennio non le ho dimostrato nulla io l'avrà forse creduto lei allora per me fa lo stesso non vedi crede già di essere a casa sua le madri così qua le padrone di casa saremmo due ora se questo può piacere a te a me non piace Ennio pur sapendo che faceva peggio si provò ancora una volta a ragionare ma scusa perché vuoi ostinarti a vedere il male dove non è e crearti fantasmi odiosi quando io con la mia vita di studio di lavoro non ti ho mai dato cagione di dubitare di me hai visto che per stare in pace per contentarti mi sono fin anche vietato di fare una carezza al mio bambino diffidi ora di quella poveretta ma ti pare che possa sorridere il pensiero di tornare laggiù dove non troverà più il figlio dove troverà invece un bruto che la incolpa della morte del bambino e di cui le ha paura avendo perduto il proprio figliuolo per essere venuta qua ad allattare il nostro crede di aver acquistato il diritto di stare in casa nostra presso a quest'altro bambino al quale ha sacrificato il suo non ti pare giusto non ti pare ragionevole ripeteva senza volerlo quel che aveva scritto poco prima che la moglie entrasse nello studio a parlargli riflettendo intorno al triste caso di quel bambino morto laggiù in Sicilia aveva pensato a un passo dell'opera del malonc e invece di farsene un rimorso si era proposto di farne argomento ad una conferenza che avrebbe tenuto al circolo socialista fra qualche giorno Ersilia come era da aspettarsi si ribellò a quelle riflessioni umanitarie e uscì dallo studio deliberata a licenziare sul momento annicchia il mori esasperato afferrò le prime cartelle già scritte della conferenza e le scaraventò a terra poco dopo attraverso l'uscio chiuso intese il pianto disperato di quella disgraziata e le parole strazianti con cui pregava la padrona di non mandarla via mi tenga come serva senza darmi niente mi dia solo un tozzo di pane quel che dovrà buttar via dormirà magari per terra ma non mi scacci per carità io laggiù non posso non posso più ritornare abbia pietà di me lo faccia per amore di questo innocente se lei mi scaccia io mi perdo signorina io mi perdo ma laggiù non torno durarono a lungo quel pianto e quelle angosciose preghiere poi il mori non intese più nulla ritenne che ersilia si fosse impietosita e avesse concesso a quella poveretta di rimanere col bambino di lì a poco entrò nello studio il signor felicissimo ramicelli senza la consueta dignità infocato in volto e con gli occhietti lustri che vittoria che vittoria per poco non si fregava le mani lì sotto gli occhi dell'avvocato il signor ramicelli la bella balietta siciliana scacciata aurora dalla padrona quella sera stessa sarebbe venuta a dormire in casa sua eh ma già le balie lui lo sapeva bene tutte ragazze andate a male roba da da guerra là questa qui faceva ancora l'ingenua mostrava di credere da aver compreso che lui la volesse soltanto per serva eh sì per serva perché no signor ramicelli comandi signor avvocato attento eh scrittura chiara e mi raccomando senza svolarsi né in su né in giù e il mori gli porse da ricopiare le cartelle già scritte della conferenza poi seguitò l'eguaglianza tra gli uomini secondo il socialismo come diceva il malon si deve intendere quindi in un duplice senso relativo primo che tutti gli uomini perché tali abbiano assicurate le condizioni dell'esistenza secondo che quindi gli uomini siano uguali nel punto di partenza alla lotta per la vita sicché ognuno svolga liberamente la propria personalità a parità di condizioni sociali mentre ora il bambino che nasce sano e robusto ma povero deve soccombere nella concorrenza con un bambino nato debole ma ricco signor Ramicelli avvocato che ha è impazzito perché ride così fine della novella la balia registrazione di silvia di simone roma il corvo di mizzaro dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Egi novelle per un anno di Luigi Pirandello il corvo di mizzaro pastori sfaccendati arrampicandosi un giorno su per le balze di mizzaro sorpresero nel nido un grosso corvo che se ne stava pacificamente a covar le uova o babbaccio e che fai ma guardate un po' le uova a cova servizio di tua moglie babbaccio non è da credere che il corvo non gridasse le sue ragioni le gridò ma da corvo e naturalmente non fu inteso quei pastori si spassarono a tormentarlo un'intera giornata poi uno di loro se lo portò con sé al paese ma il giorno dopo non sapendo che farsene gli legò per ricordo una campanellina di bronzo al collo e lo rimise in libertà godi che impressione facesse al corvo quel ciondolo sonoro lo avrà saputo lui che se lo portava al collo su per il cielo a giudicare dalle ampie volate a cui si abbandonava pareva se ne beasse dimentico ormai del nido e della moglie i contadini che attendevano curvi a lavorare la terra udendo quello scampanellio si rizzavano sulla vita guardavano di qua di là per i piani esterminati sotto la gran vampa del sole dove suonano non spirava alito di vento da qual mai chiesa lontana dunque poteva arrivar loro quello scampanio festivo tutto potevano immaginarsi tranne che un corvo sonasse così per aria spiriti spiriti pensò cichè che lavorava solo solo in un podere a scavar conche attorno ad alcuni frutici di mandorlo per riempirle di concime e si fece il segno della croce perché ci credeva lui e come agli spiriti perfino chiamare s'era sentito qualche sera ritornando tardi dalla campagna lungo lo stradone presso alle fornaci spente dove a detta di tutti ci stavano di casa chiamare e come chiamare cichè cichè così e i capelli gli si erano rizzati sotto la berretta ora quello scampanellio lo aveva udito prima da lontano poi da vicino poi da lontano ancora e tutti intorno non c'era anima viva campagna alberi e piante che non parlavano e non sentivano e che con la loro impassibilità gli avevano accresciuto lo sgomento poi andato per la colazione che la mattina si era portata da casa mezza pagnotta e una cipolla dentro al tascapane lasciato insieme con la giacca un buon tratto più là appeso a un ramo d'olivo sì signori la cipolla sì dentro al tascapane ma la mezza pagnotta non ce l'aveva più trovata e in pochi giorni tre volte così non ne disse niente a nessuno perché sapeva che quando gli spiriti prendono a bersagliare uno guai a lamentarsene ti ripigliano a comodo e te ne fanno di peggio non mi sento bene rispondeva Cichè la sera ritornando dal lavoro alla moglie che gli domandava perché avesse quell'aria da intronato mangi però gli faceva osservare poco dopo la moglie vedendogli ingollare due o tre scodelle di minestra una dopo l'altra mangio già masticava Cichè digiuno dalla mattina e con la rabbia di non potersi confidare finché per le campagne non si sparse la notizia di quel corvo ladro che andava suonando la campanella per il cielo Cichè ebbe il torto di non saperne ridere come tutti gli altri contadini che se ne erano messi in apprensione prometto e giuro disse che gliela farò pagare e che fece si portò nel tascapane insieme con la mezza pagnotta e la cipolla quattro fave secche e quattro gugliate di spago appena arrivato al podere tolse all'asino la bardella e lo avviò alla costa a mangiare le stoppie rimaste col suo asino Cichè parlava come sogliono i contadini e l'asino rizzando ora questa ora quell'orecchia di tanto in tanto sbruffava come per rispondergli in qualche modo va ciccio va gli disse quel giorno Cichè e sta a vedere che ci divertiremo forò le fave le legò alle quattro gugliate di spago attaccate alla bardella e le dispose sul tascapane per terra poi si allontanò per mettersi a zappare passò un'ora ne passarono due di tratto in tratto Cichè interrompeva il lavoro credendo sempre di udire il suono della campanella per aria retto sulla vita tendeva l'orecchio niente e si rimetteva a zappare si fece l'ora della colazione perplesso se andare per il pane o attendere ancora un po' Cichè alla fine si mosse ma poi vedendo così ben disposta l'insidia sul tascapane non vuole guastarla in quella intese chiaramente un tintinneo lontano levò il capo eccolo e cheto e chinato col cuore in gola lasciò il posto e si nascose lontano il corvo però come se godesse del suono della sua campanella s'aggirava in alto in alto e non calava forse mi vede pensò Cichè e si alzò per nascondersi più lontano ma il corvo seguitò a volare in alto senza dar segno di voler calare Cichè aveva fame ma pur non voleva dargli la vinta si rimise a zappare aspetta aspetta il corvo sempre lassù come se glielo facesse apposta affamato col pane lì a due passi signori miei senza poterlo toccare si rodeva dentro Cichè ma resisteva stizzito ostinato calerai calerai devi aver fame anche tu il corvo intanto dal cielo col suono della campanella pareva gli rispondesse dispettoso né tu né io né tu né io passò così la giornata Cichè esasperato si sfogò con l'asino rimettendogli la bardella da cui pendevano come un festello di nuovo genere le quattro fave e strada facendo morsi da arrabbiato quel pane che era stato per tutto il giorno il suo supplizio a ogni boccone una mala parola all'indirizzo del corvo boia ladro traditore perché non si era lasciato prendere da lui ma il giorno dopo gli venne bene preparata l'insidia delle fave con la stessa cura si era messo da poco al lavoro allorché intese uno scampanellio scomposto lì presso e un gracchiar disperato tra un furioso sbattito d'ali a corse il corvo era lì tenuto per lo spago che gli usciva dal becco e lo strozzava ah ci sei caduto gli gridò afferrandolo per le alacce buona la fava ora a me brutta bestiaccia sentirai tagliò lo spago e tanto per cominciare assestò al corvo due pugni in testa questo per la paura e questo per i digiuni l'asino che se ne stava poco discosto a strappare le stoppie dalla costa sentendo gracchiare il corvo aveva preso intanto la fuga spaventato cichè lo arrestò con la voce e poi da lontano gli mostrò la bestiaccia nera eccolo qua ciccio lo abbiamo lo abbiamo lo legò per i piedi lo appese all'albero e tornò al lavoro zappando si mise a pensare alla rivincita che doveva prendersi gli avrebbe spuntate le ali perché non potesse più volare poi lo avrebbe dato in mano ai figliuoli e agli altri ragazzi del vicinato perché ne facessero scempio e tra sé rideva venuta la sera aggiustò la bardella sul dorso dell'asino tolse il corvo e lo appese per i piedi al posolino della groppiera cavalcò e via la campanella legata al collo del corvo si mise allora a tintinnare l'asino drizzò le orecchie e si impuntò arri gli gridò cicchè dando uno strattone alla cavezza e l'asino riprese ad andare non ben persuaso però di quel suono insolito che accompagnava il suo lento zoccolare sulla polvere dello stradone cicchè andando pensava che da quel giorno per le campagne nessuno più avrebbe udito scampanellare in cielo il corvo di Mizzaro lo aveva lì e non dava più segno di vita ora la mala bestia che fai gli domandò voltandosi e dandogli in testa con la cavezza ti sei addormentato il corvo alla botta di botto a quella vociaccia inaspettata l'asino si fermò il collo ritto le orecchie tese cicchè scoppiò in una risata arri ciccio che ti spaventi e picchiò con la corda l'asino sulle orecchie poco dopo di nuovo ripetea il corvo la domanda ti sei addormentato e un'altra botta più forte più forte allora il corvo crrrr ma questa volta l'asino spiccò un salto da montone e prese la fuga in vano cicchè con tutta la forza delle braccia e delle gambe cercò di trattenerlo il corvo sbattuto in quella corsa furiosa si diede a gracchiare per disperato ma più gracchiava e più correva l'asino spaventato crrrr 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 cicchè urlava a sua volta tirava tirava la cavezza ma ormai le due bestie parevano impazzite dal terrore che si incutevano a vicenda l'una berciando e l'altra fuggendo sonò per un tratto nella notte la furia di quella corsa disperata poi si intese un gran tonfo e più nulla il giorno dopo cicchè fu trovato in fondo a un burrone sfracellato sotto l'asino anch'esso sfracellato un carnaio che fumava sotto il sole tra un nugolo di mosche il corvo di Mizzaro nero nell'azzurro della bella mattinata sonava di nuovo pei cieli la sua campanella libero e beato fine della novella il corvo di Mizzaro registrazione di Egi pesaro www.anobi.com slash due slash books la veglia dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Titta novelle per un anno di Luigi Pirandello La veglia capitolo 1 Marco Mauri nel buio della scala avvivato appena dall'incerto barlume che si insinuava dal corridoio dove aveva lasciato la candela accesa domandò a un signore che si affrettava a salire il medico venga muore quelli si arrestò un istante come per discernere chi li investiva con quella domanda e con quell'annunzio muore il Mauri si inghiozzando e gestendo senza poter rispondere si mise a risalire a balzi la scala poi tolse da terra la candela attraversò il corridoio infilò per primo l'uscio in fondo qua disse in quest'altra camera il nuovo arrivato lo seguì ansioso guardingo come se dalle cose che balzavan dall'ombra al lume fuggente della candela che quelli teneva in mano volesse prima indovinare dove fosse venuto a cacciarsi sulla soglia della seconda camera si arrestò ansante era un uomo di circa 50 anni alto a ristatura dall'aria rabbuffata portava occhiali a staffa cerchiati d'oro non aveva né barba né baffi quasi calva la sommità del capo ma ciocche di capelli biondi gli scendevano scompostamente sulla fronte e sulle tempie se le rialzò e si tenne un tratto le mani sul capo giaceva sul letto disfatto nella camera in disordine appena rischiarata una donna livida col viso già orribilmente stirato ai due lati del naso teneva gli occhi chiusi i capelli d'un bellissimo color rosso sciolti e sparsi sul guanciale pareva già come inabissata nella morte ma frequenti mutisi ingulti incoscienti le scotevano ancora il capo appena appena un vecchio pretucolo senza sottana bruno coi calzoni a mezza gamba le calze lunghe e le fibbie di argento alle scarpine interruppe la preghiera che l'abbreggiava distratto accanto al letto e si levò da sedere in un'ansia dubbiosa mentre il mauri diceva a bassa voce smaniando tra le lacrime qua qua guardi la ferita è qua e si premeva forte l'indice di una mano sul basso ventre qua il colpo evidentemente è deviato la mano era inesperta sente si inghiozza così da questa mattina perché non l'hanno operata a tempo capisce non hanno voluto operarla veda veda lei le dia subito aiuto non s'aspettava che quell'uomo da lui creduto il medico rimasto lì a piede del letto con gli occhi dilatati fissi sulla moribonda si rivoltasse a un tratto a guatarlo non ode sa non ode più aggiunse allora con un gesto disperato ma quegli si voltò verso il prete che già si era accostato timido perplesso don camillo righi domandò a servirla proprio io sì signore e lei di grazia il dottor silvio gelli ah il marito ghignò il mauri zitto lei saltò a dirgli il vecchio pretucolo stizzito fuori di qua fuori di questa camera e lo trasse per un braccio nella camera adigua no scusate spiegatemi sopravvenne a dirgli l'altro guardandolo freddamente con disprezzo ma si interruppe vedendo all'improvviso venir fuori da un angolo in ombra un mostriciattolo una povera sbiobbina alta appena un metro dal volto giallastro disfatto in cui però spiccavano vivacissimi gli occhi neri pieni di spavento di là margherita di là le disse il prete indicando la camera della moribonda mia sorella aggiunse rivolto al gelli con uno sguardo che invocava con passione ma il gelli riprese a dire con durezza mi avete scritto che moriva pentita si creda signor professore s'affrettò a rassicurarlo in righi proprio pentita sa lei stessa anzi la poverina ha voluto chiederle perdono per mio mezzo chi è dunque costui domandò sprezzante il gelli ecco le dirò è venuto non so di dove ma si da perugia da perugia interloqui il mauri ponendosi a sedere su un divanuccio presso il tavolino su cui ardeva la candela i righi riprese impacciatissimo la sera dello stesso giorno che ci capitò qua la signora io e le mie donne credemmo anzi da prima che fosse un parente eh margarita la sbiobbina rimasta presso l'uscio impaurita chinò più volte il capo guardando il gelli con un sorriso incosciente sulle labbra poi seguitò il righi quando la signora dopo volle confessarsi con me seppi che sì lui la la perseguitava ecco il mauri ruppe in un altro ghigno scrollando il capo ma io non capisco esclamò il prete non c'è stato possibile creda a mandarlo via e non me ne andrò raffibbiò sordamente il mauri guardando verso terra silvio gelli lo fissò un tratto poi domandò a righi questa è casa vostra albergo rispose il mauri invece del prete senza alzar gli occhi no signore rimbeccò pronto il righi sulle furie chi gliel'ha detto dove sta scritto questa è semmai pensione ma d'estate ora non è stagione ed è casa mia soltanto e vi ricevo chi mi pare e piace e le ripeto vada via quante volte glielo a dire come parere che ho abbia tollerato la sua sconvenienza scusi lei non ha più nulla da far qui ora che è venuto il signor professore dunque si levi su non me ne vado ripete il mauri rimanendo seduto e guardando fisso il prete con gli occhi da matto neanche se vi scaccio io gli gridò allora il gelli appressandosi e parandoglisi di fronte no signore mi insulti mi bastoni ma mi lasci star qui proruppe con un orribile schianto nella voce il mauri che le faccio io che ombra posso più darle me ne starò qua in questa camera per carità mi lasci piangere lei non può piangerla signore la lasci piangere a me perché quella infelice non ha bisogno creda d'essere perdonata ma d'essere pianta lei mi perdoni avrebbe dovuto ammazzare come un cane colui che prima gliela tolse e poi ebbe cuore ad abbandonarla non deve scacciar me che l'ho raccolta che l'ho adorata e che per lei ho spezzato anche la mia vita per lei io Marco Mauri sappia che ho abbandonato la mia famiglia mia moglie i miei figli si levò in piedi così dicendo con gli occhi sbarrati le braccia alzate e soggiunse vedà un po' se è possibile che lei mi scacci Silvio Gelli in preda a uno sbalordimento che non lasciava intendere se in lui fosse più sdegno o pietà ira o vergogna rimase a guardare quell'uomo già maturo così alterato dalla furia del disperato cordoglio gli vide scorrere grosse lacrime per la faccia contratta che andavano a inzuppargli l'ispita barba nera qua e la brizzolata spartita sul mento un gemito angoscioso venne dalla camera da letto il Mauri si mosse istintivamente per accorrere ma il Gelli lo arrestò intimandogli non entri sì signore si rimise egli indiottendo le lacrime vada a lei è giusto veda veda se sia possibile far qualche cosa lei è un gran medico lo so ma già meglio che muoia di eretta la lasci morire perché se lei è venuta a perdonarla io si nascose il volto con le mani rompendo un'altra volta in singhiozzi e andò a buttarsi di nuovo sul divanuccio tutto raggomitolato nel rabbioso cordoglio che lo divorava Don Camillo Righi toccò pian piano il braccio al Gelli e indicò la camera della moribonda che forse si era scossa dal letargo ma no scusate gli disse il Gelli con un sorriso sforzato tremante sulle labbra intenderete bene che io non m'aspettavo ha ragione ha ragione ma la prego di compatire costui è pazzo si lasciò scappare in Righi pazzo pazzo nicchiò allora il Mauri sì per disperazione forse sì per rimorso ma perché non gli hai tu scritto prete che Flora si è uccisa per me Flora domandò il Gelli senza volerlo Fulvia Fulvia lo so si corresse subito il Mauri ma si è fatta chiamare Flora dopo lei non lo sa e io so tutto la sua vita d'ora è quella di prima tutto e so anche perché lei è venuto qua ah bene esclamò il Gelli io invece comincio a non saperlo più glielo dico io ribatte il Mauri senta sono sull'orlo di un abisso sia che la viva sia che muoia posso dunque parlare come voglio senza più riguardo a nulla né a nessuno signor professore scusi si provò a suggerire di nuovo i righi tra le spine ma no ma no lo lasci dire gli rispose il Gelli siamo davanti alla morte esclamò il Mauri non c'è più gelosia né lei del resto può aver ragione di adontarsi di me Flora quando io la conobbi era sulla strada dunque ha fatto male con il sto prete a non scriverle che sia uccisa per me ma io si scusò il righi tirato di nuovo in ballo io ho obbedito al mio sacro ministero e basta buffonate tornò a sghignare il Mauri volete sul serio rappresentare la commedia del perdono adesso bene vada là dunque lei vada ad accordarle il perdono e se ne torni d'onde è venuto là là a Como nella mena sua villa di cavallasca con l'amor proprio contento con la bella soddisfazione della propria generosità ma vi par questo il luogo e l'ora di rappresentar commedie glielo dica a lei francamente a codesto prete che cosa l'ha spinto a venire qua il rimorso prete il rimorso perché lui lui ridusse quella disgraziata alla disperazione tant'anni fa è vero lo dica finiamola là c'è una donna che muore assassinata finiamola ora lei si è fatto un uomo virtuoso uno scienziato illustre sfido si è tenuta con sé la figliola vi proibisco gridò il gelli fremendo in tutto il corpo e contenendosi a stento e che dico io riprese umile il mauri dico che quell'anima innocente ha avuto il potere di farla rinsavire non è vero ma pensi intanto che neppure quella donna sarebbe là se lei non si fosse tenuta la figliola voi avete abbandonato i vostri figli e avete il coraggio di parlare così di fronte a me sì signore e io mi accuso io io sono qua con lo strazio di un doppio delitto infatti perché l'ho ingannata io questa donna sì signore le ho detto che ero scapolo che non avevo nessuno le ho detto la verità a modo mio quella che era verità per me mia moglie invece capisce è andata a trovarla lì a Perugia e le ha detto chi le avrà detto io non so so che lei lusingandosi di ridare la pace a una famiglia se ne è venuta qua per torsi di mezzo ora come vuole che io me ne vada lei la martire mi ha perdonato a me non può bastare il suo perdono bisogna che io me ne stia a piangere qua finché lei invita e poi poi non so senta mi vuol dare ascolto si levi la maschera lei che è venuto a perdonare e vada a buttarsi in ginocchio davanti a quel letto a farsi piuttosto perdonare lei e dica a quella povera donna che è una santa e dica che è la vittima di tutti noi le dica che gli uomini sono vigliacchi non si disonorano mai gli uomini solo se rubano un po' di danaro perché se poi rubano l'onore a una donna e niente se ne vantano guardi guardi come dovremmo fare noi uomini d'improvviso si inginocchiò davanti alla sbiobbina atterrita le prese le braccia e le gridò sputami 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 in faccia sopravvennero alle grida due donne svegliate di soprassalto mezzo discinte la signora Nacheri cognata del Righi vedova e la figliola Giuditta con un bambino in braccio il Gelli e il prete erano rimasti lì sbalorditi dalla violenza di quel forsennato la Nacheri accorse a liberare la povera sbiobbina che tremava tutta lì lì per svenire va va Margherita oh guardate signore Dio che sa vedere ma si vergogni lei e la faccia finita una buona volta siamo stufi sa siamo stufi su via si levi su il Mauri rimasto ginocchioni con la faccia per terra si inghiozzava a un tratto balzò in piedi e domandò non sono più un uomo civile io è vero non c'è più neppure l'ombra della civiltà in me che scompiglio grandio per questo illustre signore che è venuto a perdonare per questo signor canonichetto affitta camere e lei signora oh guarda è il parrucchino riccio biondo se l'è dimenticato sul tavolino da notte buffoni buffoni minchino mille ossequi buffoni e inchinandosi furiosamente e sghignazzando scappò via quell'uomo impazzisce mormorò il gelli stupefatto ma mi pare che si è già ito via col cervello scusi osservò la nacheri screanzato aggiunse la figlia don camillo righi rimasto più a lungo degli altri trasecolato pensava forse che il matto avrebbe potuto buttargli in faccia ben altre accuse si scosse per presentare alla cara cognata e alla nipote il signor professore che aveva avuto la santa ispirazione di accorrere all'invito per accordare di presenza il perdono dio lo benedica tanto buono le due donne cercavano di scusarsi con lui di quanto era accaduto e per i loro indumenti notturni quando ecco di ritorno il mauri ilare che si spingeva innanzi uno macciotto calvo barbuto stizzito dalla furia sconveniente di quel matto ecco il dottor balla lei vada via subito via inveì allora il gelli afferrando per il bavero della giacca il mauri e scrollandolo e spingendolo verso l'uscio sul corridoio sì signore sì signore disse il mauri senza opporre nessuna resistenza rinculando mi lasci dire soltanto due parole al dottore ecco dottore la salvi lei per carità non la faccia salvare a lui altrimenti per me è perduta me ne vado me ne vado da me si calmi mi raccomando il gelli gli diede un ultimo spintone e richiuse l'uscio ha fatto bene benone benissimo esclamò il righi sollevato ma la porta giù scusate perché ha da rimanere aperta domandò la nacchere stizzita al cognato che modo ecco d'esto va margherita va di che chiudano subito la sbiobbina andò e tutti vedendola passare in mezzo a loro osservarono il modo con cui ella muoveva le gambe sbieche come se non avessero altro da fare in quel momento il dottor balla sbuffò poi guardando con dispetto tutti quei visi stravolti intorno a sé annunziò sono stato a montepulciano ah bene dunque domandò il righi dunque che dunque niente una scarrozzata inutile ho visto il collega cardelli gli ho riferito ma egli stima sì inutile ormai la sua venuta abbiamo qui con noi disse il righi il marito della signora il dottor gelli un luminare ah esclamò il balla felicissimo gli s'appressò e con la facondia collerica di un uomo esasperato della propria sorte il quale convinto delle persecuzioni continue di essa abbia precisato nel suo cervello le ingiustizie patite e le ripeta sempre con le stesse parole con la stessa espressione quasi compiacendosi di aver saputo così bene precisarle ed esprimerle gli espose le sciagurate condizioni in cui si trovava in quel piccolo paese di Toscana a esercitare la professione di medico c'era è vero un ospedaletto fornito anche sì discretamente ma erano due medici soli l'uno il Nardoni dedicato più specialmente alla chirurgia lui alla fisica ora il collega Nardoni era infermo da parecchi giorni infermo già infermo ripete come se il Nardoni glielo facesse apposta per creargli imbarazzi quindi concluse improvvisamente scusi ha visitato la signora il jelly negò col capo no come no ah già e il balla guardò con stizia i righi con punto e le due donne ancor più con punte che dobbiamo fare insomma domandò alla fine è già quasi il tocco scusino il jelly entrò per primo nella camera da letto gli altri lo seguirono capitolo 2 la moribonda aveva aperto gli occhi il cui colore azzurro smoriva con infinita tristezza tra il livido delle occhiaie incavate alla vista del marito fece quasi per rannicchiarsi sgomenta nel fondo del letto dagli occhi le sgorgarono due lacrime che non potendo scorrerle per le guance le invetrarono lo sguardo smarrito con un sorriso nervoso involontario che esprimeva lo sforzo atroce che faceva su se stesso per dominare il fermento degli opposti sentimenti odio nausea pietà ira dispetto silvio gelli si chinò su lei fulvia eh vedi eccomi qua tu m'hai fatto chiamare è vero son venuto opera di vera misericordia sospirò di nuovo dall'altra sponda del letto don camillo righi per aiutarlo ma i gialli non gliene fu grato no niente affatto negò anzi con ira son venuto debbo dirlo per riconoscere il danno il danno degli antichi miei torti debbo dirlo non mi aspettavo è vero di di sentirmelo dire da altri ecco e sorrise di nuovo nervosamente guardando in giro il dottor balla le due donne il prete che annuirono imbarazzati ma son venuto proprio per questo raffermò chinandosi di nuovo sul letto si fulvia e non mi pento di esser venuto si rialzò soddisfatto parendogli d'avere almeno rimediato in qualche modo al ridicolo della sua posizione la moribonda aveva richiuso gli occhi e le due lacrime ora le scorrevano lente agitò le labbra che dici domandò egli tornando a chinarsi pronto su di lei tutti si protesero verso il letto grazie alitò ella no no rispose egli ora io che dici le palpebre chiuse della moribonda si erano gonfiate di nuove lacrime e quasi punte da lievi tremiti si agitavano insieme con le labbra egli comprese che una parola un nome tremava in quelle lacrime nascoste e su quelle labbra senza trovare la voce nell'angoscia si rabbuiò in volto profondamente commosso livia sì basta ora non agitarti così parleremo poi la figlia spiegò piano il righi al dottor balla questi chinò più volte il capo seccato poi vedendosi guardato dal jelly domandò perplesso vogliamo prego signori ci lasci no soli il righi la cognata e la nipote uscirono trepidi con gli occhi lagrimosi il dottor balla chiuse l'uscio della camera poi si accostò al letto per scoprire la giacente ma questa come impaurita fissando il marito trattenne con una mano la coperta e disse tu come domandò il balla sorpreso e si volse a guardare il jelly gli vide il volto contratto come per un fitto spasimo improvviso o per vivo ribrezzo non vuoi le domandò il jelly chinandosi un'altra volta su di lei non debbo è vero sì io non sono venuto qua come medico e forse si alzò guardò il medico e aggiunse mi assumerei una tremenda responsabilità sono già tre giorni e una notte disse il balla interpretando a suo modo la perplessità del marito ed è evidente che il processo di infiammazione è molto inoltrato tentare ora dice lei eh già una tremenda responsabilità ma d'altra parte sì d'altra parte bisognerà pure tentare soggiunse il jelly dunque pazienza eh signora disse allora il balla tirando pian piano la coperta e la richiuse gli occhi e aggrottò dolorosamente le ciglia il balla si mise a sfasciare la ferita nel silenzio gli oggetti della camera le tende la candela che ardeva sul cassettone riflessa nello specchio parve al jelly che assumessero nella immobilità loro sentimento di vita e fossero come sospesi in un'attesa angosciosa impressionato dalla lucidezza di questa sua percezione in quel momento si distrasse guardò in giro la camera come per far la conoscenza di quegli oggetti che così in un paese lontano a lui ignoto erano testimoni di quel triste imprevedibile avvenimento della sua vita quando il balla lo richiamò a sé dicendo ecco egli chinò subito gli occhi sulla ferita scoperta calmo e non vide altro non pensò più ad altro come se fosse venuto lì per un consulto esaminò a lungo attentamente la ferita forse tentata a tempo la paratomia ci sarebbe stata qualche speranza di salvezza ma ormai dopo quattro giorni silvio gelli si sollevò guardò il balla acutamente questi si strinse nelle spalle e tanto per dire qualcosa indicando certi segni esteriori attorno alla ferita diede alcune spiegazioni affatto inutili il gelli si chinò di nuovo a osservare poi guardò la moglie senza badare all'altro che domandava rifasciamo rifasciata e ricoperta fulvia schiuse gli occhi guardò il marito e domandò con un filo di voce muoio no rispose egli posandole una mano sulla fronte sta tranquilla sta tranquilla a domani dottore farò io prepari tutto il balla lo guardò perplesso se intendere come una pietosa bugia quel proponimento e quell'ordinazione gli strumenti dell'ospedale domandò sì rispose il gelli tutto e farò venire anche aggiunse il balla cercando gli occhi di lui per fargli un cenno di intelligenza anche la nostra infermiera che è il braccio destro del collega Nardoni eh Nardoni no non c'è bisogno di lui no scusi dico l'infermiera Aurelia sta da circa tredici anni lì nel nostro ospedaletto ah bene sospirò il gelli astratto tredici anni proprio tredici anni è vero Fulvia tredici anni di che fece il balla non capiva attese ancora un po' quindi seccato scrollò le spalle e andò via Silvio Gelli sedete accanto al letto la moribonda allora volse il capo verso di lui ma i capelli nel volgersi la impacciarono egli con una mano glieli ravviò e intenerendosi a quel suo atto sospirò povera Fulvia sì i capelli erano ancora quelli di un tempo ma quanto quanto più misero e sparuto le rendevano ora il volto cangiato e che ruga ora su quella fronte un giorno così altera tredici anni che abisso è un po' e la si provò a sporgere una mano dalle coperte e ripetè più con gli occhi che con le labbra grazie egli prese quella mano e la tenne stretta fra le sue ma non il contatto delle mani l'uno e l'altra avvertirono in quel punto gli occhi dovevano prima intendersi tra loro e non potevano ancora poiché non solo lo sguardo ma tutta l'aria di lui aveva per Fulvia un'espressione nuova incomprensibile cercò egli con gli occhi di rassicurare di sorreggere quasi lo sguardo di lei che gli sfuggiva come in un dubbioso attonimento e aggiunse con la voce sì Fulvia per tutto quello che tu soffristi con me e che hai sofferto dopo per causa mia fino a questo punto questo tuo atto disperato ne è una prova sì io si interruppe volse il capo verso l'uscio che il balla andandosene aveva lasciato aperto di là c'era forse qualcuno che poteva sentire c'era stato quel matto che nel furore della passione osava dire in faccia a tutti la verità e che aveva creduto di interpretare il sentimento ondegli era stato spinto ad accorrere al letto della moglie moribonda ora egli ripeteva quasi le parole di lui ma no no non era vero non dal rimorso soltanto era stato spinto a venire ma da qualche altra cosa insieme anzi da qualche altra cosa principalmente da un bisogno strano doveva dirlo aspetta le lasciò la mano e si recò a richiudere l'uscio anch'io però sai Fulvia ho sofferto tanto anch'io non saprei più dir come come non mi sarei mai aspettato subito fin dal primo giorno compresi tutto e nello stesso tempo non compresi più nulla proprio così la bestialità mia cinica senza ragione e senza scopo o meglio con questo solo scopo di dimostrarti che io potevo tutto e tu niente facevo che facevo non mi sono mai divertito ma era come una sfida a ortoni ma coi guanti è vero ti sospinsi fin quasi all'orlo del precipizio e ti lasciai lì esposta senza riparo senza difesa aspettando che la vertigine ti cogliesse e tu disperata col tuo orgoglio accettasti infine la sfida ti lasciasti cogliere dalla vertigine e giù nel precipizio che vuoto con la piccina sola abbandonata io inetto io indegno ho cercato di colmarlo comunque da allora questo vuoto dentro e intorno a me con le cure per la bambina coi miei studi in vano dentro di me più profondo intorno a me più vasto e nero ho cercato fin anche di soffrire apposta per affermare in qualche modo me stesso in questo vuoto ma no niente non soffro non soffro per te non soffro per me soffro per la vita che è così tu qua ti uccidi un altro là impazzisce chi crede di ragionare e non conclude nulla vengo qua dico muore vuole andarsene in pace va va accorri e il mio sentimento si infrange contro una realtà che non potevo immaginare sì io non debbo perdonare debbo essere perdonato mi perdoni si tolse le mani dalle tempie aveva come parlato a se stesso si volse verso il letto e là era di nuovo assopita con le ciglia un po' sollevate come inorridita di quel che aveva inteso e pareva che ne si ingoltasse ancora dentro così muta rigida col capo volto verso di lui stette a contemplarla un pezzo quasi impaurito gli parve che lo stiramento delle guance si fosse un po' allentato e per un momento rivide precisa in quel volto l'immagine che egli per tanti anni aveva serbato di lei era bella era bella ancora chissà fin dove era accaduta ma la nobiltà dei lineamenti era rimasta intatta come se il fango non l'avesse toccata o forse ora la morte si alzò pian piano per non destarla e in punta di piedi si recogne la stanza attigua dove la sbiobbina era rimasta sola ad aspettare dorme le annunziò sottovoce mirandola costernato del mistero che pareva racchiudesse in sé nel silenzio di quella notte orribile quella creatura che viveva quasi per un'atroce beffa della natura ella gli sorrise di nuovo di quel suo sorriso incosciente e disse vado io capitolo 3 il gelli si pose a sedere sulla stessa sedia donde quella si era levata lì presso al tavolino su cui ardeva la candela poco dopo sobbalzò l'uscio che dava sul corridoio si schiudeva come da sé pian piano nel silenzio marco mauri sporse il capo con un dito sulla bocca per far segno di tacere e si introdusse dicendo sottovoce mi ero nascosto qua al buio nel corridoio sss ora che siamo noi due soli zitto zitto senza fiatare me ne starò qui lei me lo può permettere nessuno ci vede qua noi due soli zitti zitti eh il gelli lo guardò sorpreso accigliato poi senza volerlo sorrise nervosamente a un gesto supplice che quelli con ambo le mani gli rivolgeva scrollò le spalle e gli indicò il canapè lì presso il mauri vi si pose a sedere tutto contento stettero entrambi un lungo tratto in silenzio poi il mauri disse se lei volesse stendersi qua riposare un poco no è vero e neanche io la bestia vorrebbe dormire la coscienza non glielo permette molti anni fa quando mi morì un figliolo dopo nove notti di veglia assidua non sentii pena sul momento avevo troppo sonno e dovetti prima dormire poi quando mi destai il dolore mi assalì ma allora la coscienza non mi rimordeva ora quattro notti sa che non chiudo occhio e non ho sonno tacque un pezzo assorto poi domandò fissando la fiamma della candela come lo chiamavano gli antichi quel fiume ah sì lete il lete già il fiume dell'oblio scorre nelle taverne ora questo fiume e io non bevo da quattro giorni sa niente neanche un boccone di pane acqua là nella conca della fontana giù in piazza come le bestie acquaccia amara renosiccia puh ma non mi va niente un po' di acido prussico ma andrebbe mi sento gli occhi sa come questi due archi qua delle ciglia come i due archi di certi ponticelli che accavalciano l'arena e i ciottoli di un grito asciutto arido pieno di grilli ci ho due grilli maledetti qua negli orecchi stridono stridono e mi fanno impazzire parlo bene mi par d'essere in campagna quando mi esercitavo nell'oratoria sperando di essere promosso pubblico ministero e imbussolavo i temi e poi mi mettevo a improvvisare ad alta voce fra gli alberi signori della corte signori giurati parlo parlo mi scusi perché non posso farne a meno ho una smania qua nello stomaco mi metterei a gridare si stese così dicendo bocconi sul canapè col mento sul bracciolo e gli occhi sbarrati il gelli lo guattò e preso da un senso di paura si alzò e si diresse verso l'uscio della camera da letto guardò dentro poi si trattenne là sulla soglia il mauri si rimise a sedere e domandò ansiosamente riposa il gelli accennò di sì col capo e dica non c'è più speranza proprio nessuna se riposa me la vuol far vedere da costa dove lei un momentino sì balzò in piedi gli s'accostora tenendo il fiato si rizzò sulla punta dei piedi e guardò nella camera la sbiobbina che siedeva accanto al letto vide così le teste di quei due uomini l'una presso l'altra che guardavano la moribonda lo stupore di lei si ripercosse sul gelli che respinse allora indietro con un braccio e il mauri a sedere andate a sedere sì signore grazie disse questi obbedendo muore 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 gli occhi gli si arrossarono e copiose lacrime ripresero a colarli per le guance mentre si sforzava di soffocare i singhiozzi che gli scottevano il petto quando ebbe pianto così un pezzo aprì le braccia si strinse nelle spalle e fece per parlare ma sentendo che la voce gli usciva ancora grossa di pianto si addentò una mano strizzò gli occhi e ricacciò indietro violentemente le lacrime ce ne staremo qua poi disse tutti e due insieme buoni buoni a vegliarla fino all'ultimo come due coccodrilli poi l'accompagneremo fino alla fossa e quindi ciascuno riprenderà la sua via lei la riprenderà lei ha una casa una gioia la figliola ignara ignara beata lei i miei figli invece sanno tutto ha svelato loro tutto la madre per istintiva crudeltà che bisogno ne aveva non mi ama non mi ha mai amato non sa proprio che farsi di me se gli è cresciuti lei la in campagna a modo suo e non hanno mai avuto per me né rispetto né considerazione mi chiamano pretore anzi pretò come la loro madre si figuri è in casa il pretò no è alla pretura il pretò ah lei non sa signore che cosa voglia dire capitare a 25 anni in un paesettaccio e marcirvi per 4 5 10 eterni anni pretore se le dicessi che io sposai per avere in casa un pianoforte perché musica io ho studiato non ho mai studiato legge e ho sposato una donna più vecchia di me che aveva case e campagne ma se si diventa bruti dopo 4 o 5 anni assediati dalle miserie dalle bassezze umane non ci resta più addosso neppur una di quelle finzioni con cui la società ci mascherava e scopriamo allora che l'uomo è porco per diritto di natura scusi sa noi questo diritto ce lo siamo negato perché la società ci ha mandato a scuola da piccini e ci ha insegnato l'educazione per farci soffrire e non farci ingrassare ma che c'entra l'uomo bisogna vederlo là nel suo ambiente naturale come l'ho veduto io tant'anni che uomini siamo noi lei mi compatisce e io la rispetto che bella cosa rise e si stirò a lungo prima da una parte poi dall'altra le due bande della barba ma infine se le strinse tutte e due nel pugno e rimase a pensare con gli occhi vividi ilari parlanti il gialli stette un pezzo a osservarlo poi gli domandò con voce cupa dove l'avete conosciuta io flora a perugia si affrettò a rispondergli il mauri scotendosi un mese appena dopo il mio trasferimento colà nel gabinetto di un mio collega giudice istruttore era arrestata no signore era venuta per deporre stava anche lei a perugia da poco più di un mese sola come mal accompagnata con uno che aspetti un certo gamba sì signore che si spacciava per artista per pittore era invece un miserabile applicatore mosaicista della fabbrica di di morano credo mandato per restaurare un mosaico di non so più qual chiesa di perugia cio 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 un mascalzone che si ubriacava tutti i santi giorni e la picchiava fu trovato morto una notte sulla strada con la testa spaccata il jelly si coprì il volto con le mani orrore scattò il mauri levandosi in piedi mi faccia il piacere lasci andare fin dove era caduta è vero che orrore buffonate via lei mi insegna che tutto sta nel togliersi da addosso una prima volta sotto gli occhi di tutti l'abito che ci ha imposto la società si provi lei una volta a rubare cinque lire e faccia che venga scoperto nell'atto di rubare me ne saprà dire qualche cosa ma lei non ruba è vero grazie e quella disgraziata avrebbe forse fatto quello che fece se lei suo marito lasci andare lasci andare eppure sa flora di lei non diceva male come non diceva male da alcuno neppure di quel vigliaco che l'abbandonò così da un giorno all'altro senza ragione lo scusava anzi diceva ad averlo stancato oppresso coi suoi continui timori e la sua gelosia e anche lei scusava incolpando invece d'ogni suo torto le donne le donne che la odiava tutte profondamente in se stessa e quando pochi giorni or sono sono venuto a raggiungerla qua ha voluto scusare anche me il mio tradimento la mia menzogna incolpando se stessa certi suoi vezzi involontari il malvagio istinto come la lo chiamava il bisogno cioè che sentono tutte le donne di piacere fino anche al marito della propria sorella seguitò così un pezzo a sparlare a sparlare il jelly aveva appoggiato le braccia al tavolino e vi aveva affondato il volto si era addormentato a un tratto margherita la sbiobbina si presentò sulla soglia spaventata il mauri le feceno di non parlare morta domandò senza voce quella chinò il capo più volte e allora il mauri in punta di piedi corse alla camera da letto ma alla vista della donna esanime scoppiò in violenti singhiozzi e si buttò su di lei disperatamente la sbiobbina si accostò a dormiente per scuoterlo ma Silvio jelly levò il capo dalle braccia e le disse aggrondato con gli occhi chiusi non dormo sa non lasci piangere ormai lo lasci fine della novella la veglia registrazione di titta marina di carrara marzo 2012 lo spirito maligno dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di EGI novelle per un anno di Luigi Pirandello lo spirito lo spirito maligno Carlo Noccia fu da giovane per circa sette anni in Africa a Bona commerciante vi soffrì anche la fame nei primi tempi e soltanto a furia di stenti di rischi e di incredibili fatiche riuscì a mettere da parte un gruzzolo modesto ritornato in Sicilia per non apparire ingenuo in mezzo ai commercianti i suoi compaesani produttori essenzali da grumi e di zolfo gente ladra usa combattere tra le insidie e con ogni sorta di inganni provò il bisogno di lasciar loro intendere che con quelle stesse arti egli aveva guadagnato colà il suo denaro dovette insomma confarsi al modo di pensare di quelli e disonorare le sue fatiche e il frutto di esse per aver pregio e considerazione agli occhi loro e saggirò faccente con l'aria ad un furbo matricolato in mezzo al traffico rumoroso del piccolo porto di mare tra i grandi depositi di zolfo accatastati sulla spiaggia a bordo dei piroscafi di ogni nazione tra marinai e interpreti e scaricatori e stivatori aspirando con voluttà l'odore del catrame e della pece mentre gli occhi gli lacrimavano bruciati dalla polvere dello zolfo diffusa nell'aria stordito dai gridi dei barcaioli e dei facchini del porto tra un continuo sbaccaneggiar di liti e i fischi delle sirene e il fumo delle macchine credette sinceramente che la necessità di ingannare i cattivi pensieri venissero dal fermento stesso di quella vita esagitata esalassero dalle bocche delle stive dall'acqua stessa del mare sporca di zolfo e di carbone dal muffido pacciame delle alghe secche sulla spiaggia solcata scavata dal transito incessante dei carri striduli carichi di minerale credette sinceramente che egli senza volere vivendo lì respirando in quell'aria avrebbe appreso quell'arte in poco tempo e fu felicissimo quando poté aver la dimostrazione che già gli altri credevano che non avesse più bisogno da prendere altro si vide tutta un tratto posto a capo d'uno dei più grossi depositi di zolfo il proprietario giovanotto ambizioso che aveva dovuto interrompere gli studi universitari per la morte improvvisa del padre era affatto ignaro di commercio e attendeva piuttosto a ingraziarsi con servigi e favori gli animi dei suoi compaesani per essere eletto sindaco del comune naturalmente diventò subito preda dei più furbi speculatori di piazza e segnatamente di un certo grao il quale cominciò a irretirlo in una vasta impresa da tentare col nobilissimo scopo di allibertare il commercio dello zolfo dallo sfruttamento delle case estere d'esportazione che avevano sede nei maggiori centri dell'isola impresa per cui egli in poco tempo centuplicando le sue ricchezze e diceva poco avrebbe avuto gloria di salvatore dell'industria zolfifera siciliana e sarebbe stato eletto sindaco subito senza alcun dubbio il noccia ammirava sopra tutti questo grao lo teneva in conto ad un oracolo forse ad estare in lui tanta ammirazione e così cieca fiducia aveva gran parte una figliuola che costui aveva bellissima e della quale egli si era innamorato il fatto è che quando il grao gettò in quella vasta impresa il suo principale e questi domandò a lui suo magazziniere e amministratore consigli e schiarimenti sui giuochi ora al rialzo ora al ribasso a cui quegli lo esponeva egli con la massima buona fede gli dette sempre quei consigli e quegli schiarimenti che il grao di nascosto e senza parere gli aveva suggeriti se non che sempre alla scadenza degli impegni il suo principale se aveva giocato al ribasso si era trovato di fronte a uno spaventoso rialzo e viceversa sicché in meno di un anno era stato liquidato nessuno volle credere alla buona fede del noccia come mai non si era accorto che il grao faceva volta per volta di soppiatto il gioco inverso non se ne era accorto perché anche lui credeva a occhi chiusi che quella vasta impresa commerciale se non proprio centuplicato avrebbe certo accresciuto di molto le ricchezze del suo principale al primo al secondo al terzo colpo fallito credette sinceramente alla disperazione del grao e che nel nuovo gioco proposto fosse la salvezza e il rifacimento dei danni del resto ad attestare la sua buona fede stava il fatto che alla fine nella rovina del suo principale egli vide anche la sua perduto il posto e quel che più gli dolse anche la speranza di far sua la figlia del grao e che si sentì come cascar dalle nuvole allorché il grao gli venne avanti colle braccia aperte per ringraziarlo di quanto aveva fatto protestò protestò allora di fronte al grao stesso la sua innocenza e la sua buona fede ma quegli ammiccando furbescamente e battendogli una mano sulla spalla gli fece intendere che lo riteneva anche per quella protesta suo degno compare anzi suo degno genero e un'altra cosa gli fece intendere che nessuno lo avrebbe lodato di non essersi approfittato del suo posto e di quel giuoco per arricchire e che anzi sarebbe stato stimato da tutti uno sciocco un buona nulla proprio come quel suo principale e degno come questo d'esser giocato e poi buttato là in un canto con una pedata avvenne intanto che per invidia della giatezza che gli era venuta da quelle nozze con la figlia del ricchissimo speculatore si vide addosso inaspettatamente l'odio feroce di tutti i suoi compaesani presero a chiamarlo Giuda e a stimarlo capace d'ogni infamia, d'ogni perfidia e ad avvelenargli con questa stima anche l'amore per la sposa vuole dimostrare che non era non era per dio quel che tutti lo stimavano ma ecco che in tre o quattro occasioni senza che ne sapesse né il come né il perché dai suoi atti e dalle sue buone intenzioni era saltata fuori all'improvviso la dimostrazione contraria fino al punto che un giorno per una inesplicabile intestatura su un conto sbagliato si era visto citare in tribunale per poche centinaia di lire da un suo subalterno colmato di benefici il noccia cominciò a credere allora all'esistenza ad un certo spirito maligno nato e nutrito dall'odio, dall'invidia, dal rancore, dai cattivi pensieri e insomma da tutto il male che ci vogliono i nostri nemici uno spirito maligno che ci sta sempre attorno agile, vigile e pronto a nuocerci approfittando dei nostri dubbi e della nostra perplessità con spinte e suggerimenti e consigli e insinuazioni che hanno in prima tutta l'aria della più onesta saggezza del più sennato consiglio e che poi tutta un tratto si scoprono falsi e insidiosi sicché tutta la nostra condotta appare all'improvviso agli occhi altrui e anche ai nostri stessi sotto una luce sinistra dalla quale non sappiamo più così soprappresi come sottrarci certo era stato questo spirito maligno a fargli sbagliare quel conto e intanto ecco qua anche capace da approfittarsi di poche centinaia di lire a danno di un poveretto lo avevano creduto i suoi compaesani e dall'ora in poi ciascuno si era sentito in diritto di negargli quel che gli doveva sicché per riavere il suo si vedeva ogni volta costretto a intentare una lite ora per una di queste liti che da un pezzo si trascinava nei tribunali e che forse il noccia stanco e avvilito avrebbe volentieri mandato a monte se la rabbia non lo avesse forzato a dimostrare ancora una volta che la giustizia stava dalla sua eccolo in viaggio per Roma a sollecitare di persona il patrocinio del deputato del suo collegio aveva già 47 anni e l'animo gli si era profondamente incupito per tutta quella guerra d'odio e di invidia come una bestia ferita in una caccia feroce e ricoverata in una tana non sua egli si guardava ormai davanti e dietro diffidente e ombroso i grandi occhi chiari d'acciaio negli sguardi obliqui davano in quel suo volto fosco pruno cotto dal sole nelle lontane arrabbiate spiagge di Sicilia l'impressione d'un vuoto strano e in quel suo volto egli sentiva ora quasi un disagio insolito per certe rughe che di tratto in tratto gli si spianavano ammirando lo splendore della città aveva in petto il portafogli gonfio e di molte migliaia di lire forse partendo dalla Sicilia si era proposto di concedersi se non tutti parecchi di quegli svaghi per lui affatto nuovi che una città come Roma poteva offrirgli ma in quattro giorni per quel ritegno ombroso divenuto in lui quasi istintivo non aveva ancora ceduto a nessuna tentazione e si sentiva stanco oppresso e inquieto aveva preso alloggio nell'albergo della Nuova Roma presso la stazione e faceva ogni volta chilometri e chilometri per andarvisi a rinchiudere per una mezz'oretta ne riusciva poco dopo più smanioso di prima e senza meta così gli avvenne la mattina del quinto giorno di cacciarsi in un caffeuccio lì nei pressi della stazione per passarvi un po' di tempo c'erano pochi avventori e molte mosche il noccia ordinò una tazza di birra e stese la mano al tavolino accanto per prendere un giornale che vi stava posato ma le mosche lo tormentavano per cacciarne una sfondò il giornale voleva ripagarlo ma il padrone non permise per cacciarne un'altra per poco non rovesciò la tazza di birra smise allora di leggere e sbuffando allungò le mani sulla panca imbottita di cuoio ma subito ne ritrasse una la destra che aveva toccato qualche cosa e si voltò a guardare era una vecchia borsetta evidentemente lasciata lì da qualche avventore forse era vuota se non vuota che poteva mai contenere pochi soldi qualche lira d'argento e il noccia rimase un pezzo perplesso se prenderla o farla prendere dal caffettiere perché la restituisse al proprietario se fosse venuto a cercarla guardò il caffettiere dietro il banco non gli parve che avesse faccia da restituire la borsetta se ci fosse dentro qualche cosa forse sarebbe stato meglio accertarsene prima allungò cautamente la mano e la prese pesava l'aprì un poco fin tra vide una piastra d'argento e due monettine da due centesimi tornò a guardare il caffettiere e non ebbe alcun dubbio che quella piastra e quelle due monetine sarebbero andate a finire nella ciotola dentro il banco che fare pensò che il giorno avanti aveva letto nella cronaca d'un giornale un nobile esempio da imitare quello d'un fattorino di telegrafo che aveva trovato per istrada un portafogli con più di mille lire ed era andato a depositarlo in questura imitare quel nobile esempio in questura avrebbero voluto il suo nome e lo avrebbero stampato sui giornali nel tar l'annunzio della borsetta trovata pensò che nel circolo di compagnia gli sfaccendati del suo paese leggevano i giornali di Roma dall'articolo di fondo all'ultimo avviso di pubblicità in sesta pagina quantunque lo ritenessero capace di approfittarsi anche di poche lire avrebbero detto sghignazzando che la borsetta lui l'aveva consegnata alla questura perché conteneva soltanto una piastra e quattro centesimi veramente darsi per così poco tutta quell'aria d'onestà gli parve troppo che fare allora durando quell'esitazione non stimò prudente tenere ancora la borsetta in mano alla vista di tutti e se la ficcò nel taschino del panciotto per riflettere con comodo se non gli sarebbe meglio convenuto per non aver tanti impicci rimetterla al posto dove l'aveva trovata ma forse ma forse allora qualche altro avventore senza scrupoli se la sarebbe presa senza pensare due volte e quel poveretto che l'aveva smarrita o via i miei noccia e e e stava per trarre dal taschino la borsa quando entrò di furia nel caffèuccio e capelli lanosi scarmigliati sotto il decrepito capellino annodato al mento c'è lì la borsetta la mia borsetta l'ho lasciata lì così investito il noccia guardò la grinta della vecchia e subito concepì il sospetto che essendosi egli messo in tasca la borsetta quella dovesse ritener per certo che avesse voluto appropriarsela e allora le rivolse un sorriso vano da scemo e si finse ignaro una borsetta ma dove e prima si scostò e poi si alzò per farla cercar bene e quando la vecchia dopo aver cercato sulla panca sotto la panca tra i piedi dei tavolini con i rosa smania che lasciava intender chiaramente quel sospetto levò l'arcigna faccia e gli domandò squadrandolo biecamente lei non l'ha trovata egli che pur si struggeva di non poter più ormai cacciarsi due dita in tasca per restituirgliela ebbe naturalmente per quello stesso strugimento un fiero scatto e arrossendo fin nel bianco degli occhi le rispose siete matta il caffettiere e i pochi avventori gli diedero ragione e appena la vecchia piangendo e brontolando se ne fu andata gli dissero che era una poveraccia da compatire mezza svanita di cervello e stordita sempre dal caffè e dai liquori che ingozzava da che l'era morta all'ospedale l'unica figliuola il noccia ora si sentiva sulle spine voleva subito pagare e andar via intanto aveva messo la borsetta della vecchia nello stesso taschino ove teneva la sua se nel cavar questa fosse venuta fuori anche quell'altra si sentiva tutto il sangue alla testa e gli occhi gli brillavano come per febbre trasse dalla tasca in petto il portafogli gonfio di carte da cento non avrebbe spicci gli domandò il caffettiere meravigliato ed egli non trovò la voce per rispondergli disse di no col capo uno degli avventori si profferse di cambiare lui il biglietto e il noccia lasciando una mancia di cinque lire uscì dal caffèuccio appena fuori il suo primo pensiero fu quello di buttar via la borsetta in qualche angolo nascosto ma quell'ultima notizia che gli avevano dato della vecchia nel caffè che ella cioè era una poveretta mezzo impazzita per la morte della figliuola gli fece stimare più che mai indegno quell'atto pur ammesso che la vecchia avesse avuto il sospetto che gli volesse tenersi la borsetta trovata questo sospetto in fondo non era ingiusto poiché egli veramente contro la sua volontà ridendo prima come uno scemo poi scostandosi e alzandosi per farla cercar lì nel posto aveva agito come se in realtà avesse voluto appropriarsi quella borsetta e buttandola via ora non avrebbe avuto sempre la colpa della sottrazione l'avrebbe trovata un altro che non avrebbe sentito l'obbligo di restituirla l'obbligo che ne aveva lui lui che conosceva a chi essa apparteneva e gliel'aveva negata in faccia no no buttarla via sarebbe stato un atto anche più vile di quel che aveva di anzi commesso pensò allora che quei pochi avventori del caffeuccio e il caffettiere avevano dovuto accorgersi dal suo portafoglio ben fornito che egli era un signore un signore il quale poteva permettersi il lusso d'offrire a quella povera vecchia un compenso di 10 o 20 lire per la borsetta perduta ecco sì avrebbe lasciato al banco 20 lire alla presenza di quei testimoni o avrebbe domandato al caffettiere l'indirizzo della vecchia per recarsi lui stesso a dargliele e il noccia ritornava con questo proposito sui propri passi quando ecco lì presso l'entrata del caffeuccio di nuovo la vecchia che tenendosi con ambo le mani i cerfugli lanosi spioventi sugli occhi andava curva e piangente guardando in terra ancora in cerca della sua borsetta il noccia la fermò toccandole lievemente una spalla trasse dal portafogli due biglietti di a 10 lire e tutto commosso per la buona azione che faceva glieli porse balbettando che li accettasse per la perdita sofferta ma si vide tutta un tratto acciuffato dalla vecchia la quale scrollandolo furiosamente si mise a strillare 20 lire a chi le dai al ladro e il resto 20 lire sole mi dai al ladro al ladro accorse gente da tutte le parti accorsero anche due guardie di questura e al noccia che da prima stordito poi abbrancato da 100 braccia aveva preso a divincolarsi in ferocito fu trovata addosso la borsetta nella quale sì signori c'era la piastra da 5 ma c'erano anche due vecchi marenghi da 20 lire e non due monetine da 2 centesimi come al noccia era sembrato a prima vista là nel caffeuccio perciò la vecchia reclamava con tanta rabbia il resto ma anche cento lire anche duecento anche mille gliene avrebbe date ora il noccia e cavava dalla tasca il portafogli se non che anche quel portafogli come la borsetta siamo giusti poteva ormai credersi rubato e il noccia fu trascinato in questura ora è certo che a un ladro non passa per il capo di restituire una parte del suo furto ma anche generalmente si crede che neppure a un galantuomo possa passare per il capo di mettersi in tasca una borsetta che non gli appartiene e di negarlo poi in faccia così come il noccia aveva fatto bisognava dunque trattenerlo in arresto e domandare ragguagli in sicilia sul conto di lui non sarebbe stato serio prestar fede alla persecuzione di un certo spirito maligno di cui quell'arrestato farneticava fine della novella lo spirito maligno registrazione di EGI Pesaro www.anobi.com slash due slash books alla zappa dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Isiron novelle per un anno di Luigi Pirandello alla zappa il vecchio Siroli da più di un mese sembrava innebetito dalla sciagura che gli era toccata e non riusciva più a prendere sonno quella notte allo scroscio violento della pioggia si era finalmente riscosso e aveva detto alla moglie insonne e oppressa come lui domani se Dio vuole romperemo la terra ora dall'alba i tre figliuoli del vecchio consunti e ingialliti dalla malaria zappavano in fila con altri due contadini giornanti a quando a quando ora l'uno ora l'altro si rizzava sulla vita contraendo il volto per lo spasimo delle reni e si asciugava gli occhi col grosso fazzoletto di cotone coraggio gli dicevano i due giornanti non è caso di morte alla fine ma quello scoteva il capo poi si sputava sulle mani terrose e incallite e si rimetteva a zappare dal folto degli alberi sulla costa veniva quando a quando come un lamento rabbioso il vecchio ancora valido attendeva di là alla rimonda e accompagnava così con quel lamento la sua dura fatica la campagna infestata nei mesi estivi dalla malaria pareva respirasse ora per la pioggia abbondante della notte che aveva fatto calarla piena nel burrone si sentiva infatti dopo tanti mesi di siccità scorrere il drago con allegro fragore da circa 40 anni Siroli teneva a mezzadria queste terre di Sant'Anna da molte stagioni ormai lui e la moglie erano riusciti a vincere il male e a rendersene immuni se Dio voleva col volgere degli anni i tre figliuoli che adesso ne pativano avrebbero acquistato anch'essi la immunità tre altri figliuoli però due maschi e una femmina ne erano morti e morta era anche la moglie del primo figliuolo di cui restava solamente una ragazzetta di cinque anni la quale forse non avrebbe resistito neppure lei agli assalti del male Dio è il padrone soleva dire il vecchio socchiudendo gli occhi se lui la vuole se la prenda ci ha messo qua qua dobbiamo patire e faticare cieco fino a tal punto nella sua fede si rassegnava costantemente a ogni più dura versità accettandola come volere di Dio ci voleva soltanto una sciagura come quella che gli era toccata per accasciarlo e distruggerlo pur avendo bisogno di tante braccia per la campagna aveva voluto far dono a Dio di un figliuolo era il sogno di tanti contadini avere un figlio sacerdote e lui era riuscito ad attuarlo questo sogno non per ambizione ma solo per averne merito davanti a Dio a forza di risparmi di privazioni di ogni sorta aveva per tanti anni mantenuto il figlio al seminario della vicina città poi aveva avuto la consolazione di vederlo ordinato prete e di sentire la prima messa detta da lui il ricordo di quella prima messa era rimasto incancellabile nell'anima del vecchio perché aveva proprio sentito la presenza di Dio quel giorno nella chiesa e gli pareva di vedere ancora il figlio parato per la solennità con quella splendida pianeta tutta brusca ed oro pallido e tremante muoversi piano piano sulla predella dell'altare davanti al tabernacolo genuflettersi congiungere le mani immacolate nel segno della preghiera aprirle poi voltarsi con gli occhi socchiusi verso i fedeli per bisbigliare le parole di rito e ritornare al messale sul leggio non gli era mai parso così solenne il mistero della messa con l'anima quasi alienata dai sensi lo aveva seguito e ne aveva tremato con la gola stretta da un'angoscia dolcissima aveva sentito accanto a sé piangere di tenerezza la moglie la sua santa vecchia e si era messo a piangere anche lui senza volerlo irrefrenabilmente prosternandosi fino a toccare la terra con la fronte allo squillo della campanella nell'istante supremo dell'elevazione da l'ora in poi egli di tanto più vecchio e provato e sperimentato nel mondo si era sentito quasi bambino di fronte al figlio sacerdote tutta la sua vita trascorsa tra tante miserie e tante fatiche senza una macchia che valore poteva avere davanti al candore di quel figlio così vicino a Dio e si era messo a parlare di lui come d'un santo ad ascoltarlo a bocca aperta beato quando egli veniva a trovarlo in campagna dal collegio degli oblati dove per l'ingegno e per lo zelo era stato nominato precettore gli altri figliuoli destinati alle fatiche della campagna esposti lì alla morte non avevano invidiato per nulla la sorte di quel loro fratello si erano anzi mostrati orgogliosi di lui lustro della famiglia infermi si erano tante volte confortati col pensiero che c'era Giovanni che pregava per loro la notizia che costui si era macchiato d'un turpe delitto sui poveri piccini affidati alle sue cure in quell'orfanotrofio era pertanto piombata come un fulmine sulla casa campestre del vecchio Siroli la madre da prima nella sua santità patriarcale non aveva saputo neanche farsi un'idea del delitto commesso dal figliuolo il vecchio marito aveva dovuto spiegarglielo alla meglio e allora ella ne era rimasta sbalordita inorridita e pur quasi incredula Giovanni che mi dici il Siroli si era recato in città per avere notizie più precise e con la speranza segreta che si trattasse di una calugna si era presentato a parecchi suoi conoscenti e tutti alla sua vista si erano turbati quasi per ribrezzo gli avevano risposto duramente a monosillabi schivando persino di guardarlo aveva voluto andare anche dal Lobruno che era il padrone della terra che gli teneva a mezzadria il Lobruno uomo intrigante consigliere comunale amico di tutti del vescovo e del prefetto lo aveva accolto malamente sulle furie ben vista ben vista sacerdote eh da zappaterra sacerdote siete contento ora ecco i frutti della vostra smagna di salire a ogni costo senza la preparazione senza l'educazione necessaria poi si era calmato e aveva promesso che avrebbe fatto di tutto perché lo scandalo fosse soffocato per il decoro dell'umanità intendiamoci per il rispetto che dobbiamo tutti alla santa religione intendiamoci non per quel pezzo di maiale né per voi e il povero vecchio se ne era ritornato in campagna come un cane bastonato certo ormai che il delitto del figliuolo era vero che Giovanni l'infame era fuggito sparito dalla città per sottrarsi al furore popolare e che lui ormai sotto il peso di tanta ignominia non avrebbe avuto più pace nel coraggio di alzare gli occhi in faccia a nessuno ora inerpicato sugli alberi attendeva alla rimonda nessuno lì lo vedeva e lavorando poteva piangere non aveva più versato una lacrima da quel giorno considerava la propria vita intemerata quella della sua vecchia compagna e non sapeva farsi capace come mai un tal mostro fosse potuto nascere da loro come mai si fosse potuto ingannare per tanti anni fino a crederlo un santo e se era inteso di farne un dono a Dio e per lui per lui aveva sacrificato gli altri figliuoli buoni mansueti divoti gli altri figliuoli che ora zappavano di là poveri innocenti non ben rimessi ancora dalle ultime febbri ah Dio così laidamente offeso da colui non avrebbe mai mai perdonato la meledizione di Dio sarebbe stata sempre su la sua casa la giustizia degli uomini si sarebbe impadronita di quel miserabile scovandolo alla fine dal nascondiglio vera andato a cacciare la sua vergogna e lui e la moglie sarebbero morti dall'onta di saperlo in galera a un tratto al vecchio assorti in queste amare riflessioni giunse la voce di uno dei figliuoli di Carmine che era il maggiore opa venite è arrivato il siroli ebbe un sussulto si aggrappò al ramo dell'albero su cui si teneva in equilibrio e si mise a tremare tutto Giovanni arrivato e che voleva da lui e come aveva potuto rimetter piede nella casa di suo padre alzar gli occhi in faccia alla madre bah gridò in risposta furente squassando il ramo dell'albero corri a dirgli che se ne vada subito non lo voglio in casa non lo voglio Carmine guardò negli occhi gli altri fratelli per prendere consiglio poi si mosse verso la casa campestre facendo segno alla nipotina orfana che aveva recato tutta esultante la notizia dell'arrivo dello zio prete di precederlo nella corte Carmine trovò un campiere dello Bruno seduto sul muretto accanto alla porta evidentemente il prete era arrivato con lui tuo padre domandò il campiere a Carmine sollevando il capo e un virgulto che teneva in mano e col quale aspettando era stato percuotere un piccolo sterpo cresciuto lì tra i ciotoli della corte non vuol vederlo rispose Carmine ne lo vuole in casa sono venuto a dirglielo aspetta rispose il campiere torna prima da tuo padre e dirgli che ho da parlargli a nome del padrone Carmine aprì le braccia e tornò indietro il campiere allora chiamò a sé la piccina che guardava con tanto d'occhi non sapendo che pensare di tutto quel mistero come mai non fosse festa per tutti l'arrivo dello zio prete se la prese tra le gambe e borbottò con un tristo sorriso sotto i baffi tu sta qua carina non entrare sei piccina anche tu e non si sa mai poco dopo Carmine ritornò seguito da due fratelli adesso viene annunziò al campiere ed entrò coi fratelli nell'ampia stanza terrena umida e affumicata in un lato era la mangiatoia per le bestie un asino vi tritava pazientemente la sua razione di paglia nel lato opposto era un gran letto dai trespoli di ferro non ben in equilibrio sull'acciotolato della stanza in pendio vi si buttavano a dormire i tre fratelli non mai tutti insieme già che ora l'uno ora l'altro passava la notte l'aperto di guardia il resto della stanza era in gombro di attrezzi rurali una scaletta di legno conduceva la camera a solaio dove dormivano i due vecchi e l'orfana Giovanni seduto sulle tavole del letto stava col busto ripiegato sulle materasse abballinate e con la testa affondata tra le braccia la vecchia madre teneva gli occhi fissi su lui e piangeva piangeva senza fine in silenzio come se tutto il cuore tutta la vita che le restava volesse sciogliere e disfare in quelle lacrime sentendo entrare gente il prete alzò il capo e lanciò un'occhiata bieca poi raffondò la testa tra le braccia i tre fratelli intravidro così il volto cangiato pallido tra la barba espidamente cresciuta lo mirarono un pezzo con un senso di ribrezzo e di pietà insieme gli videro la tonaca quella strappata poi abbassando gli occhi notarono che gli mancava la fibbia d'argento a una scarpa la vecchia madre vedendo gli altri tre figliuoli ruppe in singhiozzi e si coprì il volto con le mani ma zitta ma le disse Carmine con voce grossa e sedete sulla cassa panca presso il letto insieme con gli altri fratelli in attesa del padre taciturni avevano tutte e tre la faccia gialla tutte e tre con le berrette a calza nere ripiegate sul capo e tutte e tre sedendo in fila avevano preso lo stesso atteggiamento finalmente il vecchio comparve nella corte curvo con le mani dietro le reni guardando a terra portava in capo anche lui una berretta simile a quella dei figliuoli ma inverdita e sforacchiata aveva i capelli cresciuti e la barba non più rifatta da un mese si roli allegro esclamò il campiere dell'obruno scostando la bambina e alzandosi per venire incontro al vecchio allegro vi dico tutto accomodato il vecchio si roli fisse gli occhi ancora vivi e come induriti nello spasimo negli occhi del campiere senza dir nulla come se non l'avesse inteso o compreso quegli allora che era un omaccione gagliardo dal torace enorme dal volto sanguigno li posò una mano sulla spalla con aria di protezione spavalda e un po' canzonatoria e ripete tutto accomodato sanato sanato sarebbe meglio dire e rise sguaiatamente poi riprendendosi quando si ha la fortuna ad aver padroni che ci vogliono bene per la nostra devozione e per la nostra onestà certe sciocchezzuole e via si riparano cose da piccini in fin dei conti mi spiego senza conseguenze io però non ho voluto che questa innocente entrasse là ho fatto bene il vecchio si contenne fremeva che avete da dirmi insomma gli domandò il campiere gli tolse la mano dalla spalla se la recò insieme con l'altra dietro la schiena sporse il torace alzò il capo per guardare il vecchio dall'alto e sbuffò eccomi qua il padrone prima di tutto per rispetto all'abito che indossa indegnamente vostro figlio poi anche per carità di voi tanto ha fatto tanto ha detto che è riuscito a indurre i parenti di quei poveri piccini ad esistere dalla querela già sporta la perizia medica risulta favorevole ora vostro figlio partirà per acireale il vecchio siroli che aveva ascoltato fin qui guardando in terra levò il capo per acireale signor sì il nostro vescovo si è messo d'accordo col vescovo di là d'accordo domandò nuovamente il vecchio d'accordo su che su sulla frittata per dio non capite esclamò quegli spazientito chiudono gli occhi insomma e non se ne parla più il vecchio strinse le pugna impallidì mormorò questo fa il vescovo questo è più rispose il campiere vostro figlio starà un anno o due ad acireale in espiazione finché qua non si parlerà più del fatto poi ritornerà e rievrà la messa non dubitate lui gridò allora il siroli accennando con la mano verso casa lui toccare ancora con quelle mani sporcate l'ostia consacrata il campiere scosse allegramente le spalle se monsignore perdona monsignore ma io no rispose pronto il vecchio indignato percotendosi il petto cavo con la mano deforme spalmata venite a vedere entrò nella stanza terrena corse al letto su cui il prete stava buttato nella stessa positura lo afferò per un braccio e lo tirò su con uno strappo violento va su porco spogliati il prete in mezzo alla stanza con la tonaca tutta rabuffata sull'eterga i fusoli delle gambe scoperti si nascose il volto tra le braccia alzate i tre fratelli e la madre rimasti seduti guardavano costernati ora Giovanni ora il padre che non avevano mai visto così il campiere assisteva alla scena dalla soglia va su e spogliati ripetè il vecchio e così dicendo lo cacciò a spintoni su per la scaletta di legno poi si voltò alla moglie che si inghiozzava forte e le impose di star zitta la vecchia d'un tratto soffocò ai singhiozzi chinando più volte il capo in segno d'obbedienza era la prima volta quella che il marito le parlava così a voce alta il campiere dalla soglia urtato scrollò alle spalle e borbotò ma perché vecchio stolido se tutto è accomodato voi silenzio gridò il vecchio muovendo l'incontro andrete a riferire a monsignore salì lentamente la scaletta di legno Giovanni lassù si era tolta la tonaca ed era rimasto in maniche di camicia col panciotto e i calzoni corti seduto presso il letto del padre subito si nascose il volto con le mani il vecchio stette a guardarlo un tratto poi gli ordinò strappati co testa fibbia dalla scarpa quello si chinò per obbedire il padre allora gli s'appressò gli vide la calotta ancora in capo gliela strappò insieme con un ciuffetto di capelli Giovanni balzò in piedi inferocito ma il vecchio alzando terribilmente una mano gli indicò la scala giù aspetta lì c'è una zappa e ti faccio grazia perché neanche di questo saresti più degno zappa nei tuoi fratelli e tu non puoi stare accanto a loro anche la tua fatica sarà maledetta da dio rimasto solo prese la tonaca la spazzolò la ripiegò diligentemente la baciò raccattò da terra la fibbia d'argento e la baciò la calotta e la baciò poi si recò ad aprire una vecchia e lunga cassapanca d'abete che pareva una bara dove erano religiosamente conservati gli abiti dei tre figliuoli morti e facendovi su con la mano il segno della croce vi conservò anche questi altri del figliuolo sacerdote morto richiuse la cassapanca vi si pose a sedere nascose il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto fine della novella alla zappa una voce dalla sesta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org registrazione di Isiron novelle per un anno di Luigi Pirandello una voce pochi giorni prima che morisse la Marchesa Borghi aveva voluto consultare più per scrupolo di coscienza che per altro anche il dottor Giugno Falci per il proprio figlio Silvio cieco da circa un anno lo aveva fatto visitare dai più illustri oculisti d'Italia e dell'estero e tutti le avevano detto che era afflitto d'un glaucoma irrimediabile il dottor Giugno Falci aveva vinto da poco per concorso il posto di direttore della clinica oftalmica ma sia per la sua aria stanca e sempre astratta sia per la figura sgraziata per quel suo modo di camminare tutto rilassato e dinoccolato con la grossa testa precocemente calva buttata indietro non riusciva a cattivarsi né la simpatia né la confidenza ad alcuno egli lo sapeva e pareva ne godesse rivolgeva agli scolari ai clienti domande curiose penetranti che aggelavano e sconcertavano e troppo chiaramente lasciava intendere il concetto che si era formato della vita così nudo di tutte quelle intime e quasi necessarie ipocrisie di quelle spontanee inevitabili illusioni che ciascuno senza volerlo si crea e si compone per un bisogno istintivo quasi di pudor sociale che la sua compagnia diveniva a lungo andare insopportabile invitato dalla Marchesa Borghi aveva esaminato a lungo attentamente gli occhi del giovine senza prestare ascolto almeno in apparenza a tutto ciò che la Marchesa intanto gli diceva intorno alla malattia ai giudizi degli altri medici a lievare cure tentate glaucoma? no non aveva creduto di riscontrare in quegli occhi i segni caratteristici di questa malattia il colore azzurrognolo o verdiccio dell'opacità eccetera eccetera gli era parso piuttosto che si trattasse di una rara e strana manifestazione di quel male che comunemente suol chiamarsi cateratta ma non aveva voluto manifestare così in prima alla madre il suo dubbio per non farle nascere di improvviso fosse anche una tenua speranza dissimulando il vivissimo interesse che quel caso strano gli destava le aveva invece manifestato il desiderio di tornare a visitare l'infermo fra qualche mese era infatti ritornato ma insolitamente per quella via nuova sempre deserta in fondo ai prati di castello dove sorgeva il bellino della marchesa borghi aveva trovato una frotta di curiosi davanti al cancello aperto la marchesa borghi era morta d'improvviso durante la notte che fare tornarsene indietro aveva pensato che se nella prima visita avesse manifestato il dubbio che il male di quel giovane non fosse a suo modo di vedere un vero e proprio glaucoma forse quella povera madre non sarebbe morta con la disperazione di lasciare il figlio irrimediabilmente a cieco ebbene se non gli era più dato di consolare con questa speranza la madre non avrebbe potuto almeno cercare con essa un gran conforto al povero superstite così tremendamente colpito da quella nuova improvvisa sciagura ed era assalito al villino dopo una lunga attesa fra il trambusto che vi regnava gli si era presentata una giovine vestita di nero bionda dall'aria rigida anzi severa la dama di compagnia della defunta marchesa il dottor Falci le aveva esposto il perché di quella visita che sarebbe stata altrimenti importuna a un certo punto con una lieve meraviglia che tradiva la diffidenza quella gli aveva domandato ma vanno dunque soggetti anche i giovani alla cataratta il Falci l'aveva guardata ad un tratto negli occhi poi con un sorriso ironico percettibile più nello sguardo che sulle labbra le aveva risposto e perché no moralmente sempre signorina quando si innamorano ma anche fisicamente purtroppo la signorina irrigidendosi di più aveva allora troncato il discorso dicendo che nelle condizioni in cui il marchese si trovava in quel momento non era proprio possibile parlargli di nulla ma che quando si fosse un po' quietato ella gli avrebbe detto di quella visita e certo egli lo avrebbe fatto chiamare erano trascorsi più di tre mesi il dottor giugno Falci non era stato richiamato veramente la prima visita aveva lasciato la marchesa defunta una pessima impressione del dottore la signorina Lidia Aventuri rimasta come governante elettrice del giovane marchese lo ricordava bene per istintivo malanimo contro quell'antipaticissimo dottore non considerava intanto se per avventura non sarebbe stata diversa quella impressione della marchesa ove Falci fin da principio le avesse fatto sperare non improbabile la guarigione del figlio per conto suo stimò da ciarlatano e peggio la seconda visita quel venire proprio nel giorno che la marchesa era morta a manifestare un dubbio ad accendere una speranza di quella sorta tanto più che il giovane marchese pareva ormai rassegnato alla sciagura mortagli così d'un tratto la madre oltre al buio della sua cecità un altro buio si era sentito addensare più dentro che attorno terribile di fronte al quale è vero tutti gli uomini sono ciechi ma da questo buio che abbia gli occhi sani può almeno distrarsi con la vista delle cose intorno egli no cieco per la vita cieco ora anche per la morte e in quest'altro buio più freddo e più tenebroso sua madre era scomparsa silenziosamente lasciandolo solo in un vuoto orrendo a un tratto non sapeva bene da chi una voce d'una dolcezza infinita era venuta lui come una luce suavissima e a questa voce tutta l'anima sua sperduta in quel vuoto orrendo s'era grappata non era altro che una voce per lui la signorina Lidia ma era pur colei che più di tutti negli ultimi mesi era stata vicina a sua madre e sua madre egli lo ricordava parlandogli di lei gli aveva detto che era buona e attenta di squisite maniere colta intelligente e tale egli ora la sperimentava nelle cure che aveva per lui nei conforti che gli dava Lidia fin dai primi giorni aveva sospettato che la Marchesa Borghi prendendola a suo servizio non avrebbe veduto male nel suo egoismo materno che il figlio infelice si fosse in qualche modo consolato con lei se n'era accervamente offesa e aveva costretto la sua naturale dolcezza a rigidirsi in un contegno addirittura severo ma dopo la sciagura quando egli tra il pianto disperato le aveva preso una mano e vi aveva appoggiato il bel volto pallido gemendo non mi lasci non mi lasci si era sentita vincere dalla compassione dalla tenerezza e si era dedicata a lui senza più sospetto presto con la timida ma ostinata e accorante curiosità dei ciechi egli si era messo a torturarla voleva vederla nel suo buio voleva che la voce di lei diventasse immagine dentro di sé furono dapprima domande vaghe brevi egli volle dirle come se la immaginava sentendola leggere o parlare bionda è vero si bionda era ma i capelli alquanto ruvidi e non molti contrastavano stranamente col colore un po' torbido della pelle come dirglielo e perché e gli occhi c'eroli sì c'eroli ma cupi dolenti troppo affossati sotto la fronte grave triste prominente come dirglielo e perché bella non era di volto ma di corpo elegantissima belle veramente belle aveva le mani e la voce la voce segnatamente d'una ineffabile sua vita in contrasto con l'aria cupa altera e dolente del volto ella sapeva come egli per la malia di questa voce e attraverso alle timide risposte che riceveva alle sue domande insistenti la vedeva e si sforzava davanti allo specchio di somigliare a quell'immagine fittizia di lei si sforzava di vedersi come egli nel suo buio la vedeva e la sua voce ormai per lei stessa non usciva più dalle sue proprie labbra ma da quelle che egli le immaginava e se rideva aveva subito l'impressione di non aver riso lei ma di aver piuttosto imitato un sorriso non suo il sorriso di quell'altra se stessa che viveva in lui tutto ciò le cagionava come un sordo tormento la sconvolgeva le pareva di non essere più lei di mancare man mano a sé medesima per la pietà che quel giovane le ispirava pietà soltanto? no era anche amore adesso non sapeva più ritrarre la mano dalla mano di lui scostare il volto dal volto di lui se egli la attirava troppo a sé no così no così no si dov'è presto ormai venire a una deliberazione che alla signorina Lidia costò una lunga lotta con sé stessa il giovane marchese non aveva parenti era padrone di sé e dunque di fare quel che gli pareva e piaceva ma non avrebbe detto la gente che l'approfittava della sciagura di lui per farsi sposare per diventare marchesa e ricca oh sì certamente questo e altro avrebbe detto ma tuttavia come rimanere più oltre in quella casa se non a questo patto e non sarebbe stata una crudeltà abbandonare quel cieco privarlo delle sue cure amorose per paura dell'altrui malignità era senza dubbio per lei una gran fortuna ma sentiva in coscienza di meritarsela perché ella lo amava anzi per lei la maggior fortuna era questa di poterlo amare apertamente di potersi dir sua tutta e per sempre di potersi consacrare a lui unicamente anima e corpo egli non si vedeva non vedeva altro entro di sé che la propria infelicità ma era pur bello tanto e delicato come una fanciulla e lei guardandolo beandosene senza che egli se ne accorgesse poteva pensare ecco sei tutto mio perché non ti vedi e non ti sai perché l'anima tua è come prigioniera della tua sventura e ha bisogno di me per vedere per sentire ma non bisognava prima condiscendendo alla voglia di lui confessargli che ella non era come egli se le immaginava non sarebbe stato il tacere un inganno da parte sua sì un inganno ma egli era pur cieco e per lui dunque poteva bastare un cuore come quello di lei devoto e ardente e l'illusione della bellezza brutta del resto non era e poi una bella veramente bella forse chissà avrebbe potuto ingannarlo ben altrimenti approfittando della sciagura di lui se veramente egli più che d'un bel volto che non avrebbe mai potuto vedere aveva bisogno d'un cuore innamorato dopo alcuni giorni di angosciosa perplessità le nozze furono stabilite si sarebbero fatte senza alcuna pompa presto appena aspirato il sesto mese di lutto per la madre ella aveva dunque davanti a sé circa un mese e mezzo di tempo per prepararlo corrente alla meglio furono giorni di intensa felicità le ore volavano fra gli elietissimi affrettate cure del nido e le carezze da cui ella si scioglieva un po' ebra con dolce violenza per salvare da quella libertà che la convivenza dava al loro amore qualche gioia la più forte per il giorno delle notte ci mancava ormai poco più di una settimana quando a Lidia fu annunziata improvvisamente una visita del dottor giugno falci di primo impeto fu per rispondere non sono in casa ma il cieco che aveva udito parlare sottovoce domandò chi è il dottor falci ripete il servo sai disse Lidia quel medico che la tua povera mamma fece chiamare pochi giorni prima della disgrazia ah sì esclamò il borghi sovvenendosi mi osservò a lungo a lungo ricordo bene e disse che voleva ritornare per aspetta lo interruppe subito Lidia agitatissima vado a sentire il dottor giugno falci stava in piedi in mezzo al salotto con la grossa testa calva rovesciata indietro gli occhi socchiusi e si stirava distrattamente con una mano la barbetta ispida sul mento si accomodi dottore disse la signorina Lidia entrata senza che egli se ne accorgesse il falci si scosse si inchinò e presa dire mi scuserà se ma ella turbata eccitata volle premettere lei finora veramente non era stato chiamato perché anche quest'altra mia visita è forse inopportuna disse il falci con lieve sorriso sarcastico sulle labbra ma lei mi perdonerà signorina no perché anzi fece Lidia arrossendo lei non sa riprese il falci l'interesse che a un pover'uomo che si occupa di scienza possono destare certi casi di malattia ma io voglio dirle la verità signorina mi ero dimenticato di questo caso quantunque a parer mio molto raro e strano ieri però chiacchierando del più e del meno con alcuni amici ho saputo del prossimo matrimonio del marchese Borghi con lei signorina è vero Lidia impallidì e affermò alteramente col capo permetta che io me ne congratuli soggiunse il falci ma guardi allora tutta un tratto mi sono ricordato mi sono ricordato della diagnosi di glaucoma fatta da tanti illustri miei colleghi se non mi inganno diagnosi spiegabilissima in principio non creda io sono sicuro infatti che se la signora marchesa avesse fatto visitare il figliuolo da questi miei colleghi nel tempo che lo visitai io anch'essi avrebbero detto facilmente che di glaucoma vero e proprio non era più il caso di parlare basta mi sono ricordato anche della mia seconda visita disgraziatissima e ho pensato che lei signorina da prima nello scompiglio cagionato dall'improvvisa morte della marchesa poi nella gioia di questo avvenimento si era di certo dimenticata è vero dimenticata no negò con durezza Lidia a questo punto ribellandosi alla tortura che il lungo discorso avvelenato del dottore le infliggeva ah no fece il falci no ripetella con accigliata fermezza io ho ricordato piuttosto la poca per non dire nessuna fiducia scusi che ebbe la marchesa anche dopo la sua visita sulla guarigione del figlio ma io non dissi alla marchesa ribatté pronto il falci che la malattia del figlio a mio modo di vedere è vero lei lo disse a me troncò Lidia di nuovo ma anch'io come la marchesa poca anzi nessuna fiducia è vero non importa interruppe a sua volta il falci ma lei non riferì intanto al signor marchese la mia venuta e la ragione sul momento no e poi neppure perché il dottor falci alzò una mano comprendo nato l'amore ma lei signorina mi perdoni si dice è vero che l'amore è cieco lei però lo desidera cieco proprio fino a questo punto l'amore del signor marchese cieco anche materialmente Lidia sentì che contro la sicura freddezza mordace di quell'uomo non bastava il contegno altero in cui man mano per difendere la sua dignità da un sospetto odioso si interiva vi più tuttavia si sforzò di contenersi ancora e domandò con apparente calma lei insiste nel ritenere che il marchese possa con l'aiuto di lei riacquistare la vista piano signorina rispose il falci alzando un'altra volta la mano non sono come il signor iddio ogni possente ho esaminato una volta sola gli occhi del signor marchese e mi è parso di dover escludere assolutamente che si tratti di glaucoma ecco questo che può essere un dubbio che può essere una speranza mi pare che dovrebbe bastarle se veramente come io credo le sta a cuore il bene del suo fidanzato e se il dubbio si affrettò a replicare Lidia con aria di sfida dopo la sua visita non potesse più sostistere se la speranza restasse delusa non avrà lei inutilmente crudelmente ora turbata un'anima che si è già rassegnata no signorina rispose con dura e seria calma il falci tanto vero che io ho stimato mio dovere di medico venire senza invito perché qua lo sappia io credo di trovarmi non solo di fronte a un caso di malattia ma anche di fronte a un caso di coscienza più grave lei sospetta si provò a interromperlo Lidia ma il falci non le diede il tempo di proseguire lei stessa seguitò ha detto orora di aver taciuto al marchese la mia venuta con una scusa che io non posso accettare non perché m'offenda ma perché la fiducia o la sfiducia verso me non doveva essere sua se mai ma del marchese guardi signorina sarà anche puntiglio da parte mia non nego le dico anzi che io non prenderò nulla dal marchese se egli verrà nella mia clinica dove avrà tutte le cure e l'aiuto che la scienza può prestargli disinteressatamente dopo questa dichiarazione sarà troppo chiederle che l'annunzi al signor marchese la mia visita Lidia si levò in piedi aspetti disse allora il falci levandosi anche lui e riprendendo la sua aria consueta la avverto che io non dirò affatto al marchese d'essere venuto quella volta dirò anzi se vuole che lei premurosamente mi ha fatto chiamare prima delle nozze Lidia lo guardò fieramente negli occhi lei dirà la verità anzi la dirò io di non aver creduto in me precisamente il falci si strinse nelle spalle sorrise potrebbe nuocerle e io non vorrei se lei anzi volesse rimandare la visita a dopo le nozze guardi io sarei anche disposto a ritornare no fece più col gesto che con la voce Lidia soffocata dall'orgasmo avvampata in volto dall'onta che quella apparente generosità del medico le cagionava e con la mano gli feceno di passare Silvio Borghi attendeva impaziente nella sua camera ecco qua il dottor falci Silvio disse Lidia entrando con Bursa abbiamo chiarito di là un equivoco tu ricordi che il dottore nella sua prima visita disse che voleva ritornare è vero si rispose il Borghi ricordo benissimo dottore non sai ancora riprese Lidia che egli di fatti ritornò la stessa mattina che avvenne la disgrazia di tua madre e parlò con me e mi disse di ritenere che il tuo male non fosse propriamente quello che tanti altri medici avevano dichiarato e non improbabile perciò secondo lui la tua guarigione io non te ne dissi nulla perché la signorina Badi si affrettò a soggiungere il dottor falci trattandosi di un dubbio espresso da me in quel momento in termini molto vaghi lo considerò piuttosto come un conforto che io volessi apprestare e non vi diede molto peso questo è ciò che ho detto io non quel che pensa lei rispose Lidia pronta e fiera il dottor falci Silvio ha sospettato ciò che del resto è vero che io cioè non ti dissi nulla della sua seconda visita ed è voluto venire lui spontaneamente prima delle nozze per prestarti le sue cure senza alcun compenso ora puoi credere con lui Silvio che io volessi lasciarti cieco per farmi sposare da te che dici Lidia scattò il cieco ma sì riprese ella subito con uno strano riso e può essere vero anche questo perché difatti a questo solo patto io potrei diventare la tua che dici ripetè il borghi interrompendola te ne accorgerai Silvio se il dottor falci riuscirà a ridarti la vista io vi lascio Lidia Lidia chiamò il borghi ma ella era già uscita tirando l'uscia a sé con violenza andò a buttarsi sul letto morse rabbiosamente il guanciale e ruppe dapprima in singhiozzi irrefrenabili ceduta alla prima furia del pianto rimase attonita e come era capricciata di fronte alla propria coscienza le parve che tutto ciò che il medico le aveva detto con quel suo fare freddo e mordace da molto tempo lei lo avesse detto a se stessa o meglio che qualcuno in lei lo avesse detto e lei aveva finto di non udire sì sempre sempre si era ricordata del dottor Falci e ogni qual volta l'immagine di lui le si era affacciata alla mente come il fantasma d'un rimorso ella l'aveva respinta con un'ingiuria giarlatano perché come negarlo più ormai ella voleva voleva proprio che il suo Silvio rimanesse cieco la cecità di lui era la condizione imprescindibile del suo amore che se egli domani avesse riacquistato la vista bello com'era giovane ricco signore perché avrebbe sposato lei per gratitudine per pietà ah non per altro e dunque no no seppure seppure egli avesse voluto lei no come avrebbe potuto accettare lei che lo amava e non lo voleva per altro lei che nella sventura di lui vedeva la ragione del suo amore e quasi la scusa di fronte alla malignità altrui e si può dunque transigere così inavvertitamente con la propria coscienza fino a commettere un delitto fino a fondare la propria felicità sulla sciagura di un altro ella si veramente non aveva allora creduto che colui quel suo nemico potesse fare il miracolo di ridare la vista al suo silvio non lo credeva neanche adesso ma perché aveva taciuto proprio perché non aveva creduto di prestare fiducia a quel medico o non piuttosto perché il dubbio che il medico aveva espresso e che sarebbe stato per Silvio come una luce di speranza sarebbe stato invece per lei la morte la morte del suo amore se poi si fosse affermato per ora ella poteva credere che il suo amore sarebbe bastato a compensare quel cieco della vista perduta credere che seppure egli per un miracolo avesse ora riacquistato la vista né questo bene sommo né tutti i piaceri che avrebbe potuto pagarsi con la sua ricchezza nell'amore d'alcun'altra donna avrebbero potuto compensarlo della perdita dell'amore di lei ma queste erano ragioni per sé non per lui se ella fosse andata a dirgli Silvio tu devi scegliere fra il bene della vista e il mio amore e perché tu vuoi lasciarmi cieco avrebbe egli certamente risposto ma perché così soltanto cioè a patto della sciagura di lui era possibile la sua felicità si levò in piedi improvvisamente come per un subito richiamo durava ancora la visita di là che diceva il medico che pensava egli ebbe la tentazione di andare in punta di piedi a origliare dietro quell'uscio che la stessa aveva chiuso ma si trattenne ecco dietro l'uscio era rimasta lei stessa con le sue mani se l'era chiuso per sempre ma poteva forse accettare le velenose profferte di colui era arrivato fin anche a proporle di rimandare la visita a dopo le nozze se ella avesse accettato no no si strinse tutta in sé dal ribrezzo dalla nausea che mercato infame sarebbe stato il più laido degli inganni e poi disprezzo e non più amore sentì schiudere l'uscio ebbe un sussulto corse istintivamente al corridoio per cui il falci doveva passare ho rimediato signorina alla sua soverchia franchezza disse egli freddamente io mi sono raffermato nella mia diagnosi il marchese verrà domattina nella mia clinica vada vada intanto da lui che l'aspetta arrivederla comagnentata vuota lo seguì con gli occhi fino all'uscio in fondo al corridoio poi udì la voce di Silvio che la chiamava di là si sentì tutta rimescolare ebbe come una vertigine fu per cadere si recò le mani al volto per frenare le lacrime accorse egli la tendeva seduto con le braccia aperte la strinse forte forte a sé gridando la sua felicità e che per lei soltanto voleva riacquistare la vista per vedere la sua cara la sua bella la sua dolce sposa piangi perché ma piango anch'io vedi ah che gioia ti vedrò ti vedrò io vedrò era ogni parola per lei una morte tanto che egli pur nella gioia intese che il pianto di lei non era come suo e prese allora a dirle che certo o ma certo neanche lui in un giorno come quello avrebbe creduto alle parole del medico e dunque via basta ora che andava più pensando era giorno di festa quello via tutte le afflizioni via tutti i pensieri tranne uno questo che la sua felicità sarebbe stata intera ormai perché egli avrebbe veduto la sua sposa ora e l'avrebbe avuto più agio più tempo di preparare il nido e doveva essere bello come un sogno questo nido che egli avrebbe veduto per prima cosa sì prometteva che sarebbe uscito con gli occhi bendati dalla clinica e che li avrebbe aperti lì per la prima volta lì nel suo nido parlami parlami non lasciar parlare me solo ti stanchi? no chiedimi di nuovo ti stanchi? con questa tua voce lasciamela baciare qui sulle tue labbra questa tua voce sì e parla ora dimmi come me lo preparerai il nido come? sì io non t'ho domandato nulla finora ma no non voglio saper nulla neanche adesso farai tu sarà per me uno stupore un incanto ma io non vedrò nulla da prima te sola ella risolutamente soffocò il pianto disperato si larò tutta in volto e lì inginocchiata innanzi a lui con lui curvo su lei abbracciato cominciò a parlargli del suo amore quasi all'orecchio con quella sua voce più che mai dolce e magliosa ma quando egli ebbro la strinse e minacciò di non lasciarla più in quel momento ella si sciosse si rizzò fiera come d'una vittoria di fronte a se stessa ecco avrebbe potuto anche ora legarlo a sé indissolubilmente ma no perché ella lo amava tutto quel giorno fino a tardanotte lo inebriò della sua voce sicura perché egli era ancora nel buio la suo nel buio in cui già fiammeggiava la speranza bella come l'immagine che egli si era finto di lei la mattina seguente volle accompagnarlo in vettura fino alla clinica e nel lasciarlo gli disse che si sarebbe messa subito all'opera come una rondine frettolosa vedrai attese due giorni in un'ansia terribile l'esito dell'operazione quando lo seppe felice attese ancora un po' nella casa vuota gliela preparò amorosamente mandando a dire a lui che esultante la voleva lì anche per un minuto che avesse pazienza ancora per qualche giorno non accorreva per non agitarlo il medico non permetteva si ebbene allora sarebbe venuta raccolse le sue robe e il giorno prima che egli lasciasse la casa di salute se ne partì ignorata per rimanere almeno nella memoria di lui una voce che egli forse uscito ora dal suo buio avrebbe cercata su molte labbra in vano fine della novella una voce grazie a tutti